I grandi insegnanti del mondo. Shakespeare Club, Pasadena, California, 3 febbraio 1900. L'universo, secondo la teoria dell'Hindu, si sta muovendo in cicli a forma di onde. Si solleva, raggiunge il suo zenith, poi cade e resta nell'abisso, come dire, per qualche tempo, e poi si solleva ancora una volta e così via, in onda dopo onda e caduta dopo caduta. Quello che è vero dell'universo è vero di ogni sua parte. La marcia degli affari umani è simile. La storia delle nazioni è simile. Salgono e scendono. Dopo la salita viene la discesa e di nuovo un'altra salita con maggior potere. Questo moto continua sempre. Nel mondo religioso esiste lo stesso movimento. Nella vita spirituale di ogni nazione c'è una caduta e una risalita. La nazione scende e tutto sembra andare in pezzi. Poi di nuovo acquista forza e si solleva. Giunge una vasta onda, a volte un'onda di marea, e sempre sulla cresta dell'onda c'è un'anima che splende, il messaggero. Creatore e creato, volta a volta, è l'impeto che fa salire l'onda, che fa salire la nazione. Allo stesso tempo è creato dalle stesse forze che fanno l'onda, che agiscono e interagiscono a vicenda. Riversa il suo potere tremendo sulla società, e la società lo rende quello che è. Sono i grandi pensatori mondiali. Questi sono i profeti del mondo, i messaggeri di vita, le incarnazioni di Dio. L'uomo ha l'idea che possa esserci una sola religione, che possa esserci solo un profeta, e che ci possa essere solo un'incarnazione, ma questa idea non è vera. Studiando le vite di tutti questi grandi messaggeri, scopriamo che ognuno, diciamo, era destinato a giocare un ruolo e un ruolo solo, che l'armonia consiste nella somma totale e non in una sola nota. Così come nella vita delle razze, nessuna razza è nata per godere da sola del mondo. Ogni razza ha un ruolo da giocare in questa divina armonia di nazioni. Ogni razza ha la sua missione da effettuare, il suo dovere da ricoprire. La somma totale è la grande armonia. Così nessuno di questi profeti è nato per governare il mondo per sempre. Nessuno è ancora riuscito e nessuno sarà il governatore per sempre. Ognuno contribuisce solo per una parte, e in quanto a quella parte è vero che nella lunga distanza ogni profeta governerà il mondo e i suoi destini. La maggior parte di noi sono nati credenti in una religione personale. Parliamo di principi, pensiamo a teorie e va tutto bene, ma ogni pensiero e ogni movimento, ogni nostra azione, mostra che possiamo capire il principio solo quando ci giunge attraverso una persona. Possiamo afferrare un'idea solo quando ci giunge attraverso una persona ideale materializzata. Possiamo capire il precetto solo attraverso l'esempio. Volesse Dio che tutti noi fossimo così evoluti da non richiedere nessun esempio, da non richiedere nessuna persona, ma non lo siamo e naturalmente la grande maggioranza dell'umanità ha messo le loro anime ai piedi di queste personalità straordinarie, i profeti, le incarnazioni di Dio, incarnazioni venerate dai cristiani, dai buddhisti e dagli hindù. I musulmani fin dall'inizio sono stati contrari a queste venerazioni. Non volevano avere niente a che fare con la venerazione dei profeti o dei messaggeri o col render loro omaggio, ma in pratica, invece di un profeta, migliaia su migliaia di santi venivano venerati. Non possiamo opporci ai fatti, siamo destinati a venerare personalità, e va bene. Ricordate quella parola del vostro grande profeta, Signore mostraci il Padre. Colui che ha visto me ha visto il Padre. Possiamo vederlo solo attraverso l'umanità. La vibrazione della luce è ovunque in questa stanza, perché non possiamo vederla ovunque? Dovete vederla solo in quella lampada. Dio è un principio onnipresente, ovunque, ma siamo costituiti in tal modo attualmente che possiamo vederlo, sentirlo, solo attraverso un Dio umano. E quando vengono queste grandi luci, allora l'uomo realizza Dio. E vengono in modo diverso da come veniamo noi. Noi veniamo come mendicanti, essi vengono come imperatori. Noi veniamo qui come orfani, come persone che hanno perso la via e non la ritrovano. Cosa dobbiamo fare? Non sappiamo qual è il significato delle nostre vite. Non possiamo realizzarlo. Oggi facciamo una cosa, domani un'altra. Siamo delle pagliuzze che vengono portate qua e là dall'acqua, come piume in un uragano. Ma nella storia dell'umanità scoprirete che vengono questi messaggeri e che fin dalla nascita la loro missione è decisa. Tutto il progetto è là, definito. E vedete che non se ne allontanano di un pollice. Poiché vengono con una missione, vengono con un messaggio, non vogliono ragionare. Avete mai letto o sentito di questi grandi maestri o profeti che ragionano su quello che insegnano? No, nessuno di loro. Parlano direttamente. Perché dovrebbero ragionare? Vedono la verità. E non solo la vedono, ma la mostrano. Se mi chiedete c'è un Dio e io dico sì, voi immediatamente mi chiedete su che base lo dico. E io, poveretto, devo esercitare tutti i miei poteri per darvene una qualche ragione. Se foste andati da Cristo e aveste detto c'è un Dio, Egli avrebbe risposto sì. E se aveste chiesto c'è qualche prova, Egli avrebbe replicato. Guardate il Signore. E così, vedete, è una percezione diretta e non un ragionamento. Non c'è l'andare a tentoni nel buio, ma c'è la forza della visione diretta. Io vedo questa tavola, nessun ragionamento può togliermene la fede. È una percezione diretta. Tale è la loro fede. Fede nei loro ideali, fede nella loro missione, fede in se stessi sopra ogni altra cosa. Le grandi luci credono in se stessi come nessun altro. La gente dice, credi in Dio? Credi in una vita futura? Credi in questa dottrina o in questo dogma? Ma manca la base, questo credere in se stessi. Già l'uomo che non può credere in se stesso, come può aspettarsi di credere in qualcos'altro? Io non sono sicuro della mia stessa esistenza. Un momento penso di esistere e che niente possa distruggermi. Il momento dopo tremo per la paura della morte. Un momento penso di essere immortale. Un attimo dopo appare qualcosa di spaventoso e non so cosa sono né dove sono. Non so se sono vivo o morto. Un momento penso di essere spirituale, di essere morale, e il momento dopo arriva un colpo e mi ritrovo a terra. E perché? Ho perso la fede in me stesso, la mia spina dorsale morale è spezzata. Ma in questi grandi insegnanti troverete sempre questo segno, che hanno un'intensa fede in loro stessi. Una tale intensa fede è unica e non possiamo capirla. Ecco perché cerchiamo di spiegare in vari modi quello che questi maestri dicono di loro stessi e le persone inventano ventimila teorie per spiegare cosa dicono della loro realizzazione. Noi non pensiamo a noi stessi nello stesso modo e naturalmente non possiamo capirli. E ancora, quando parlano il mondo è costretto ad ascoltare. Quando parlano ogni parola è diretta, scoppia come una granata. Cosa c'è in quella parola se non il potere che ha dietro? Che importa in quale lingua parlate e come organizzate il vostro linguaggio? Che importa se parlate una grammatica corretta o se siete un fine retore? Che importa se il vostro linguaggio è ornato o meno? La questione è se avete o meno qualcosa da dare. È una questione di dare e prendere e non di ascoltare. Avete qualcosa da dare? Questa è la prima domanda. Se l'avete allora date. Le parole devono solo trasmettere il dono. È solo uno dei molti modi. A volte non parliamo affatto. C'è un vecchio verso sanscrito che dice Ho visto il maestro seduto sotto un albero. Era un giovane di 16 anni e il discepolo era un vecchio di 80. La predicazione del maestro era silenzio e i dubbi del discepolo svanirono. A volte non parlano affatto ma trasmettono la verità da mente a mente. Vengono per dare. Ordinano. Sono i messaggeri. Dovete ricevere l'ordine. Non ricordate nelle vostre scritture l'autorità con cui parla Gesù? Andate e insegnate a tutti i popoli. Insegnate loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato. In ogni sua parola scorre quella tremenda fede nel suo messaggio. Questo lo trovate nella vita di tutti questi grandi giganti che il mondo venera come suoi profeti. Questi grandi maestri sono gli dei viventi su questa terra. Chi altro dovremmo venerare? Cerco di farmi un'idea di Dio nella mia mente e trovo che concepisco una falsa piccola cosa. Sarebbe un peccato venerare quel Dio. Apro gli occhi e guardo la vita reale di questi grandi della terra. Sono superiori a qualsiasi concetto di Dio che io possa mai formarmi. Perché quale concetto di misericordia potrebbe formarsi un uomo come me che rincorre un uomo che gli ruba qualcosa per mandarlo in prigione? E quale può essere la mia massima idea di perdono? Niente oltre me stesso. Chi di voi può saltar fuori dal proprio corpo? Chi di voi può saltar fuori dalla propria mente? Nessuno di voi. Che idea dell'amore divino potete formarvi eccetto quello che vivete attualmente? Non possiamo farci nessuna idea di quello che non abbiamo sperimentato. Perciò ho tutti i miei migliori tentativi di formarmi un'idea di Dio fallirebbero in ogni caso. Ed ecco i nudi fatti. E non è idealismo. Fatti concreti di amore, di misericordia, di purezza, di cui non ho nessuna idea. C'è da stupirsi allora se cado ai piedi di questi uomini e li venero come fossero Dio? E cos'altro potremmo fare? Mi piacerebbe vedere l'uomo che può fare qualche altra cosa per quanto possa parlare. Parlare di Dio e dell'impersonale, di questo e di quello va benissimo, ma questi uomini dei sono i reali dei di tutte le nazioni e le razze. Questi uomini divini sono stati venerati e saranno venerati finché l'uomo è uomo. In loro è la nostra fede, in loro la nostra speranza di una realtà. A che serve un semplice principio mistico? Lo scopo e l'intento di quello che devo dirvi è questo, che ho trovato possibile nella mia vita a venerare tutti loro ed essere pronto per tutti quelli che ancora devono venire. Una madre riconosce suo figlio per quanto diversa sia la veste che indossa e se non lo riconosce sono certo che non sia la madre di quell'uomo. Ora, per quello che riguarda quelli di voi che pensano che comprendete la verità e la divinità e Dio solo in un profeta del mondo e non in altri, naturalmente la conclusione che traggo è che non capite la divinità in nessuno, avete semplicemente inghiottito parole e vi siete identificati con una setta, proprio come fareste con partiti politici in questioni di opinione. Ma questa non è affatto religione. Ci sono alcuni sciocchi nel mondo che usano l'acqua salmastra anche se c'è un'eccellente acqua dolce a portata perché dicono l'acqua salmastra è nel pozzo scavato dal loro padre. Ora, nella mia piccola esperienza, ho acquisito questa conoscenza che per tutte le diavolerie di cui viene incolpata la religione, la religione non ha affatto colpa. Nessuna religione ha mai perseguitato gli uomini, nessuna religione ha mai bruciato le streghe, nessuna religione ha mai fatto niente di tutto questo. Cos'è allora che ha incitato gli uomini a fare tutto questo? La politica, mai la religione. E se quei politici hanno preso il nome di religione, di chi è stata la colpa? Perciò quando un uomo si alza e dice il mio profeta è l'unico vero profeta, non ha ragione, non conosce l'alfa della religione. La religione non è discorsi né teoria né assenso intellettuale, è la realizzazione nel profondo del cuore, è toccare Dio, è sentire, realizzare che io sono uno spirito in relazione allo spirito universale e a tutte le sue grandi manifestazioni. Se siete realmente entrati nella casa del padre, come potete aver visto i suoi figli e non riconoscerli. E se non li riconoscete non siete entrati nella casa del padre, la madre riconosce suo figlio qualsiasi veste indossi, lo riconosce anche se travestito. Riconoscete tutti i grandi uomini e donne spirituali in ogni epoca e paese e vedrete che non sono realmente differenti l'uno dall'altro. Dovunque ci sia stata una vera religione, questo tocco del divino, l'anima che giunge in diretto contatto sensoriale col divino, c'è sempre stato un ampliamento della mente che le permette di vedere la luce ovunque. Ora alcuni musulmani sono i più rudi sotto questo aspetto e i più settari. La loro parola d'ordine è c'è un solo Dio e Maometto è il suo profeta. Tutto ciò che è diverso da questo non solo è cattivo ma deve essere distrutto, senza neanche preavviso ogni uomo, donna che non crede esattamente in questo, deve essere ucciso. Tutto quello che non appartiene a questa devozione deve essere immediatamente distrutto. Ogni libro che insegna altro deve essere bruciato. Dal Pacifico all'Atlantico per 500 anni è scorso il sangue nel mondo. Questo è l'islamismo. Tuttavia fra questi musulmani, ovunque ci sia stato un filosofo, ha certamente protestato contro queste crudeltà. In quello ha mostrato il tocco del divino e ha realizzato un frammento della verità. Non stava giocando con la sua religione. Non era la religione di suo padre quella di cui stava parlando, ma diceva la verità direttamente come un uomo. Fianco a fianco con la moderna teoria dell'evoluzione c'è un'altra cosa, l'Atavismo. C'è una tendenza in noi a ritornare alle vecchie idee nella religione. Su, pensiamo qualcosa di nuovo anche se è sbagliato. È meglio far così. Perché non provare a colpire il bersaglio? Diventiamo più saggi attraverso gli errori. Il tempo è infinito. Guardate il muro. Il muro mente mai? È sempre il muro. L'uomo mente, ma diviene anche un dio. È meglio fare qualcosa, non preoccuparti se si rivela sbagliata. È meglio che non far niente. La mucca non mente mai, ma resta una mucca per tutto il tempo. Fai qualcosa, pensa qualcosa, non importa se hai ragione o no, ma pensa qualcosa. Poiché i miei padri non pensavano in questo modo, devo sedermi quietamente e gradualmente perdere le mie facoltà pensanti? Potrei allora essere morto. E di che valore è la vita se non abbiamo idee viventi, nessuna convinzione nostra sulla religione? C'è qualche speranza per gli atei perché, anche se differiscono da altri, pensano con la loro testa. Le persone che non pensano niente da sole non sono ancora nata nel mondo della religione, hanno un'esistenza da meduse, non pensano, non si curano della religione. Ma i dubbiosi, gli atei, si curano della religione e lottano. Dunque pensate qualcosa, lottate verso Dio. Non importa se fallite, non importa se assumete una strana teoria, se avete paura di essere chiamati strani, non ditela a nessuno, non dovete andare in giro a predicarla ad altri. Ma fate qualcosa, lottate verso Dio, la luce deve venire. Se un uomo mi nutre per ogni giorno della mia vita, alla lunga perderò l'uso delle mani. La morte spirituale è il risultato del seguire gli altri come in un greggio di pecore. La morte è il risultato dell'inazione. Siate attivi e ogni volta che c'è attività ci deve essere differenza. La differenza è il sale della vita, è la bellezza, è l'arte, è tutta la differenza che rende tutto bello qui. È la varietà che è la fonte della vita, il segno della vita. Perché dovremmo temerla? Ora stiamo arrivando ad una posizione in cui capire qualcosa sui profeti. Ora vediamo che l'evidenza storica è, a parte nell'esistenza da Medusa della religione, che ovunque ci sia stato un reale pensiero, un reale amore per Dio, l'anima è cresciuta in direzione di Dio e ha ottenuto, diciamo, un barlume qua e là. Ha avuto una percezione diretta anche solo per un secondo, anche solo una volta nella vita. Immediatamente tutti i dubbi svaniscono per sempre e tutta la tortuosità del cuore viene raddrizzata e tutti i legami svaniscono e i risultati dell'azione del karma fuggono quando viene visto colui che è più vicino del vicino e più lontano del lontano. Quella è religione, quella è tutto della religione, il resto è semplice teoria, dogma, tanti modi di andare in quello stato della percezione diretta. Ora state litigandovi il cesto e i frutti sono caduti nel fosso. Se due uomini discutono di religione, ponete loro la domanda, avete visto Dio? Avete visto queste cose? Un uomo dice che Cristo è il solo profeta. Ebbene, ha visto Cristo? Tuo padre l'ha visto? No, signore. Allora di che cosa discutete? I frutti sono caduti nel fosso e voi state litigandovi il cesto. Uomini e donne assennati dovrebbero vergognarsi di discutere in quel modo. Questi grandi messaggeri e profeti sono grandi e veri. Perché? Perché ognuno di loro è venuto per predicare una grande idea. Prendete i profeti dell'India, per esempio, sono i più antichi fondatori di religione. Prendiamo per primo Krishna. Voi che avete letto la Gita, vedete che in tutto il libro c'è la sola idea del non attaccamento. Restate non attaccati. L'amore del cuore è dovuto solo ad uno. A chi? A colui che mai cambia. Chi è quell'uno? È Dio. Non fate l'errore di dare il cuore a qualsiasi cosa che cambi, perché quella è infelicità. Potete darlo ad un uomo, ma se muore ne risulta l'infelicità. Potete darlo ad un amico, ma domani può diventare il vostro nemico. Se lo date a vostro marito, un giorno può litigare con voi. Potete darlo a vostra moglie, ma lei può morire dopo domani. Ora così va il mondo, così dice Krishna nella Gita. Il Signore è il solo che mai cambia. Il suo amore non cade mai. Ovunque siamo e qualsiasi cosa facciamo. Egli è sempre lo stesso cuore misericordioso e amante. Non cambia mai. Non è mai arrabbiato qualsiasi cosa facciamo. Come può Dio adirarsi con noi? Il vostro bambino fa dei danni. Vi arrabbiate con quel bambino? Forse Dio non sa cosa saremo? Lui sa che saremo tutti perfetti prima o poi. Ha pazienza, infinita pazienza. Dobbiamo amare Lui ed ogni cosa che vive, solo attraverso Lui. Questa è la nota chiave. Dovete amare la moglie, ma non per amore della moglie. Mai ho amato il marito viene amato perché è il marito, ma perché il Signore è nel marito. La filosofia vedanta dice che anche nell'amore tra marito e moglie, anche se la moglie pensa che sta amando suo marito, la reale attrazione è il Signore che è presente là. Egli è l'unica attrazione, non ce ne sono altre. Ma la moglie, in gran parte dei casi, non sa che è così. Ignorantemente sta facendo la cosa giusta, che è amare il Signore. Solo che quando uno lo fa ignorantemente può causarsi dolore. Se uno lo fa coscientemente, quella è salvezza. Ecco cosa dicono le nostre scritture. Ovunque ci sia amore, ovunque ci sia una scintilla di gioia, sappi che quella è una scintilla della sua presenza, perché Egli è gioia, benedizione e amore. Senza Lui non può esserci nessun amore. Questa è la tendenza dell'istruzione di Krishna per tutto il tempo. L'ha impiantata nella sua razza, cosicché quando un hindu fa qualcosa, anche se beve dell'acqua, dice, se c'è virtù in questo, che vada al Signore. Il buddista dice, se fa qualche buona azione, che il merito della buona azione appartenga al mondo. Se c'è qualche virtù in quello che faccio, che vada al mondo e che i mali del mondo vengano a me. L'indu dice di essere un grande credente in Dio. L'indu dice che Dio è onnipotente e che è l'anima di ogni animo ovunque. L'indu dice, se do tutte le mie virtù a Lui, è il maggiore sacrificio e andranno all'intero universo. Ora questa è una fase. E qual è l'altro messaggio di Krishna? Chiunque vive nel mondo e rinuncia ai frutti della sua azione, dandogli al Signore, non viene mai toccato dai mali del mondo. Proprio come il loto nato sott'acqua si alza e fiorisce sopra l'acqua, così è l'uomo che è impegnato nelle attività del mondo, che rinuncia ai frutti delle sue attività, dandogli al Signore. Gita 5.10. Krishna batte un altro tasto insegnando intensa attività. Lavora, lavora, lavora notte e giorno, dice la Gita. Potete chiedere, e allora dov'è la pace? E se per tutta la vita devo lavorare come un cavallo da traino e morire con morso e briglie, per cosa sono qui? Krishna dice. Sì, troverai pace. Fuggire dal lavoro non è mai la via per trovare pace. Getta via i tuoi doveri, se puoi, e vai in cima ad una montagna. Anche là la mente gira, gira, gira. Qualcuno chiese ad un sanyasin. Signore, avete trovato un buon posto? Quanti anni avete viaggiato sull'Himalaya? Quarant'anni, replicò il sanyasi. Ci sono molti bei luoghi tra cui scegliere e per sistemarsi. Perché non lo avete fatto? Perché per questi quarant'anni la mia mente non me lo ha permesso. Diciamo tutti troviamo la pace, ma la mente non ce lo permetterà. Conoscete la storia dell'uomo che catturò un tartaro? Un soldato era fuori città e gridò quando si avvicinò al campo. Ho catturato un tartaro! Una voce gridò. Portalo dentro. Non vuole entrare, signore. Allora entra tu. Non vuole lasciarmi entrare, signore. Così in questa nostra mente noi abbiamo catturato un tartaro. Ne possiamo calmarla, ne lei lascia calmare noi. Abbiamo tutti catturato dei tartari. Diciamo tutti stai quieta, stai in pace e così via, ma ogni bambino lo può dire e pensare di poterlo fare. Tuttavia è molto difficile. Io ho provato. Ho gettato fuori bordo ogni mio dovere e sono fuggito in cima alle montagne. Ho vissuto in grotte e fitte foreste, ma ugualmente ho catturato un tartaro, perché avevo il mio mondo con me tutto il tempo. Il tartaro è quello che ho in mente, perciò non dobbiamo biasimare le povere persone fuori. Queste circostanze sono buone e queste sono cattive, diciamo così, mentre il tartaro è qui, dentro. Se riusciremo a calmarlo saremo a posto. Perciò Krishna ci insegna a non scansare i nostri doveri, ma ad assumerli virilmente e a non pensare al risultato. Il servo non ha diritto di questionare, il soldato non ha diritto di ragionare. Andate avanti e non prestate troppa attenzione alla natura del lavoro che avete da fare. Chiedete alla vostra mente se siete liberi da egoismo. Se lo siete non badate a niente, niente può resistervi. Tuffatevi, fate il dovere immediato. E quando avete fatto questo gradualmente realizzerete la verità. Chi nell'intensa attività trova intensa pace, chi nella massima pace trova la massima attività, colui è uno yogi, è una grande anima, è arrivato alla perfezione. Ora vedete che il risultato di questo insegnamento è che tutti i doveri del mondo sono santificati. Non c'è dovere in questo mondo che abbiamo il diritto di definire meschino. E il lavoro di ogni uomo è buono come quello dell'imperatore sul suo trono. Ascoltate il messaggio di Buddha, un messaggio tremendo, ha un posto nel nostro cuore. Dice Buddha, sradicate l'egoismo e tutto quello che vi rende egoisti. Non abbiate né mogli né figli né famiglia, non siate del mondo, divenite perfettamente privi di egoismo. Un uomo di mondo pensa che sarà privo di egoismo, ma quando guarda la faccia di sua moglie questo lo rende egoista. La madre pensa di essere perfettamente priva di egoismo, ma poi guarda il suo bambino e immediatamente arriva l'egoismo. Ed è così con tutto in questo mondo. Non appena nascono desideri egoisti, non appena viene perseguito qualche scopo egoista, immediatamente l'uomo intero, l'uomo reale, non c'è più. È come una bestia, è uno schiavo, dimentica i suoi simili, non dice più prima tu e poi io, ma prima io e che gli altri pensino a se stessi. Vediamo che anche il messaggio di Krishna ha un posto in noi. Senza quel messaggio non possiamo muoverci, non possiamo coscienziosamente con pace, gioia e felicità compiere qualsiasi dovere nelle nostre vite senza ascoltare quel messaggio di Krishna. Non temere se c'è del male nel tuo lavoro, perché non esiste lavoro che non abbia del male in sé. Lascia tutto al Signore e non guardare risultati. D'altro canto c'è un posto nel cuore anche per l'altro messaggio. Il tempo corre, questo mondo è finito e infelice. Col vostro cibo, bei vestiti e casa confortevole, o uomo e donna addormentati, avete mai pensato ai milioni di persone che hanno fame e muoiono? Pensate al gran fatto che è tutto miseria, miseria. Notate la prima cosa che esprime il bambino, quando entra nel mondo piange. Questo è il fatto, il bambino piange, questa è una valle di lacrime. Se ascoltiamo il messaggero non dovremmo essere egoisti. Ecco un altro messaggero di Nazareth. Egli insegna. Siate pronti perché il regno dei cieli è vicino. Ho riflettuto sul messaggio di Krishna e sto cercando di lavorare senza attaccamento, ma a volte lo dimentico. Allora ad un tratto mi giunge il messaggio di Buddha. State attenti perché ogni cosa nel mondo è evanescente e c'è sempre infelicità in questa vita. Lo ascolto e sono incerto su quale messaggio accettare. E poi di nuovo viene come un fulmine il messaggio. Siate pronti perché il regno dei cieli è vicino. Non tardate un momento, non lasciate niente a domani. Preparatevi per l'evento finale che può cogliervi immediatamente, anche ora. Anche quel messaggio ha un posto e lo accettiamo. Salutiamo il messaggero, salutiamo il Signore. E poi arriva Maometto, il messaggero dell'uguaglianza. Chiedete che bene può esserci nella sua religione. Se non ci fosse bene, come potrebbe vivere? Solo il bene vive, quello solo sopravvive. Perché solo il bene è forte, perciò sopravvive. Quanto è lunga la vita dell'uomo impuro anche in questa vita? Non è forse la vita dell'uomo puro molto più lunga? Senza dubbio, perché la purezza è forza, la bontà è la forza. Come potrebbe l'islamismo essere sopravvissuto se non ci fosse stato niente di buono nei suoi insegnamenti? C'è molto bene. Maometto era il profeta dell'uguaglianza, della fratellanza dell'uomo, della fratellanza di tutti i musulmani. Vediamo quindi che ogni profeta, ogni messaggero ha un messaggio particolare. Quando la prima volta ascoltate quel messaggio e poi guardate la sua vita, vedete che la sua intera vita lo spiega, radiosa. Ora, gli sciocchi ignoranti iniziano ventimila teorie e azzardano, secondo il loro sviluppo mentale, spiegazioni che si accordino alle loro idee e le attribuiscono a questi grandi insegnanti. Prendono i loro insegnamenti e attribuiscono loro i loro vaneggiamenti. Per ogni grande profeta la sua vita è l'unico commentario. Guardate la sua vita. Quello che ha fatto genera i testi. Leggete la ghita e la troverete esattamente prodotta dalla vita del maestro. Maometto, con la sua vita, mostrò che tra i musulmani dovrebbe esserci perfetta uguaglianza e fratellanza. Non c'erano questioni di razza, casta, credo, colore o sesso. Il sultano della Turchia poteva comprare uno schiavo nero in un mercato africano e questi poteva poi arrivare a sposare, secondo le sue capacità, la figlia del sultano. E guardate come i neri e gli indiani americani sono trattati in questo paese. E cosa fanno gli hindù? Se uno dei vostri missionari per caso tocca il cibo di una persona ortodossa, a questi lo getta via. Nonostante la nostra grande filosofia, notate la debolezza nella pratica. Ma vedete la grandezza dei musulmani rispetto alle altre razze, mostrando uguaglianza, perfetta uguaglianza, indipendente dalla razza e dal colore. Verranno altri profeti, magari più grandi? Certamente verranno in questo mondo, ma non aspettateli. Preferirei che ognuno di voi divenisse un profeta di questo reale Nuovo Testamento che è fatto di tutti i vecchi testamenti. Prendete tutti i vecchi messaggi, aumentateli delle vostre realizzazioni e divenite un profeta per altri. Ognuno di questi maestri è stato grande. Ognuno ci ha lasciato qualcosa, sono stati i nostri dei. Li salutiamo, siamo i loro servi e ugualmente salutiamo noi stessi, perché se loro sono stati profeti e figli di Dio, anche noi lo siamo. Essi hanno raggiunto la loro perfezione e noi raggiungeremo la nostra. Ricordate le parole di Gesù, il regno dei cieli è vicino. In questo stesso momento, che ognuno di noi faccia una ferma risoluzione. Diverrò un profeta, diverrò un messaggero di luce, diverrò un figlio di Dio, anzi, diverrò un Dio. I metodi e lo scopo della religione Nello studiare le religioni del mondo, generalmente troviamo due metodi di procedere. Uno è da Dio all'uomo, vale a dire che abbiamo il gruppo semitico delle religioni in cui l'idea di Dio viene quasi fin dall'inizio e, abbastanza stranamente, senza nessuna idea di anima. Era notevole tra gli antichi ebrei che, fino a periodi molto recenti nella loro storia, non abbiano mai sviluppato l'idea di un'anima umana. L'uomo era composto di certe particelle mentali e materiali, tutto qui. Con la morte finiva tutto. Ma, d'altro canto, la stessa razza sviluppò un'idea straordinaria di Dio. Questo è uno dei metodi di procedere. L'altro è dall'uomo a Dio. Il secondo è specificatamente ariano e il primo è semitico. Gli ariani iniziarono prima con l'anima. Le loro idee di Dio erano vaghe, indistinguibili, non molto chiare, ma quando la loro idea dell'anima umana iniziò a chiarirsi, la loro idea di Dio si chiarì in proporzione. Quindi, l'indagine nei veda era sempre attraverso l'anima. Tutta la conoscenza che gli ariani avevano di Dio era attraverso l'anima umana. E per questo motivo, lo stampo particolare che è rimasto su tutto il loro ciclo di filosofia è quella ricerca introspettiva della divinità. L'uomo ariano stava sempre cercando la divinità dentro il suo stesso sé. Divenne col tempo una caratteristica naturale. Si nota nella loro arte e nei loro fatti più comuni. Anche attualmente, se prendiamo un quadro europeo di un uomo in atteggiamento religioso, il pittore fa sempre puntare lo sguardo del soggetto in alto, a cercare Dio al di fuori della natura, a guardare i cieli. In India, invece, l'atteggiamento religioso è sempre presentato facendo chiudere gli occhi al soggetto. Egli è come se stesse guardando dentro di sé. Questi sono i due soggetti di studio per l'uomo, la natura esterna e interna. E anche se all'inizio sembrano contraddirsi, pure la natura esterna deve, per l'uomo ordinario, essere interamente composta di natura interna, il mondo del pensiero. La maggioranza delle filosofie in ogni paese, specialmente in Occidente, sono iniziate con l'assunzione che queste due cose, la materia e la mente, siano esistenze contraddittorie. Ma alla lunga troveremo che convergono l'una verso l'altra e alla fine si uniranno e formeranno un tutto infinito. Perciò non è con questa analisi che intendo definire un punto di vista superiore o inferiore su questo soggetto. Non voglio dire che quelli che vogliono cercare la verità attraverso la natura esterna sbaglino, né che quelli che vogliono cercare la verità attraverso la natura interna siano più elevati. Sono due modi di procedere. Entrambi devono vivere, entrambi devono essere studiati e alla fine scopriremo che si incontrano. Vedremo che né il corpo è antagonista alla mente, né la mente al corpo, anche se troviamo molte persone che pensano che questo corpo non sia niente. In tempi antichi ogni paese era pieno di persone che pensavano che questo corpo fosse solo un malanno, un peccato o qualcosa del genere. In seguito tuttavia vediamo che questo corpo si fonde con la mente, come viene insegnato nei veda e la mente si fonde col corpo. Dovete ricordare il tema che corre in tutti veda. Proprio come conoscendo una zolla di terra, noi conosciamo tutta la terra dell'universo, qual è quella cosa conoscendo la quale conosciamo tutto il resto? Questo, espresso più o meno chiaramente, è il tema di tutta l'umana conoscenza. È trovare un'unità verso cui stiamo tutti andando. Ogni azione delle nostre vite, la più materiale, la più grossolana come la più sottile, la più spirituale, tende similmente a quest'unico ideale, la scoperta dell'unità. Un uomo è single, si sposa. Apparentemente può essere un atto egoistico, ma allo stesso tempo l'impulso, la forza motrice è scoprire quell'unità. Ha dei figli, ha amici, ama il suo paese, ama il mondo e finisce per amare l'intero universo. Irresistibilmente siamo spinti verso quella perfezione che consiste nel trovare l'unità, nell'uccidere questo piccolo sé e nel renderci sempre più vasti. Questo è lo scopo, la meta verso cui corre l'universo. Ogni atomo cerca di andare ad unirsi all'atomo vicino. Atomo dopo atomo si combinano, fanno delle grandi palle, terre, soli, lune, stelle, pianeti. Essi a loro volta stanno cercando di correre l'uno verso l'altro e alla fine sappiamo che l'intero universo, mentale e materiale, sarà fuso in uno. Il processo che sta avvenendo nel cosmo su larga scala è lo stesso che avviene nel microcosmo su scala più piccola. Proprio come questo universo ha la sua esistenza nella separazione, nella distinzione, mentre per tutto il tempo corre verso l'unità, verso la non separazione, così nei nostri piccoli mondi ogni anima nasce, come dire, tagliata fuori dal resto del mondo. Più è ignorante e priva di luce l'anima, più pensa di essere separata dal resto dell'universo. Più ignorante la persona, più pensa che morirà o che nascerà e così via, idee che sono un'espressione di questa separazione. Ma vediamo che è via via che viene la conoscenza, l'uomo cresce, la moralità si sviluppa e inizia l'idea della non separazione. Che un uomo la capisca o no è spinto da quella forza a divenire meno egoista. Questa è la base di tutta la moralità, è la quintessenza di tutta l'etica, predicata in ogni lingua o in ogni religione o da ogni profeta del mondo. Non essere egoista, non io ma tu, questa è la base di tutti i codici etici. E ciò che significa questo è il riconoscimento della non individualità, che tu sei una parte di me e io di te, il riconoscimento che nel far del male a te faccio del male a me stesso e che nell'aiutare te aiuto me stesso, il riconoscimento che non può esserci morte per me quando tu vivi. Quando un verme vive in questo universo, come posso morire? Perché la mia vita è nella vita di quel verme. Allo stesso tempo ci insegnerà che non possiamo lasciare uno dei compagni viventi senza aiutarlo, che nel suo bene consiste il mio bene. Questo è il tema che scorre in tutto il Vedanta e in ogni altra religione, perché dovete ricordare che le religioni in genere si dividono in tre parti. C'è la prima parte che consiste della filosofia, dell'essenza, dei principi di ogni religione. Questi principi trovano espressione nella mitologia, vite di santi e di eroi, semidei o dei o esseri divini, e l'intera idea di questa mitologia è quella del potere. E nella classe inferiore di miti, quelli primitivi, l'espressione di questo potere è nei muscoli. I loro eroi sono forti, dei giganti, un eroi conquista tutto il mondo. Via via che l'uomo avanza deve trovare l'espressione per la sua energia più in alto dei muscoli. E così anche i suoi eroi. Le mitologie più evolute hanno eroi che sono dei giganti morali. La loro forza si manifesta nel divenire morali e puri. Possono essere soli, possono respingere la marea dell'egoismo e dell'immoralità. La terza parte di tutte le religioni è il simbolismo, che voi chiamate cerimoniali e forme. Anche l'espressione attraverso la mitologia, le vite degli eroi, non è sufficiente per tutti. Ci sono menti ancora più basse. Come i bambini devono avere il loro giardino di infanzia nella religione e occorrono degli esempi concreti che possano capire, che possano vedere e sentire come qualcosa di materiale. Quindi in ogni religione trovate tre stadi, filosofia, mitologia e cerimoniale. C'è un vantaggio che può essere attribuito al Vedanta, che in India, fortunatamente, questi tre stadi sono stati definiti nettamente. In altre religioni sono così interconnessi con la mitologia che è molto difficile distinguerli uno dall'altro. La mitologia è soprattutto inghiotta i principi e nel corso dei secoli i principi vengono persi di vista. La spiegazione e l'illustrazione del principio inghiotta il principio e le persone vedono solo la spiegazione, il profeta, il predicatore, mentre i principi sono quasi spariti, al punto che perfino oggi, se un uomo osa predicare i principi della cristianità separati da Cristo, cercano di attaccarlo e pensano che sbagli e che attacchi la cristianità. Similmente, se un uomo vuole predicare i principi dell'Islam, i musulmani penseranno lo stesso, perché le idee concrete, le vite dei grandi uomini e profeti, hanno interamente messo in ombra i principi. Nel Vedanta il vantaggio principale è che non era opera di un singolo uomo e perciò naturalmente, diversamente dal buddismo e dalla cristianità o dall'islamismo, il profeta o il maestro non ha inghiottito messo in ombra i principi. I principi vivono e i profeti, come dire, formano un gruppo secondario ignoto al Vedanta. Le Upanishad non parlano di nessun profeta particolare, ma parlano di vari profeti e profetesse. Gli antichi ebrei avevano un po' di quest'idea, pure troviamo che Mosè occupa gran parte della letteratura ebraica. Ovviamente non voglio dire che sia male che questi profeti abbiano una presa religiosa sulla nazione, ma certamente è un male se tutto il campo dei principi viene perduto di vista. Possiamo essere d'accordo in quanto ai principi, ma non del tutto in quanto alle persone. Le persone fanno risuonare le nostre emozioni e i principi qualcosa di più elevato, il nostro calmo giudizio. I principi devono prevalere alla lunga, perché quella è la vera umanità nell'uomo. Le emozioni molte volte ci abbassano al livello degli animali. Le emozioni sono più connessi ai sensi delle facoltà della ragione e perciò, quando i principi sono interamente persi di vista e prevalgono le emozioni, le religioni degenerano in fanatismo e settarismo. Non sono migliori di partiti politici o simili. Vengono assunte le idee più orribilmente ignoranti e per queste idee migliaia di persone saranno pronte a tagliare la gola ai loro fratelli. Questo è il motivo per cui, anche se queste grandi personalità e profeti sono delle tremende forze motrici per il bene, allo stesso tempo le loro vite sono pericolose quando portano a trascurare i principi che rappresentano. Questo ha sempre portato al fanatismo e ha inondato il mondo di sangue. Il Vedanta può evitare questa difficoltà perché non ha un profeta speciale. Ha molti veggenti che erano chiamati risci o saggi. Veggenti, questa è la traduzione letterale, quelli che vedono queste verità, i mantra. La parola mantra significa riflettuto, cogitato dalla mente e il Rishi è il veggente di questi pensieri. Non sono proprietà di persone particolari né la proprietà esclusiva di nessun uomo o don per quanto grandi possano essere e neanche proprietà esclusiva degli spiriti più grandi, i Buddha o i Cristo, che il mondo ha prodotto. Sono proprietà del più basso dei bassi, come sono la proprietà di un Buddha e come sono la proprietà del più piccolo verme che strisce e di Cristo, perché sono principi universali. Non sono mai stati creati. Questi principi sono esistiti nel tempo ed esisteranno. Sono non creati da nessuna legge che la scienza ci insegna oggi. Restano coperti e vengono scoperti, ma esistono in natura da tutta l'eternità. Se Newton non fosse nato, la legge di gravità sarebbe rimasta lo stesso e avrebbe operato lo stesso. Fu il genio di Newton che la formulò, la scoprì, la portò alla coscienza, ne fece una cosa conscia per la razza umana. Così con queste leggi religiose, le grandi verità della spiritualità, operano tutto il tempo. Se tutti i Veda e la Bibbia e il Corano non esistessero, se i veggenti e i profeti non fossero mai nati, pure queste leggi esisterebbero. Lentamente opererebbero per elevare la razza umana, per elevare la natura umana. Ma i profeti le hanno viste, le hanno scoperte e tali profeti sono gli scopritori nel campo della spiritualità. Come Newton e Galileo erano profeti della scienza fisica, così ci sono i profeti della spiritualità. Non possono accampare nessun diritto esclusivo su nessuna di queste leggi. Sono proprietà comune di tutta la natura. I Veda, come dicono gli Hindu, sono eterni. Capiamo ora cosa intendono dire con loro essere eterni, cioè che le leggi non hanno mai avuto né inizio né fine, proprio come la natura. Terra dopo terra, sistema dopo sistema, evolveranno, andranno avanti per un certo tempo e poi si dissolveranno di nuovo nel caos. Ma l'universo resta lo stesso. Milioni e milioni di sistemi nascono e milioni vengono distrutti. L'universo resta lo stesso. L'inizio e la fine del tempo possono essere considerati rispetto a un certo pianeta, ma rispetto all'universo il tempo non ha affatto significato. Così sono le leggi della natura, le leggi fisiche, le leggi mentali, le leggi spirituali, sono senza inizio e senza fine. Ed è solo da pochi anni, relativamente parlando, da qualche migliaio di anni al massimo che l'uomo ha cercato di rivelarle. La massa infinita delle leggi resta davanti a noi. Perciò l'unica grande lezione che impariamo dai Veda, all'inizio, è che la religione è appena iniziata. L'infinito oceano di verità spirituale sta davanti a noi da esplorare, da portare nelle nostre vite. Il mondo ha visto migliaia di profeti e il mondo ne deve ancora vedere milioni. C'erano volte, nei tempi antichi, in cui i profeti erano molti in ogni società. Verrà il tempo in cui i profeti cammineranno per ogni strada in ogni città del mondo. In tempi antichi persone particolari e peculiari venivano, per dir così, scelte dalle operazioni delle leggi della società per divenire profeti. Sta avvenendo il tempo in cui capiremo che divenire religiosi significa divenire un profeta, che nessuno può divenire religioso finché lui o lei non diviene un profeta. Arriveremo a capire che il segreto della religione non è essere in grado di pensare e dire tutte queste cose, ma, come insegnano i Veda, realizzarle, realizzarne di nuove e superiori che non sono mai state realizzate, scoprirle, portarle nella società e lo studio della religione dovrebbe essere l'addestramento per divenire profeti. L'intero universo deve divenire profeta e finché un uomo non diviene un profeta, la religione è una sciocchezza e un semplice luogo comune per lui. Dobbiamo vedere la religione, sentirla, realizzarla con un senso in mille modi più intenso di quello con cui vediamo il muro. Ma c'è un principio che sottosta a tutte queste varie manifestazioni di religione e che è già stato mappato per noi. Ogni scienza deve finire quando trova un'unità, perché non possiamo andare oltre. Quando si raggiunge una perfetta unità quella scienza non ha più principi da dirci. Tutte le opere che devono fare le religioni è mettere a punto i dettagli. Prendete una qualsiasi scienza, la chimica per esempio, supponete che troviamo un elemento da cui possiamo partire per costruire tutti gli altri elementi. Allora la chimica in quanto scienza dovrà diventare perfetta. Quello che ci resta da fare è scoprire ogni giorno nuove combinazioni di quel materiale e le applicazioni di quelle combinazioni ad ogni scopo della vita. Così con la religione. I massimi principi, lo scopo, il piano della religione furono già scoperti secoli fa, quando l'uomo trovò le ultime parole, come sono chiamate dei veda, io sono lui, che c'è quell'uno in cui questo intero universo di materia e mente trova la sua unità che chiamiamo Dio, o Brahman, o Allah, o Geova, o qualsiasi altro nome. Non possiamo andare oltre quello. Il grande principio è già stato mappato per noi. Il nostro lavoro sta nel realizzarlo, nello sperimentarlo, nell'applicarlo ad ogni parte delle nostre vite. Dobbiamo lavorare ora perché ognuno diventi un profeta. C'è un grande lavoro davanti a noi. In tempi antichi molti non capivano cosa significasse essere un profeta. Pensavano che fosse qualcosa di casuale, che solo per un fiat o per la volontà di qualche intelligenza superiore un uomo ottenesse una conoscenza superiore. In tempi moderni siamo pronti a dimostrare che questa conoscenza è il diritto di nascita di ogni essere vivente, chiunque o dovunque esso sia, e che non ci sia il caso in questo universo. Ogni uomo che pensiamo ottiene qualcosa per caso, ha lavorato per esso lentamente e costantemente per secoli. E ci si presenta allora l'intera questione, vogliamo essere profeti? Se lo vogliamo lo saremo. Questo, l'addestramento dei profeti, è la grande opera che ci sta davanti, e consciamente o inconsciamente tutti i grandi sistemi di religione operano verso questo unico grande scopo, solo con questa differenza, che in molte religioni troverete che dichiarano che questa diretta percezione della spiritualità non si può avere in questa vita, che l'uomo deve morire e che dopo la sua morte arriverà una vita in un altro mondo, in cui avrà visioni di spiritualità, in cui realizzerà cose che ora deve solo credere. Ma il Vedanta chiederà a tutti quelli che fanno queste asserzioni, allora come fate a sapere che la spiritualità esiste? E dovranno rispondere che ci devono essere sempre state certe persone particolari, che anche in questa vita hanno colto un barlume di cose che sono ignote e inconoscibili. Tutto questo crea una difficoltà. Se fossero persone particolari che hanno questo potere solo per caso, non abbiamo alcun diritto di credere in loro. Sarebbe un peccato credere in qualcosa che avviene per caso, perché non possiamo conoscerlo. Cosa si intende per conoscenza? Distruzione della particolarità. Supponete che un ragazzo vada in una strada o in un serraglio e veda un animale dalla forma strana, non sa cosa sia. Poi va in un paese in cui ce ne sono centinaia come quello. Ed è contento perché sa di quale specie sia. La nostra conoscenza è conoscere il principio. La nostra non conoscenza è trovare il particolare senza riferimento al principio. Quando troviamo un caso o alcuni casi separati dal principio, senza alcun riferimento al principio, siamo nell'oscurità e non sappiamo. Ora, se questi profeti, come dicono, fossero persone particolari che sole avessero il diritto di catturare un barlume di quello che c'è oltre e nessun altro ne avesse il diritto, non dovremmo credere a questi profeti perché sono casi particolari senza nessun riferimento ad un principio. Possiamo solo credere in loro se noi stessi diventiamo profeti. Voi, tutti voi, sentite le varie battute dei giornali sul mostro marino. E perché? Perché alcune persone a lunghi intervalli vengono a raccontare le loro storie sul mostro marino e altri non lo vedono mai. Non hanno nessun principio particolare a cui riferirsi e perciò il mondo non crede. Se un uomo viene da me e dice che un profeta è scomparso nell'aria o è sceso dal cielo, ho il diritto di vederlo. Io gli chiedo, l'hanno visto tuo padre e tuo nonno? Oh no, replica, ma cinquemila anni fa è accaduta una cosa simile. E se io non credo, dovrei essere arrostito per tutta l'eternità. Che massa di superstizione è questa? E il suo effetto è degradare l'uomo dalla sua natura divina a quella delle bestie. Perché c'è stata data la ragione se dobbiamo credere senza ragionare? Non è tremendamente blasfemo credere al di là di ogni ragione? Che diritto abbiamo di non usare il maggior dono che Dio ci ha dato? Io sono certo che Dio perdonerà un uomo che userà la sua ragione e non può credere, piuttosto che un uomo che crede ciecamente invece di usare le facoltà che gli ha dato. Semplicemente significa degradare la sua natura e abbassarsi al livello delle bestie, degradare i suoi sensi e morire. Dobbiamo ragionare. E quando la ragione ci prova la verità di questi profeti e grandi uomini di cui parlano i libri antichi in ogni paese, dobbiamo credere in loro. Dobbiamo credere in loro quando vediamo tali profeti tra noi. Scopriremo allora che non sono uomini particolari, ma solo esempi di certi principi. Operavano per esprimere naturalmente quel principio e noi dovremo operare per esprimere quel principio in noi. Erano profeti e crederemo quando diverremo profeti. Erano veggenti delle cose divine, potevano andare oltre i legami dei sensi e catturare un barlume di quello che c'è oltre. Lo crederemo solo quando saremo in grado di farlo noi stessi e non prima. Questo è un principio del Vedanta. Il Vedanta dichiara che la religione è qui ed ora, perché la questione di questa vita e di quella vita, della vita e della morte e di questo mondo e di quel mondo è semplicemente superstizione e pregiudizio. Non c'è interruzione di tempo oltre quella che facciamo noi stessi. Che differenza c'è tra le 10 e le 12 a parte quella che facciamo a causa di certi cambiamenti in natura? Il tempo scorre sempre uguale, perciò cosa si intende con questa vita o quella vita? È solo una questione di tempo e quello che si perde nel tempo può essere guadagnato con la velocità nel lavoro. Perciò, dice il Vedanta, la religione deve essere realizzata ora. E per voi divenire religiosi significa che inizierete, senza religione, a farvi strada e a realizzare cose, a vedere le cose da soli e quando avrete fatto questo, allora e solo allora avrete la religione. Prima di quel momento non siete migliori degli atei, o peggio, perché l'ateo è sincero, si alza e dice io non so niente di queste cose, mentre quegli altri non sanno ma vanno in giro per il mondo dicendo noi siamo molto religiosi. Che religione abbiano non lo sa nessuno, perché si sono bevuti qualche storia della nonna e i preti hanno chiesto loro di credere a queste cose. Ecco come vanno le cose. La realizzazione della religione è l'unico modo, ognuno di noi dovrà scoprirlo. A che servono questi libri allora, queste Bibbie del mondo? Sono di grande utilità, proprio come sono le mappe di un paese. Ho visto mappe dell'Inghilterra per tutta la vita prima di venire qui e mi sono state di grande aiuto per darmi qualche idea dell'Inghilterra. Pure, quando sono arrivato in questo paese, che differenza tra le mappe e il paese in sé? Questa è la differenza tra la realizzazione e le scritture. Questi libri sono solo le mappe e le esperienze di uomini passati come forza motrice affinché osiamo fare la stessa esperienza e scoprirlo nello stesso modo, se non meglio. Questo è il primo principio del Vedanta, che la realizzazione è religione e chi realizza è l'uomo religioso. E chi non lo fa non è migliore di chi dice io non so, se non peggiore perché l'altro dice io non so ed è sincero. In questa realizzazione inoltre saremo aiutati molto da questi libri, non solo come guide ma perché danno istruzioni ed esercizi, perché un'iscienza ha il suo particolare metodo di indagine. Troverete molte persone nel mondo che diranno io volevo diventare religioso, volevo realizzare queste cose ma non sono stato capace perciò non credo in niente. Le troverete anche fra le persone istruite. Molte persone vi diranno ho cercato di essere religioso per tutta la vita ma non c'è niente in essa. Allo stesso tempo scoprirete questo fenomeno. Immaginate che un uomo sia un chimico, un grande scienziato, viene da voi e vi dice questo. Se voi gli dite non credo niente della chimica perché per tutta la vita ho cercato di diventare un chimico ma non ci ho scoperto niente, egli vi dirà quando avete provato? Quando andavo a letto ripetevo oh chimica vieni da me e non veniva mai. Questa è la stessa cosa. Il chimico ride di voi e dice oh quello non è il modo perché non andate al laboratorio e prendete gli acidi e gli alcali e vi bruciate le mani ogni tanto? Solo quello vi avrebbe insegnato qualcosa. Vi date la stessa pena con la religione? Ogni scienza ha il suo metodo di apprendimento e la religione si deve imparare nello stesso modo, ha i suoi metodi e qui c'è qualcosa che possiamo imparare e dobbiamo imparare da tutti gli antichi profeti del mondo, da ognuno che abbia trovato qualcosa, che abbia realizzato la religione. Ci daranno il metodo, i metodi particolari attraverso cui soltanto potremo realizzare le verità della religione. Lottarono per tutta la vita, scoprirono metodi particolari di cultura mentale portando la mente ad un certo stato di percezione sottile e attraverso quello stato percepirono le verità della religione. Per divenire religiosi, per percepire la religione, per sentirla, per divenire profeti, dobbiamo impiegare gli stessi metodi e praticarli e poi se non troviamo niente avremo il diritto di dire non c'è niente nella religione perché ho provato e ho fallito. Questo è il lato pratico di tutte le religioni, lo troverete in tutte le bibbie del mondo. Non solo insegnano principi e dottrine ma nelle vite dei santi trovate pratiche e quando non viene espressamente esposto come regola di condotta scoprirete sempre nelle vite di questi profeti che anche loro a volte regolavano il loro mangiare e il loro bere. La loro intera vita, la loro pratica, il loro metodo, tutto era differente dalle masse che li circondavano e queste furono le cose che diedero loro la luce superiore, la visione del divino. E noi, se vogliamo avere questa visione, dobbiamo essere pronti ad impiegare questi metodi. È la pratica, il lavoro che ci porterà a questo. Il piano del Vedanta perciò è, primo, stabilire i principi mappare per noi la meta e poi insegnarci il metodo con cui arrivare alla meta, comprendere e realizzare la religione. E inoltre questi metodi devono essere vari. Vedendo che siamo così vari nelle nostre nature, lo stesso metodo è difficile che possa essere applicato a due di noi nello stesso modo. Abbiamo idiosincrasie nelle nostre menti ognuno di noi, perciò il metodo dovrebbe essere variato. Alcuni, scoprirete, sono molto emotivi nella loro natura. Alcuni molto filosofici, razionali. Altri si attaccano ad ogni tipo di forma ritualistica, vogliono cose concrete. Scoprirete che un uomo non si cura di nessuna cerimonia o forma o cose del genere. Per lui sono lettera morta. Un altro uomo si porta una quantità di amuleti su tutto il corpo, ama così tanto questi simboli. Un altro uomo che di natura emotiva vuole mostrare ad ognuno atti di carità, piange, ride e così via. E tutti questi certamente non hanno lo stesso metodo. Se ci fosse solo un metodo per arrivare alla verità, sarebbe la morte per ogni altro che non ha la stessa costituzione. Perciò i metodi dovrebbero essere vari. Il Vedanta lo comprende e vuole porre davanti al mondo metodi diversi con cui possiamo lavorare. Prendetene uno che vi piaccia. E se uno non vi si confà, un altro lo farà. Da questo punto di vista vediamo quanto sia glorioso che ci siano tante religioni nel mondo, quanto sia bene che ci siano tanti maestri e profeti invece di essercene uno solo, come molte persone vorrebbero. I musulmani vogliono che tutto il mondo sia islamico, i cristiani cristiano e i buddhisti buddista. Ma il Vedanta dice che ogni persona nel mondo sia separata se volete, l'unico principio, l'unità sarà dietro. Più profeti ci sono, più libri, più veggenti, più metodi, tanto meglio per il mondo. Proprio come nella vita sociale è maggiore il numero di occupazioni, meglio è per quella società, più possibilità per ognuno di quella società di guadagnarsi da vivere, così nel mondo del pensiero e della religione. Quanto meglio è oggi quando abbiamo così tanti rami della scienza, quanto più è possibile per ognuno avere una grande cultura mentale con questa grande varietà avanti a noi. Quanto è meglio anche sul piano fisico avere l'opportunità di così tante cose davanti a noi, così che ne possiamo scegliere una che ci piace, quella che ci si confà meglio. Così ecco il mondo delle religioni. È una gloriosa concessione del Signore che ci siano tante religioni nel mondo e volesse Dio che queste aumentassero ogni giorno finché ogni uomo avesse una sua religione personale. Il Vedanta lo comprende e perciò predica un solo principio e ammette vari metodi. Non ha niente da dire contro nessuno. Che tu sia un cristiano o un buddista o un ebreo o un hindù, in qualsiasi mitologia tu creda, che tu segua il profeta di Nazareth o della Mecca o dell'India o di qualsiasi altro luogo, non ha niente da dire. Predica solo il principio che è nello sfondo di ogni religione e di cui tutti i profeti e santi e veggenti non sono che esempi e manifestazioni. Moltiplicate i vostri profeti se volete, non ha alcuna obiezione. Predica solo il principio e il metodo lo lascia scegliere a voi. Prendete qualsiasi sentiero vi piaccia, seguite qualsiasi profeta vi piaccia, ma prendete solo quel metodo che risuona con la vostra natura. Così sarete certi di progredire. L'importanza della psicologia. L'idea della psicologia in Occidente è molto degradata. La psicologia è la scienza delle scienze, ma in Occidente è posta sullo stesso piano delle altre scienze, cioè è giudicata con lo stesso criterio, l'utilità. Che beneficio pratico darà l'umanità? Quanto aggiungerà la nostra felicità rapidamente crescente? Quanto diminuirà il nostro dolore rapidamente crescente? Tale è il criterio con cui tutto viene giudicato in Occidente. Le persone sembrano dimenticare che circa il 90% di tutta la nostra conoscenza non può, per la natura stessa delle cose, essere applicato in modo pratico per aumentare la nostra felicità materiale o per diminuire la nostra infelicità. Solo una piccola parte può avere un'applicazione pratica alle nostre vite quotidiane. Questo perché solo una percentuale infinitamente piccola della nostra mente conscia è sul piano sensoriale. Abbiamo solo un po' di coscienza sensoriale e immaginiamo che sia la nostra intera mente e vita, ma di fatto è solo una goccia nel possente oceano della mente subconscia. Se tutto quello che c'è di noi fosse un fascio di percezioni sensoriali, tutta la conoscenza che potremmo avere potrebbe essere utilizzata nella gratificazione del nostro piacere sensoriale. Ma fortunatamente non è così. Via via che ci allontaniamo dallo stato animale, i nostri piaceri sensoriali diminuiscono sempre e diventa sempre più intenso il nostro godimento in una coscienza scientifica e psicologica rapidamente crescente e la conoscenza per amore della conoscenza, indipendentemente dalla quantità di piacere sensoriale a cui può condurre, diventa il supremo piacere della mente. Ma anche prendendo l'idea occidentale di utilità come criterio con cui giudicarla, la psicologia anche con un tale standard è la scienza delle scienze. Perché? Siamo tutti schiavi dei nostri sensi, schiavi delle nostre menti, consce e subconsce. La ragione per cui un criminale è un criminale non è perché desidera esserne uno, ma perché non ha la sua mente sotto controllo ed è perciò uno schiavo della sua mente, conscia e subconscia e della mente di ogni altro. Deve seguire la tendenza dominante della sua mente e non può farne a meno. È costretto a procedere il suo malgrado, malgrado i suoi migliori propositi, la sua migliore natura. È costretto ad obbedire al mandato dominante della sua mente. Poveretto, non può farne a meno. Lo vediamo costantemente nelle nostre vite. Facciamo cose costantemente contro il lato migliore della nostra natura e in seguito ci biasimiamo per aver fatto questo e ci stupiamo di come abbiamo potuto pensarlo, di come abbiamo potuto fare una cosa simile. Pure la rifacciamo, ne soffriamo di nuovo e ci biasimiamo. In quel momento forse pensiamo di desiderare farlo, ma lo desideriamo solo perché siamo costretti a desiderarlo. Siamo costretti a farlo e siamo impotenti. Siamo tutti schiavi della nostra mente e di quella degli altri. Che siamo buoni o cattivi questo non fa differenza. siamo portati di qua e di là perché non possiamo farne a meno. Diciamo di pensare, di fare, eccetera, ma non è così. Pensiamo perché dobbiamo pensare. Agiamo perché dobbiamo agire. Siamo schiavi di noi stessi e degli altri. In fondo alla nostra mente inconscia sono immagazzinati tutti i pensieri e gli atti del passato, non solo di questa vita ma di tutte le altre vite che abbiamo vissuto. Questo grande sconfinato oceano di mente soggettiva è pieno di tutti i pensieri e azioni del passato. Ognuno di questi lotta per essere riconosciuto, preme per esprimersi, si solleva onda dopo onda sulla mente oggettiva, la mente consapevole. Questi pensieri, questa energia immagazzinata, li scambiamo per desideri naturali, talenti, eccetera. È perché non realizziamo la loro vera origine. Obbediamo loro ciecamente senza far domande e il risultato è la schiavitù, il tipo di schiavitù più impotente e ci definiamo liberi. Liberi, noi che non possiamo neanche per un momento governare le nostre menti, anzi che non possiamo tenere le nostre menti su un soggetto, focalizzarle su un punto ad esclusione di ogni altro neanche per un momento. Pur ci definiamo liberi. Pensateci, non possiamo fare quello che sappiamo dovremmo fare neanche per poco tempo. Alcuni desideri sensoriali germogliano e noi immediatamente obbediamo loro. La nostra coscienza ci rimorde per tale debolezza, ma ancora e ancora lo facciamo. Non possiamo vivere ad uno standard elevato di vita per quanto ci proviamo. I fantasmi dei pensieri passati, delle vite passate, ci tengono giù. Tutta l'infelicità del mondo è causata da questo asservimento ai sensi, dalla nostra incapacità di sollevarci al di sopra della vita sensoriale. La lotta per i piaceri fisici è la causa di tutti gli orrori e le miserie del mondo. È la scienza della psicologia che ci insegna come frenare le folli richieste della mente, come porla sotto il controllo della volontà e così liberarci dalla sua tirannia. La psicologia perciò è la scienza delle scienze senza la quale tutte le scienze e tutta l'altra conoscenza non hanno valore. La mente non controllata e non guidata ci trascinerà giù, giù per sempre, ci lacererà, ci ucciderà e la mente controllata e guidata ci salverà, ci libererà. Perciò deve essere controllata e la psicologia ci insegna come farlo. Per studiare e analizzare ogni scienza materiale vengono ottenuti dati sufficienti. Questi fatti vengono studiati e analizzati, il risultato è una conoscenza della scienza, ma nello studio ed analisi della mente non ci sono dati, non ci sono fatti acquisiti da fuori. La mente si analizza da sola. La scienza più grande perciò è la scienza della mente, la scienza della psicologia. In Occidente i poteri della mente, specialmente i poteri insoliti, sono ritenuti confinare con la stregoneria e il misticismo. Lo studio della psicologia superiore è stato ritardato perché identificato con fenomeni misteriosi simili a quelli dei fakiri hindu. I fisici ottengono più o meno gli stessi risultati in tutto il mondo, non differiscono né i loro fatti generali né i nei risultati che conseguono naturalmente a tali fatti. Questo avviene perché i dati della scienza fisica sono ottenibili da tutti e sono universalmente riconosciuti e i risultati sono conclusioni logiche basate su questi fatti universalmente riconosciuti. Nel regno della mente è differente. Qui non ci sono dati, non ci sono fatti osservabili dai sensi fisici e nessun materiale universamente riconosciuto da cui costruire un sistema di psicologia che sia ugualmente sperimentato da tutti quelli che studiano la mente. Molto molto in profondità c'è l'anima, l'uomo essenziale, l'atman. Rivolgete la mente all'interno e unitevi ad esso e da quel punto di stabilità le giravolte della mente possono essere guardate e i fatti osservati, fatti che si trovano in tutte le persone. Tali fatti, tali dati, vengono trovati da quelli che vanno abbastanza in profondità e solo da loro. Tra quella grande classe di mistici autodidatti in tutto il mondo c'è una grande differenza di opinioni in quanto alla mente, alla sua natura, poteri, eccetera. Questo perché tali persone non vanno abbastanza in profondità. Hanno notato qualche piccola attività della loro mente e della mente di altri e senza sapere niente del reale carattere di tali manifestazioni superficiali le hanno pubblicate come fatti universali nella loro applicazione ed ogni ciarlatano mistico e religioso a fatti, dati, eccetera, che pretende sono criteri affidabili di indagine ma che di fatto non sono niente di più che le loro immaginazioni. Se intendete studiare la mente dovete avere un allenamento sistematico, dovete praticare per portare la vostra mente sotto controllo, per raggiungere quella consapevolezza da cui potrete studiare la mente e non venire trascinati dalle sue fogli giravolte. Altrimenti i fatti osservati non saranno affidabili, non si appliceranno a tutte le persone e perciò non saranno affatto veri. Tra la classe di persone che è andata in profondità nello studio della mente i fatti osservati sono stati gli stessi, indipendentemente dalla parte di mondo in cui tali persone potevano essere o dalla convinzione religiosa che potevano avere. I risultati ottenuti da tutti quelli che vanno abbastanza in profondità nella mente sono gli stessi. La mente opera per percezione e impulsi. Per esempio i raggi della luce entrano dagli occhi, sono portati dai nervi al cervello, eppure ancora non vedo la luce. Il cervello poi trasmette gli impulsi alla mente ma io ancora non vedo la luce. La mente poi reagisce e la luce balena nella mia mente. La reazione della mente è un impulso e come risultato l'occhio percepisce l'oggetto. Per controllare la mente dovete andare in profondità nella mente subconscia, classificarla e organizzarla riguardo alle diverse impressioni, pensieri eccetera che vi sono immagazzinati e controllarla. Questo è il primo passo. Col controllo della mente subconscia potete acquisire il controllo sulla mente conscia. La natura e l'uomo. L'idea moderna della natura include solo quella parte dell'universo che si manifesta sul piano fisico. Quello che generalmente viene inteso come mente non è considerato essere natura. I filosofi che cercano di provare la libertà della volontà hanno escluso la mente dalla natura, perché poiché la natura è legata e governata dalla legge, da una legge inflessibile, la mente, se dovesse essere considerata natura, sarebbe anch'essa legata dalla legge. Una tale affermazione distruggerebbe la dottrina del libero arbitrio, perché come può essere libero quello che è legato dalla legge? I filosofi dell'India hanno preso la posizione opposta. Ritengono che tutta la vita fisica manifesta e non manifesta sia legata dalla legge. La mente, come la natura esterna dicono, è legata dalla legge e da una stessa e unica legge. Se la mente non è legata dalla legge, se i pensieri che pensiamo non sono i necessari risultati di pensieri precedenti, se uno stato mentale non è seguito da un altro stato da esso prodotto, allora la mente è irrazionale e chi può pretendere il libero arbitrio e allo stesso tempo negare l'operazione della ragione. E d'altro canto, chi può ammettere che la mente sia governata dalla legge di causalità e pretendere che la volontà sia libera? La legge è l'opera di causa ed effetto. Certe cose avvengono secondo certe altre cose che sono avvenute prima. Ogni precedente ha il suo conseguente. Così è in natura. Se questa operazione della legge avviene nella mente, allora la mente è legata e perciò non è libera. Come può essere? Ma tutti noi sappiamo, tutti noi sentiamo di essere liberi. La vita non avrebbe senso, non sarebbe degna di essere vissuta se non fossimo liberi. I filosofi orientali accettarono questa dottrina o piuttosto la proposero, che la mente e la volontà sono entro lo spazio, tempo e causalità, la cosiddetta materia, e che sono perciò legate alla legge di causalità. Noi pensiamo nel tempo. I nostri pensieri sono legati dal tempo. Tutto quello che esiste esiste nel tempo e nello spazio. Tutto è legato dalla legge di causalità. Ora, quello che chiamiamo materia e mente sono una sola sostanza. L'unica differenza è nel grado di vibrazione. La mente ad un grado molto basso di vibrazione è quella che è nota come materia. La materia ad un alto grado di vibrazione è quella che è nota come mente. Entrambe sono della stessa sostanza e perciò, poiché la materia è legata dal tempo, spazio e causalità, la mente, che è materia ad un alto tasso di vibrazione, è legata dalla stessa legge. La natura è omogenea. La differenziazione è la manifestazione. La parola sanscrita per natura è prakriti, che letteralmente significa differenziazione. Tutto è una sostanza, ma si manifesta variamente. La mente diviene materia e la materia a sua volta diviene mente. È semplicemente una questione di vibrazione. Prendete una sbarra di acciaio e caricatela di una forza sufficiente a farla vibrare. E cosa accade? Se questo avvenisse in una stanza buia, la prima cosa di cui vi accorgereste sarebbe un suono o un mugolio. Aumentate la forza e la sbarra di acciaio diverrebbe luminosa. Aumentatela ancora e scomparirebbe del tutto, diverrebbe mente. Ecco un altro esempio. Se non mangio per dieci giorni, non riesco a pensare. Nella mia mente ci sono solo alcuni pensieri vaganti. Sono molto debole e forse non ricordo neanche il mio nome. Poi mangio del pane e dopo un po' inizio a pensare. Il mio potere mentale è tornato. Il pane è diventato mente. Similmente la mente diminuisce il suo tasso di vibrazione e si manifesta nel corpo. Diventa materia. In quanto a quale delle due venga prima, se la materia o la mente, ecco un esempio. Una gallina depone un uovo, l'uovo fa nascere un'altra gallina e quella gallina depone un altro uovo e quell'altro uovo fa nascere un'altra gallina. E così viene una catena infinita. Ora chi è stato il primo, l'uovo o la gallina? Non potete pensare a un uovo che non sia stato deposto da una gallina e ad una gallina che non sia nata da un uovo. Non fa differenza chi sia venuto per primo. Le maggiori verità sono state dimenticate a causa della loro stessa semplicità. Le grandi verità sono semplici perché sono di applicazione universale. La verità in sé è sempre semplice. La complessità è dovuta all'ignoranza dell'uomo. L'azione libera dell'uomo non è nella mente perché essa è legata. Non c'è libertà là. L'uomo non è la mente, è l'anima. L'anima è sempre libera, senza legami, eterna. Qui c'è la libertà nell'uomo, nell'anima. L'anima è sempre libera ma la mente si identifica con le sue onde effimere, perde di vista l'anima e si perde nel labirinto del tempo, spazio e causalità. Maya. Questa è la causa del nostro legame. Ci identifichiamo sempre con la mente e con i cambiamenti fenomenici della mente. L'azione libera dell'uomo è stabilita nell'anima e l'anima, realizzando di essere libera, asserisce sempre questo fatto nonostante il legame della mente. Io sono libera, io sono quello che sono, io sono quella che sono. Questa è la nostra libertà. L'anima, sempre libera, senza limiti, eterna, per eoni ed eoni, si manifesta sempre più attraverso il suo strumento, la mente. Che relazione ha l'uomo con la natura? Dalla forma più bassa di vita all'uomo, l'anima si manifesta attraverso la natura. La manifestazione superiore dell'anima è involuta nella manifestazione più bassa di vita e lavora per risalire attraverso il processo chiamato evoluzione. L'intero processo dell'evoluzione è la lotta dell'anima per manifestarsi. È una lotta costante contro la natura. È la lotta contro la natura e non la conformità alla natura che rende l'uomo quello che è. Sentiamo parlare molto del vivere in armonia con la natura, dell'essere intonati alla natura. È un errore. Questa tavola, questa brocca, questi minerali, un albero, sono tutti in armonia con la natura. Perfetta armonia, nessuna discordia. Essere in armonia con la natura significa stagnazione, morte. Come ha fatto l'uomo a costruire questa casa? Essendo in armonia con la natura? No, combattendo la natura. È la costante lotta contro la natura che costituisce il progresso umano, non la conformità ad essa. La filosofia vedanta è la cristianità. Oakland, California, 28 febbraio 1900. Tra tutte le grandi religioni del mondo ci sono molti punti di somiglianza e così sorprendente essa è a volte da suggerire l'idea che in molti particolari le diverse religioni si siano copiate tra loro. Questo atto di imitazione è stato posto alla porta di diverse religioni, ma che sia una cosa superficiale è evidente dai seguenti fatti. La religione è fondamentale nella stessa anima dell'umanità e poiché tutta la vita e l'evoluzione di ciò che è dentro necessariamente esprime se stessa attraverso vari popoli e nazioni. Il linguaggio dell'anima è uno, i linguaggi delle nazioni sono molti, i loro costumi e metodi di vita sono ampiamente differenti. La religione è dell'anima e trova espressione attraverso varie nazioni, linguaggi, costumi. Da qui segue che la differenza tra le religioni del mondo è di espressione e non di sostanza e i loro punti di somiglianza e di unità sono dell'anima, sono intrinseci, poiché il linguaggio dell'anima è uno in qualsiasi popolo e circostanza si manifesti. La stessa dolce armonia è vibrante anche là, come in molti e diversi strumenti. La prima cosa in comune in tutte le grandi religioni del mondo è il possesso di un libro autentico. Quando i sistemi religiosi non hanno un tale libro, si estinguono. Tale fu il fatto delle religioni dell'Egitto. Il libro autentico è la pietra del focolare, per così dire, di ogni grande sistema religioso attorno a cui si raccolgono i suoi aderenti e da cui irradia l'energia e la vita del sistema. Inoltre ogni religione ha la pretesa che il suo libro sia l'unica autentica opera di Dio, che tutti gli altri libri sacri siano falsi e siano in posizioni sulla povera credulità umana e che seguire un'altra religione sia da ignoranti e ciechi spiritualmente. Una tale bigotteria è caratteristica dell'elemento ortodosso di tutte le religioni. Per esempio i seguaci ortodossi dei Veda pretendono che i Veda siano l'unica autentica parola di Dio al mondo, che Dio abbia parlato al mondo solo attraverso i Veda e non solo ma che il mondo stesso esista in virtù dei Veda. Prima che ci fosse il mondo c'erano i Veda. Tutto nel mondo esiste perché si trova nei Veda. Una mucca esiste perché il nome mucca è nei Veda, cioè perché l'animale che conosciamo come mucca è menzionato nei Veda. Il linguaggio dei Veda è il linguaggio originale di Dio, tutti gli altri linguaggi sono semplici dialetti e non sono di Dio. Ogni parola e sillaba nei Veda deve essere pronunciata correttamente, ogni suono deve essere dato nella sua vera vibrazione e ogni allontanamento dalla sua rigida esattezza è un terribile e imperdonabile peccato. Perciò questo tipo di bigotteria è predominante nell'elemento ortodosso di tutte le religioni. Ma in questa lotta sulla lettera indulgono solo gli ignoranti, i ciechi spiritualmente. Tutti quelli che hanno realmente acquisito una natura religiosa non si impuntano mai sulla forma in cui vengono espresse le diverse religioni. Sanno che la vita di ogni religione è la stessa e di conseguenza non litigano con nessuno perché non parla la stessa lingua. I Veda sono di fatto i più antichi libri sacri del mondo. Nessuno sa niente sull'epoca in cui vennero scritti o da chi. Sono contenuti molti volumi e dubito che qualcuno li abbia mai letti tutti. La religione dei Veda è la religione degli Hindu e la base di tutte le religioni orientali, cioè le religioni orientali sono tutte derivate dei Veda. Ogni sistema orientale di religione ha i Veda come autorità. È una pretesa irrazionale credere negli insegnamenti di Gesù Cristo e allo stesso tempo ritenere che la maggior parte dei suoi insegnamenti non abbiano applicazione attualmente. Se dite che la ragione per cui i poteri non seguono quelli che credono, come invece Cristo aveva detto che sarebbe avvenuto, è perché non avete abbastanza fede e non siete abbastanza puri, allora avete ragione. Ma dire che non si applicano ai tempi moderni è ridicolo. Non ho mai visto un uomo che non fosse almeno mio uguale. Ho viaggiato in tutto il mondo, sono stato tra la gente peggiore, tra i cannibali, e non ho mai visto l'uomo che non fosse almeno mio uguale. Io ho fatto come loro quando ero stupido. Allora non conoscevo nessuno di migliore. Ora sì, ora essi non conoscono nessuno di migliore. Dopo un po' lo faranno. Ognuno agisce secondo la sua natura, siamo tutti in crescita. Da questo punto di vista nessun uomo è migliore di un altro. Concentrazione e respiro. La differenza principale tra uomini e animali è la differenza nei loro poteri di concentrazione. Ogni successo in ogni campo è il risultato di questo. Tutti sanno qualcosa sulla concentrazione, vediamo i suoi risultati ogni giorno. Grandi risultati in arte, musica, eccetera, sono il risultato della concentrazione. Un animale ha pochissimo potere di concentrazione. Quelli che hanno allevato animali trovano molta difficoltà nel fatto che l'anima dimentica costantemente quello che gli viene detto. Non riesce a concentrare la sua mente abbastanza a lungo su una cosa sola. Qui c'è la differenza tra uomo e animali. L'uomo ha il massimo potere di concentrazione. La differenza nel loro potere di concentrazione costituisce anche la differenza tra uomo e uomo. Paragonate l'uomo inferiore col superiore, la differenza è nel grado di concentrazione. Questa è l'unica differenza. La mente di ognuno diviene concentrata a volte. Tutti noi ci concentriamo sulle cose che amiamo e amiamo quelle cose su cui concentriamo le nostre menti. Quale madre non ama la faccia del suo figlio più bello? Quella faccia per lei è la più bella al mondo. La ama perché vi concentra la sua mente. Se ognuno potesse concentrare la sua mente su quella stessa faccia, ognuno la amerebbe. Sarebbe la faccia più bella per tutti. Concentriamo tutti la nostra mente sulle cose che amiamo. Quando udiamo una bella musica, le nostre menti vi si legano e non possiamo staccarle. Quelli che concentrano le loro menti su quella che chiamate musica classica non amano la musica comune e viceversa. La musica in cui le note si seguono in rapida successione afferra prontamente la mente. Un bambino ama la musica vivace perché la rapidità delle note non dà modo alla mente di vagare. Un uomo cui piace la musica leggera non ama la musica classica perché è più complicata e richiede un grado maggiore di concentrazione per seguirla. Il grande problema con tali concentrazioni è che non controlliamo la mente. È lei che controlla noi. Qualcosa al di fuori di noi, diciamo, attira la mente dentro di essa e la tiene con sé finché vuole. Noi udiamo note melodiosi o vediamo un bel quadro e la mente viene catturata. Non possiamo staccarla. Se vi parlo bene di un soggetto che vi piace, la vostra mente si concentra su quello che dico. Io attiro la vostra mente fuori da voi e la tengo sul soggetto vostro malgrado. Perciò la nostra attenzione viene catturata e le nostre menti si concentrano su varie cose nonostante noi stessi. Non possiamo farne a meno. Ora la questione è può questa concentrazione essere sviluppata e possiamo divenirne padroni? Gli yogi dicono di sì. Gli yogi dicono di poter controllare perfettamente la mente. Dal punto di vista etico c'è un rischio nello sviluppo del potere di concentrazione, il rischio di concentrare la mente su un oggetto e poi non essere capaci di staccarla da esso quando si vuole. Questo stato causa grande sofferenza. Quasi tutta la nostra sofferenza è causata dal non avere il potere di staccare la mente. Perciò insieme allo sviluppo della concentrazione dobbiamo sviluppare il potere del distacco. Dobbiamo imparare non solo ad attaccare la mente esclusivamente ad una cosa ma anche a staccarla in un attimo e a porla su qualcos'altro. Queste due cose dovrebbero essere sviluppate insieme per rendere la cosa sicura. Questo è lo sviluppo sistematico della mente. Secondo me la vera essenza dell'educazione è la concentrazione della mente, non la raccolta di fatti. Se dovesse rifare da capo la mia educazione e avere voce in capitolo non studierei affatto i fatti. Svilupperei il potere di concentrazione e di distacco e poi con uno strumento perfetto raccoglierei i fatti a volontà. Fianco a fianco nel bambino si dovrebbe sviluppare il potere di concentrazione e quello di distacco. Il mio sviluppo è stato unilaterale perché ho sviluppato il potere di concentrazione senza quello di staccare la mia mente a mio piacimento e la sofferenza più intensa della mia vita è stata dovuta a questo. Ora ho il potere di distacco ma l'ho dovuto imparare in seguito. Dovremmo mettere le nostre menti sulle cose ma loro non dovrebbero attrarre a sé le nostre menti. In genere siamo costretti a concentrarci, le nostre menti sono costrette a fissarsi su cose diverse per un'attrazione a cui non possiamo resistere. Controllare la mente, metterla proprio dove voglio, richiede un addestramento speciale. Non può essere fatto in nessun altro modo. Nello studio della religione il controllo della mente è assolutamente necessario. In questo studio dobbiamo rivolgere la mente su se stessa. Nell'addestrare la mente il primo passo è iniziare col respiro. Il respiro regolare mette il corpo in una condizione armoniosa ed è più facile raggiungere la mente. Nel praticare il respiro la prima cosa da considerare è l'asana o postura. Qualsiasi postura in cui una persona possa sedere comodamente è la postura adatta. La spina dovrebbe essere tenuta libera e il peso del corpo dovrebbe essere sostenuto dalle coste. Non cercate con lo sforzo di controllare la mente. Il semplice respiro è tutto quello che è necessario al riguardo. Ogni austerità per ottenere la concentrazione della mente è un errore. Non praticatele. La mente agisce sul corpo e il corpo a sua volta agisce sulla mente. Essi agiscono e reagiscono reciprocamente. Ogni stato mentale crea uno stato corrispondente nel corpo ed ogni azione del corpo ha il suo effetto corrispondente sulla mente. Non fa nessuna differenza il fatto che voi pensiate al corpo e alla mente come due entità differenti o che li riteniate un solo corpo, essendo il corpo fisico la parte grossolana e la mente la parte sottile. Essi agiscono e reagiscono reciprocamente. La mente diventa costantemente corpo. Nell'addestramento della mente è più facile arrivarci attraverso il corpo. Il corpo è più facile da afferrare rispetto alla mente. Più fine lo strumento maggiore il potere. La mente è molto fine e più potente del corpo. Per questa ragione è più facile iniziare col corpo. La scienza del respiro è operare nel corpo per raggiungere la mente. In questo modo controlliamo il corpo e poi iniziamo a sentire l'opera più sottile del corpo, l'opera più sottile e più interna, cosicché arriviamo alla mente. Quando iniziamo a sentire le operazioni sottili del corpo, esse vengono sotto il nostro controllo e dopo un po' potrete sentire l'opera della mente sul corpo. Sentirete anche l'opera di una metà della mente sull'altra metà e anche la mente che recluta i centi nervosi o la mente che controlla e governa il sistema nervoso. Sentirete la mente in opera lungo le diverse correnti nervose. Così la mente è portata sotto controllo, col regolare respiro sistematico governando prima il corpo grossolano e poi il corpo sottile. Il primo esercizio di respirazione è perfettamente sicuro e molto salutare, vi darà buona salute e migliorerà le vostre condizioni generali. Le altre pratiche dovrebbero essere fatte gradualmente e con attenzione. La respirazione, San Francisco, 28 marzo 1900. Gli esercizi di respirazione sono stati molto popolari in India dai tempi più antichi, cosicché fanno parte della loro religione, proprio come l'andare in chiesa e ripetere certe preghiere. Cercherò di trasmettervi queste idee. Vi ho detto come i filosofi indiani riducono l'intero universo in due parti, prana e akasha. Prana significa forza, tutto quello che si manifesta come movimento o possibile movimento, forza o attrazione, elettricità, magnetismo, tutti i movimenti del corpo, tutti i movimenti della mente, tutti questi sono varie manifestazioni di una cosa chiamata prana. La forma migliore di prana, tuttavia, è nel cervello e si manifesta come luce di comprensione. Questa luce è sotto la guida del pensiero. La mente dovrebbe controllare ogni particella di prana che viene prodotta nel corpo. La mente dovrebbe avere un intero controllo del corpo. Questo non avviene con tutto. Per la maggior parte di noi è il contrario. La mente dovrebbe poter controllare a piacimento ogni parte del corpo. Questo in teoria. Poi, quando arriviamo ai fatti, non è così. Per voi, al contrario, il carro è sempre davanti ai buoi. È il corpo che controlla la mente. Se accade qualcosa che non mi piace, mi preoccupo, la mia mente è fuori equilibrio. Il corpo è padrone della mente. Siamo divenuti corpi. Ora non siamo altro che corpi. A questo punto arriva il filosofo a mostrarci la via d'uscita, ad insegnarci quello che siamo realmente. Potete ragionarci e capirlo intellettualmente, ma c'è una lunga strada tra la comprensione intellettuale e la realizzazione pratica. Tra il progetto di una costruzione e la costruzione vera e propria c'è una lunga distanza. Perciò ci devono essere vari metodi per raggiungere la meta della religione. Nell'ultimo corso abbiamo studiato il metodo della filosofia, cercando di portare tutto sotto controllo, asserendo ancora una volta la libertà dell'anima. È molto difficile, questa via non è per tutti. Le menti incarnate la tentano con grandi difficoltà, dice la Gita. 12.5. Un piccolo aiuto fisico metterà a suo agio la mente. Cosa potrebbe esserci di più razionale che far realizzare la cosa dalla mente stessa? L'aiuto fisico è necessario per gran parte di noi. Il sistema del Raja Yoga è utilizzare questi aiuti fisici per usare i poteri e le forze del corpo per produrre certi stati mentali, per rendere la mente sempre più forte finché non riprenda il comando perduto. Se con la nuda forza della volontà qualcuno ci riesce, è tanto meglio. Ma la maggior parte di noi non ce la fa, perciò useremo dei mezzi fisici e aiuteremo in questo modo la volontà. L'intero universo è un tremendo caso di unità nella varietà. C'è solo una massa di mente. Diversi stati di quella mente hanno nomi diversi. Sono diversi piccoli vortici nell'oceano della mente. Noi siamo universali e individuali allo stesso tempo. In realtà questa unità non viene mai rotta. Materia, mente e spirito sono una cosa sola. Cambiano solo i nomi. C'è solo un fatto nell'universo, ma noi lo vediamo da diversi punti di vista. Lo stesso fatto visto da un punto di vista diviene materia. Da un altro punto di vista diviene mente. Non sono due cose diverse. Sbagliando la corda per un serpente, l'uomo si spaventa e chiama qualcuno per uccidere il serpente. Il suo sistema nervoso inizia a scuotersi, il cuore batte più forte. Tutte queste manifestazioni derivano dalla paura. Quando poi scopre che era una corda, svaniscono. La mente che ha visto la corda e l'ha presa per un serpente, non era sotto illusione. Se lo fosse stata, dopo non avrebbe visto la corda reale. Non avrebbe visto niente. È una cosa che viene scambiata per un'altra. Non è che venga vista una cosa che non esiste. Quello che vediamo qui è corpo e prendiamo l'infinito per la materia. Stiamo solo cercando quella realtà. Non siamo mai illusi. Conosciamo sempre la verità, solo che la nostra lettura della verità a volte si sbaglia. Potete percepire solo una cosa alla volta. Quando vedo il serpente la corda è svanita e quando vedo la corda è il serpente che è svanito. Deve essere una cosa sola. Quando vediamo il mondo come possiamo vedere Dio? Pensateci. Quello che viene inteso come mondo è Dio che viene visto dai nostri sensi come tutte le cose. Qui vedete il serpente, la corda non c'è. Quando conoscete lo spirito tutto il resto svanirà. Quando vedete lo spirito in sé non vedete nessuna materia, perché quello che chiamate materia è la stessa cosa che è spirito. Tutte queste variazioni sono dovute ai vostri sensi. Lo stesso sole riflesso da migliaia di gocce ci rappresenterà migliaia di piccoli soli. Se sto guardando l'universo con i miei sensi io lo interpreto come materia e forza. È uno e molti allo stesso tempo. La molteplicità non distrugge l'unità. I milioni di onde non distruggono l'unità dell'oceano. Resta lo stesso oceano. Quando guardate l'universo ricordate che possiamo ridurlo a materia o a forza. Se aumentiamo la velocità la massa decresce. D'altro canto possiamo aumentare la massa e diminuire la velocità. Possiamo quasi arrivare ad un punto in cui tutta la massa scomparirà interamente. Non si può dire che la materia causi la forza né che la forza causi la materia. Entrambe sono in relazione. Una può scomparire nell'altra. Ci deve essere un terzo fattore e quel terzo qualcosa è la mente. Non potete produrre l'universo dalla materia né dalla forza. La mente è qualcosa che non è forza né materia. Pure genera forza e materia tutto il tempo. Alla fine la mente genera ogni forza ed ecco cosa si intende con mente universale, la somma totale di tutte le menti. Ognuno sta creando e la somma totale di queste creazioni dà luogo all'universo, unità nella diversità. È uno e molti allo stesso tempo. Il Dio personale è solo la somma totale di tutti, eppure è un individuo in sé, proprio come voi siete il corpo individuale di cui ogni cellula è una parte individuale. Ogni cosa che ha moto è inclusa nel prana o forza. È questo prana che muove le stelle, il sole, la luna, prana e gravitazione. Tutte le forze della natura perciò devono essere create dalla mente universale e noi, come piccole parti di mente, stiamo prendendo quel prana dalla natura, lo stiamo usando nella nostra natura, muovendo i nostri corpi e costruendo il nostro pensiero. Se non ci credete, smettete di mangiare per 20 giorni e vedete come pensate. Incominciate oggi a contare. Anche il pensiero è costruito dal cibo, non c'è dubbio al riguardo. Il controllo di questo prana che muove tutto, il controllo di questo prana nel corpo è chiamato pranayama. Vediamo col nostro senso comune che è il respiro che mette tutto in moto. Se smetto di respirare, mi fermo. Se inizio a respirare, il corpo inizia a muoversi. Quello cui vogliamo arrivare non è il respiro in sé, è qualcosa di più sottile che è dietro al respiro. C'era una volta un ministro di un grande re. Il re, contrariato dal ministro, ordinò che venisse rinchiuso in un'alta torre. Questo fu fatto e il ministro fu lasciato là a morire. Di notte giunse alla torre la moglie del ministro e chiamò suo marito. Il ministro le disse «Non serve piangere». Le disse di prendere un po' di miele, uno scarafaggio, un pacco di filo sottile, una palla di spago e una corda. Essa legò il filo sottile a una delle zampe dello scarafaggio e mise del miele in cima alla sua testa. E lo lasciò andare con la testa in alto. Lo scarafaggio salì lentamente, sperando di raggiungere il miele, finché alla fine arrivò in cima alla torre, quando il ministro lo prese e si impossessò del filo di seta, poi dello spago e poi della corda. Il ministro scese dalla torre per mezzo della corda e fuggì. In questo nostro corpo il moto del respiro è il filo di seta, controllando il quale arriviamo allo spago delle correnti nervose e da queste allo spago dei nostri pensieri e da questi alla corda del prana, controllando il quale raggiungiamo la libertà. Con l'aiuto delle cose sul piano materiale dobbiamo arrivare a percezioni sempre più sottili. L'universo è uno, qualsiasi punto tocchiate, tutti i punti non sono che variazioni di un unico punto. Attraverso una cosa grossolana come il respiro, io posso arrivare allo spirito in sé. Con l'esercizio del respiro iniziamo a sentire tutti i movimenti del corpo che ora non sentiamo. Non appena iniziamo a sentirli, iniziamo a controllarli. Ci si apriranno i pensieri in germe e potremo afferrarli. Ovviamente non tutti noi hanno l'opportunità, la volontà o la pazienza o la fede di arrivare a una cosa del genere, ma c'è l'idea comune che sia di un certo beneficio a tutti. Il primo beneficio è la salute. Il 99% di noi non respira appropriatamente, non riempiamo abbastanza i polmoni. La regolarità del respiro purificherà il corpo, quieta la mente. Quando sei in pace il tuo respiro continua pacificamente, è ritmico. Se il respiro è ritmico devi essere in pace. Quando la mente è turbata il respiro è interrotto. Potete portare il respiro a divenire ritmico forzatamente con la pratica e perché allora non potreste ritornare in pace. Quando siete turbati andate in stanza e chiudete la porta. Non cercate di controllare la mente, ma continuate col respiro ritmico per 10 minuti. Il cuore tornerà in pace. Questi sono benefici di cui chiunque si avvantaggia. Gli altri sono di pertinenza dello yogi. Gli esercizi di respirazione profonda sono solo il primo passo. Ci sono circa 84 vari esercizi. Alcuni hanno assunto questa respirazione come l'unico scopo della vita. Non fanno niente senza consultare il respiro. Per tutto il tempo osservano in quale narice c'è più respiro. Quando respira di più la destra fanno certe cose e quando è la sinistra ne fanno altre. Quando il respiro fluisce ugualmente attraverso entrambe le narici fanno le loro devozioni. Quando il respiro passa ritmicamente attraverso entrambe le narici è il momento in cui controllare la vostra mente. Per mezzo del respiro potete muovere le correnti del corpo verso qualsiasi parte del corpo a volontà. Ogni volta che una parte del corpo è malata inviate il prana a quella parte. Tutto col respiro. Vengono fatte varie altre cose. Ci sono sette che cercano di non respirare affatto. Non farebbero niente che li facesse respirare pesantemente. Entrano in una sorta di trance. Quasi nessuna parte del corpo funziona. Il cuore cessa quasi di battere. La maggior parte degli esercizi sono molto pericolosi. I metodi superiori servono ad acquisire poteri superiori. Ci sono intere sette che cercano di alleggerire tutto il corpo eliminando il respiro e così si sollevano in aria. Non ho mai visto nessuno sollevarsi. Non ho mai visto nessuno volare in aria ma i libri dicono di sì. Non pretendo di conoscere tutto. Per tutto il tempo vedo cose meravigliose. Una volta ho osservato un uomo che faceva uscire frutta e fiori eccetera dal niente. Lo yogi quando diviene perfetto può rendere il suo corpo così piccolo da passare attraverso questo muro. Questo stesso corpo può divenire così pesante che 200 persone non riescono a sollevarlo. Potrà volare in aria se vuole ma nessuno può essere potente come Dio stesso. Se potessero uno potrebbe creare e uno potrebbe distruggere. Questo è nei libri. Ci credo a la pena ma non lo nego neanche. Credo a quello che ho visto. Se è possibile il miglioramento delle cose in questo mondo non è per la competizione ma regolando la mente. Gli occidentali dicono questa è la nostra natura non possiamo farne a meno. Studiando i vostri problemi sociali concludo che non potete risolverli. In alcune cose siete peggiori anche di noi e tutte queste cose non portano il mondo da nessuna parte. I forti prendono tutto. I deboli vanno al muro. I poveri aspettano. L'uomo che può prendere prenderà tutto. Il povero odia quest'uomo. Perché? Perché aspettano il loro turno. Tutti i sistemi che inventano insegnano la stessa cosa. Il problema può solo essere risolto nella mente dell'uomo. Nessuna legge li farà mai fare quello che non vuole fare. Solo se l'uomo vuole essere buono sarà buono. Tutte le leggi e le giurie non possono renderlo buono. L'uomo potente dice non mi importa. L'unica soluzione sarebbe che tutti noi volessimo essere buoni. Ma come potrebbe avvenire? Ogni conoscenza è dentro la mente. Chi ha mai visto la conoscenza nella pietra o l'astronomia nella stella è tutta nell'essere umano. Realizziamo che siamo il potere infinito. Chi pone un limite al potere della mente. Realizziamo che siamo tutti mente. Ogni goccia all'intero oceano in esso. Questa è la mente dell'uomo. La mente indiana riflette questi poteri e potenzialità e vuole portarli fuori. Non gli importa quanto tempo ci vuole, anche 50.000 anni. La stessa base della società, la sua formazione, causa il difetto. La perfezione è possibile solo se la mente dell'uomo è cambiata, se lui con la sua dolce volontà cambia la sua mente e la grande difficoltà è che neanche lui può forzare la sua stessa mente. Potete non credere a tutte le pretese di questo Raja Yoga. È assolutamente necessario che ogni individuo diventi divino. Questo è possibile solo quando ogni individuo ha un'assoluta padronanza sui suoi pensieri. I pensieri, i sensi dovrebbero essere tutti i miei servi, non i miei padroni. Solo allora è possibile che i mali svaniscano. L'educazione ideale è perfezionare lo strumento e avere il completo controllo della mia mente. Se voglio concentrare la mia mente su un punto, essa ci va e nel momento in cui la chiama si libera di nuovo. Questa è la grande difficoltà. Con una grande lotta otteniamo un certo potere di concentrazione, il potere di attaccamento della mente a certe cose. Ma poi non c'è il potere del distacco, darei metà della mia vita per poter staccare la mente dal suo oggetto. Non posso. È il potere di concentrazione e di attaccamento come il potere di distacco quello che dobbiamo sviluppare. Se l'uomo è potente ugualmente in entrambi, quell'uomo ha raggiunto l'umanità. Non potete renderlo infelice neanche se gli crolla addosso l'intero universo. Che libri possono insegnargli questo? Potete leggere qualsiasi libro, far ingurgitare al bambino 50.000 parole in un attimo, insegnargli teorie e filosofie, ma c'è solo una scienza che gli insegna i fatti, ed è la psicologia. E il lavoro inizia col controllo del respiro. Lentamente e gradualmente entrate nelle stanze della mente e gradualmente ottenete il controllo della mente. È una lunga e dura lotta. Non deve essere intrapresa per curiosità. Quando uno vuole fare qualcosa ha un piano. Il Raja Yoga non propone nessuna fede, nessuna convinzione, nessun dio. Se credete in duemila dei potete provare. Perché no? Ma nel Raja Yoga ci sono principi impersonali. Qual è la maggiore difficoltà? Parliamo e teorizziamo. La vasta maggioranza dell'umanità deve trattare cose che sono concrete. Perché le persone ottuse non possono capire la filosofia superiore. Potete essere laureati in tutte le scienze del mondo, ma se non avete realizzato dovete diventare un bambino e imparare. Se date loro cose astratte infinite si perdono. Date loro cose da fare un po' alla volta. Dite loro fai tot respiri, fai questo. Lo fanno, lo capiscono e ci trovano piacere. Questo è il giardino d'infanzia della religione. Ecco perché gli esercizi di respirazione saranno così benefici. Prego tutti voi di non essere solo curiosi. Praticate per qualche giorno e se non trovate benefici venite a maledirmi. L'intero universo è una massa di energia ed è presente in ogni punto. Un grano è sufficiente per tutti noi se sappiamo come arrivare a dov'è. Questo aver da fare è il veleno che ci sta uccidendo. Il dovere è quello che piace agli schiavi, ma io sono libero, mi diverto un po', ecco tutto. Gli spiriti trapassati sono deboli, cercano di assumere vitalità da noi. La vitalità spirituale può essere trasmessa da una mente all'altra. L'uomo che la dà è il guru, l'uomo che la riceve è il discepolo. Questo è l'unico modo con cui la verità spirituale viene portata nel mondo. Alla morte tutti i sensi entrano nella mente e la mente va nel prana, vitalità. L'anima esce e porta con sé parte della mente. Porta con sé una certa parte della vitalità e anche un certo ammontare di materiale sottile, germe del corpo spirituale. Il prana non può esistere senza un qualche tipo di veicolo. Risiede nei pensieri e ne uscirà ancora. Così voi costruite questo nuovo corpo e nuovo cervello. Attraverso di esso si manifesterà. Gli spiriti trapassati non possono costruirsi un corpo e quelli che sono molto deboli non ricordano che sono morti. Cercano di avere più godimento da questa vita dello spirito entrando nei corpi di altri e qualsiasi persona che apre il suo corpo corre un terribile rischio. Loro cercano la sua vitalità. In questo mondo niente è permanente, eccetto Dio. Salvezza significa conoscere la verità. Noi non diveniamo niente, siamo quello che siamo. La salvezza viene per la fede e non per il lavoro. È una questione di conoscenza. Dovete sapere quello che siete ed è fatta. Il sogno svanisce. Questo state sognando voi, qui ed altri. Quando muoiono vanno nel paradiso dei loro sogni. Vivono in quel sogno e quando finisce prendono un bel corpo e sono brave persone. Il saggio dice tutti questi desideri sono svaniti da me. Stavolta non andrò in questi parafernali. Cerca di avere conoscenza e lotta duro e cerca di vedere che sogni, che incubo sia questo sognare in cui cerca di andare in cielo e in altri mondi. Ridine. Discepolato. San Francisco, 29 marzo 1900. Il mio soggetto è il discepolato. Non so come prenderete quello che sto per dire. Sarà piuttosto difficile per voi accettarlo. Gli ideali di insegnanti e discepoli in questo paese sono così diversi dai nostri. Mi viene in mente un vecchio proverbio in India. Ci sono centinaia di migliaia di maestri, ma è difficile trovare un discepolo. Sembra essere vero. L'unica cosa importante nel raggiungimento della spiritualità è l'atteggiamento dell'allievo. Quando c'è il giusto atteggiamento arriva facilmente l'illuminazione. Di che cosa ha bisogno un allievo per ricevere la verità? I grandi saggi dicono che per arrivare alla verità basta un batter di ciglio. È solo una questione di conoscenza. Il sogno si rompe. Quanto ci vuole? Un secondo. Quando l'illusione svanisce, quanto ci vuole? Un batter d'occhio. Quando conosco la verità non accade niente se non che le falsità svaniscono. Ho preso la corda per un serpente ed ora vedo che è una corda. È solo una questione di mezzo secondo ed è fatta. Tu sei quello. Tu sei la realtà. Quanto ci vuole a conoscerlo? Se siamo Dio e lo siamo sempre stati, non saperlo è sorprendente. Sapere questo è la sola cosa naturale. Non ci dovrebbero volere secoli per scoprire quello che siamo sempre stati e quello che siamo ora. Pure sembra difficile realizzare questa verità evidente. Secoli passano prima che iniziamo a coglierne un debole barlume. Dio è vita. Dio è verità. Scriviamo di questo. Lo sentiamo in fondo al cuore che è così, che ogni altra cosa diversa da Dio non è niente. Qui oggi, passata domani. Eppure gran parte di noi restano gli stessi per tutta la vita. Ci attacchiamo alla menzogna e voltiamo le spalle alla verità. Non vogliamo arrivare alla verità. Non vogliamo che nessuno rompa il nostro sogno. Vedete, i maestri non sono voluti. Chi vuole sapere? Ma se qualcuno vuole realizzare la verità e superare l'illusione, se vuole ricevere la verità da un maestro, deve essere un vero discepolo. Non è facile essere un discepolo. Sono necessarie grandi preparazioni. Devono essere soddisfatte molte condizioni. I vedantisti indicano quattro condizioni principali. La prima è che lo studente che vuole conoscere la verità deve rinunciare a tutti i desideri di guadagno in questo mondo o nella vita futura. La verità non è quella che vediamo. Quella che vediamo non è verità finché nella mente ci sono dei desideri. Finché nel cuore c'è il minimo desiderio, la verità non verrà. Che il mondo cada in rovina attorno a me non mi importa. E così con la vita futura. Non mi importa andare in paradiso. Che cos'è il paradiso? Solo la prosecuzione di questa terra. Staremo meglio. E i piccoli stupidi sogni che stiamo sognando svanirebbero, se non ci fosse paradiso, nessuna prosecuzione di questa sciocca vita sulla terra. Andando in paradiso, prolunghiamo soltanto le felici, illusioni. Cosa guadagnate in paradiso? Divenite dei, bevete nettere, prendete reumatismi. C'è meno infelicità che nella terra, ma anche meno verità. Il ricchissimo può capire la verità molto meno del poverissimo. È più facile che un cammello passi dalla crona di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. Il ricco non ha tempo di pensare a niente altro che non sia la sua ricchezza o il potere, il suo conforto e le sue indulgenze. Il ricco raramente diventa religioso. Perché? Perché pensa, se diventa religioso, di non divertirsi più in vita? Nello stesso modo, c'è pochissima possibilità di diventare spirituali in cielo. C'è troppo conforto e godimento là. Gli abitanti del paradiso non sono inclini a rinunciare al loro divertimento. Dicono che non ci saranno più lacrime in paradiso. Non credo nell'uomo che non piange mai, ha un gran blocco di granito al posto del cuore. È evidente che le persone del paradiso non sono molto empatiche. Ci sono vaste masse di loro lassù e noi siamo infelici creature che soffrono in questo posto orribile. Potrebbero farci uscire di qui, ma non lo fanno. Non piangono. Non c'è dolore o infelicità lassù. Perciò non si curano della miseria di nessuno. Bevono il loro nettare, danzano, belle mogli e tutto il resto. Andando oltre questo, il discepolo dovrebbe dire, non mi importa niente di questa vita, né dei paradisi che possano esistere. Non mi importa di nessuno di essi. Non voglio la vita sensoriale in nessuna forma. Questa identificazione di me stesso col corpo, come mi sento ora, questa grossa massa di carne. Ecco cosa sento di essere. Mi rifiuto di crederci. Il mondo e il paradiso, tutti questi, sono legati dai sensi. Non vi preoccupate della terra se non avete senso. Il cielo anche fa parte del mondo. La terra, il cielo e tutto quello che sta in mezzo ha un solo nome, terra. Perciò il discepolo, conoscendo il passato e il presente e pensando al futuro, conoscendo cosa significa la parola prosperità, cosa significa la felicità, rinuncia a tutti questi e cerca di conoscere la verità e solo la verità. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che il discepolo deve essere in grado di controllare i sensi interni ed esterni e deve essere stabilito in varie altre virtù spirituali. I sensi esterni sono gli organi visibili situati in diverse parti del corpo. I sensi interni sono intangibili. Noi abbiamo gli occhi esterni, le orecchie, il naso e così via, e abbiamo i corrispondenti sensi interni. Siamo continuamente richiamati da entrambi questi gruppi di sensi. Corrispondono ai sensi gli oggetti dei sensi. Se c'è vicino un oggetto di senso, i sensi ci costringono a percepirlo. Non abbiamo scelta o indipendenza. C'è il naso, c'è un lieve profumo. Devo odorarlo. Se ci fosse un cattivo odore direi a me stesso non odorarlo. Ma la natura dice odoralo e io lo odoro. Pensate solo che cosa siamo diventati. Abbiamo legato noi stessi. Io ho occhi. Qualsiasi cosa che accada, buona o cattiva, la devo vedere. La stessa cosa è con l'udito. Se qualcuno mi parla spiacevolmente, devo udirlo. Il mio senso dell'udito mi costringe a farlo e come mi sento infelice. L'odeo biasimo, l'uomo, deve udirli. Ho visto molte persone sorde che in genere non odono, ma quando si parla di loro sentono sempre. Tutti questi sensi, gli esterni e gli interni, devono essere sotto il controllo del discepolo. Con una dura pratica deve arrivare allo stadio in cui può asserire la sua mente contro i sensi, contro i comandi della natura. Dovrebbe essere in grado di dire alla sua mente, tu sei mia, ti ordino di non vedere o udire niente, e la mente non udrà né vedrà niente. Nessuna forma o suono agirà sulla mente. In quello stato la mente è divenuta libera dal dominio dei sensi, è divenuta separata da loro, non è più attaccata ai sensi e al corpo. Le cose esterne non possono dare ordini alla mente ora. La mente rifiuta di attaccarsi a loro. C'è una bella fragranza, per esempio, il discepolo dice alla mente non adorare e la mente non percepisce la fragranza. Quando siete arrivato a quel punto state appena iniziando ad essere un discepolo. Questo è perché quando tutti dicono io conosco la verità, io dico se conosci la verità devi avere autocontrollo e se hai controllo di te mostramelo controllando questi organi. Poi la mente deve essere calmata. Corre. Proprio quando mi siedo a meditare mi vengono in mente tutti i peggiori soggetti, la cosa è nauseante. Perché la mente dovrebbe pensare pensieri che io non voglio che pensi. È come se fossi lo schiavo della mente. Nessuna conoscenza spirituale è possibile finché la mente è irrequieta e fuori controllo. Il discepolo deve imparare a controllare la mente. Sì, è funzione della mente pensare, ma non deve pensare se il discepolo non vuole, deve smettere di pensare quando egli glielo ordina. Per qualificare un discepolo è necessario questo stato della mente. Inoltre il discepolo deve avere una grande capacità di sopportazione. La vita sembra confortevole e scoprite che la mente si comporta bene quando tutto vi va bene, ma se qualcosa va storto, la mente perde il suo equilibrio. Questo non va bene. Dovete sopportare ogni male e miseria senza che ci sia un mormorio di sofferenza, senza un pensiero di infelicità, resistenza, rimedio o vendetta. Questa è vera sopportazione ed è quella che dovete acquisire. Il bene e il male ci sono sempre nel mondo. Molti dimenticano che ci sia del male, almeno cercano di dimenticarlo. E quando capita loro del male, ne sono sopraffatti e amareggiati. Ce ne sono altri che negano che ci sia del male e che considerano tutto buono. Anche quella è una debolezza. Anche quella deriva da una paura del male. Se qualcosa è male, perché spruzzarci sopra dell'acqua profumata e definirla profumata? Sì, al mondo ci sono il bene e il male. Dio ha messo il male nel mondo e voi non dovete giustificarlo perché ci sia il male, non è affar vostro. Per favore abbiate fede e mantenetevi calmi. Quando il mio maestro Sri Ramakrishna si ammalò, un bramino gli suggerì di applicare un tremendo potere mentale volto a curare se stesso. Diceva che se il mio maestro avesse solo concentrato la sua mente sulla parte malata del suo corpo, sarebbe guarito. Sri Ramakrishna rispose che abbassare la mente che ho dedicato a Dio per pensare a questo piccolo corpo. Rifiutava di pensare al corpo e alla malattia. La sua mente era continuamente conscia di Dio, era profondamente dedicata a Lui, non l'avrebbe usata per nessun altro scopo. Questo desiderio per la salute, per la ricchezza, per la vita lunga e simili, il cosiddetto bene, non è altro che un'illusione. Dedicare la mente a queste cose per assicurarsele rinforza soltanto l'illusione. Abbiamo questi sogni e illusioni nella vita e vogliamo averne ancora nella vita futura, in paradiso. Altre illusioni, sempre più illusioni, non resistete al male, affrontatelo, siete superiori al male. C'è infelicità nel mondo, deve essere patita da qualcuno, non potete agire senza fare del male a qualcuno. E quando cercate del bene mondano, evitate solo un male che deve essere patito da qualcun altro. Tutti stanno cercando di metterlo sulle spalle di qualcun altro. Il discepolo dice che le miserie del mondo vengano a me, le sopporterò tutte, che gli altri ne siano liberi. Ricordate l'uomo sulla croce, avrebbe potuto avere legioni di angeli per arrivare alla vittoria, ma non resistè al male, compatì quelli che lo crucifiggevano. Sopportò ogni umiliazione e sofferenza. Si prese su di sé il fardello di tutti. Venite a me, tutti voi che faticate e siete appesantiti, e io vi darò riposo. Questa è la vera sopportazione. Quanto era superiore a questa vita, così alto che non possiamo capirlo, noi schiavi. Non appena un uomo mi dà uno schiaffo in faccia, la mia mano glielo restituisce, subito. Come posso capire la grandezza e la beatitudine del glorioso? Come posso vederne la gloria? Ma non abbasserò l'ideale. Sento di essere il corpo che resiste al male. Se ho un mal di testa, vado in cerca di tutto per farmelo passare. Bevo due bottiglie di medicine. Come posso comprendere queste menti meravigliose? Posso vedere l'ideale, ma quanto di quell'ideale? Niente di questa coscienza del corpo, del piccolo sé, dei suoi piaceri e dolori, dei suoi agi e disagi, niente di questo può arrivare a quell'atmosfera. Pensando solo allo spirito e tenendo la mente fuori dalla materia per tutto il tempo, posso cogliere un barlume di quell'ideale. Il pensiero materiale e le forme del mondo sensoriale non hanno posto in quell'ideale. Toglietele e ponete la mente sullo spirito. Dimenticate la vita e la morte, i dolori e i piaceri, il nome e la fama, e realizzate che non siete né corpo né mente, ma il puro spirito. Quando dico io, intendo lo spirito. Chiudete gli occhi e vedete che immagine vi appare quando pensate al vostro io. È l'immagine del vostro corpo che viene o della vostra natura mentale. Se è così, non avete ancora realizzato il vostro vero io. Verrà il tempo, tuttavia, quando, non appena direte io, vedrete l'universo, l'essere infinito. Allora avrete realizzato il vostro vero sé e avrete scoperto che siete infinito. Quella è la verità. Voi siete spirito, non siete materia. Esiste una cosa come illusione. In essa si prende una cosa per un'altra. La materia viene presa per spirito. Questo corpo per l'anima. Questa è la tremenda illusione. Deve andarsene. Il requisito successivo che deve avere il discepolo è che deve avere fede nel guru, maestro. In occidente il maestro semplicemente fornisce conoscenza intellettuale, tutto qui. La relazione col maestro è la maggiore nella vita. Il mio parente più prossimo e più caro nella vita è il mio guru, poi mia madre, poi mio padre. Il mio primo rispetto è per il guru. Se mio padre dice, fai questo, e il mio guru dice non fare questo, io non lo faccio. Il guru libera la mia anima. Il padre e la madre mi danno questo corpo, ma il guru mi dà la rinascita nell'anima. Abbiamo certe convinzioni particolari. Una di queste è che ci siano alcune anime, alcuni esseri eccezionali, che sono già liberi e che rinasceranno qui per il bene del mondo, per aiutare il mondo. Sono già liberi. Non si curano della loro salvezza, vogliono aiutare gli altri. Non hanno bisogno che venga loro insegnato niente. Fin dall'infanzia conoscono tutto. Possono dire la massima verità anche quando sono bambini di sei mesi. Da queste anime libere dipende la crescita spirituale dell'umanità. Sono come le prime lampade da cui vengono accese altre lampade. Vero, la luce è in tutti, ma in gran parte degli uomini è nascosta. Le grandi anime sono luci che brillano fin dall'inizio. Quelli che vengono in contatto con loro è come se venissero accesi. Tuttavia, la prima lampada non perde niente, comunica solo la sua luce alle altre lampade. Vengono accesi un milione di lampade e la prima lampada continua a splendere senza che la sua luce diminuisca. La prima lampada è il guru e la lampada che viene accesa è il discepolo. Questi diventa poi guru e così via. Questi grandi che chiamate incarnazioni di Dio sono potenti giganti spirituali. Vengono a mettere in moto una tremenda corrente spirituale, trasmettendo il loro potere ai loro discepoli immediati e attraverso di essi a generazione dopo generazione di discepoli. Un vescovo della chiesa cristiana pretende di trasmettere con l'imposizione delle mani il potere che si suppone abbia ricevuto dai vescovi precedenti. Il vescovo dice che Gesù Cristo trasmise il suo potere ai suoi immediati discepoli ed essi ad altri e che è in quel modo che il potere di Cristo è arrivato fino a lui. Noi riteniamo che ognuno di noi, non solo i vescovi, dovrebbe avere un tale potere. Non c'è motivo per cui ognuno di voi non possa essere un veicolo della potente corrente di spiritualità. Ma prima dovete trovare un maestro, un vero maestro e dovete ricordare che non è solo un uomo. Potete avere un maestro in carne ed ossa, ma il reale maestro non è nel corpo, non è l'uomo fisico, non è come appari ai vostri occhi. Può essere il maestro che viene da voi come un essere umano e riceverete il potere da lui. A volte giungerà in sogno a trasmettere cose al mondo. Il potere del maestro può giungerci in molti modi, ma per noi comuni mortali il maestro deve venire e la nostra preparazione deve procedere finché non viene. Noi seguiamo conferenze e leggiamo libri, discutiamo e ragioniamo di Dio e dell'anima, della religione e della salvezza. Questa non è spiritualità, perché la spiritualità non esiste in libri o teorie o filosofie. Non è nello studio o nel ragionamento, ma nella reale crescita interiore. Anche i pappagalli possono imparare delle cose a memoria e ripeterle. Diventerete colti, e allora? Gli asini possono trasportare intere biblioteche. Perciò, quando verrà la vera luce, non ci sarà più studio dei libri, nessuna cultura libresca. L'uomo che non sa scrivere neanche il suo nome può essere perfettamente religioso e l'uomo con tutte le biblioteche del mondo in testa può non esserlo. La cultura non è una condizione di crescita spirituale. La cultura non è una condizione. Il tocco del guru, la trasmissione dell'energia spirituale, renderà più rapido il vostro cuore. Allora inizierà la crescita. Questo è il reale battesimo del fuoco. Niente più fermate. Avanti e avanti. Qualche anno fa uno dei vostri maestri cristiani, un mio amico, disse «Credi in Cristo?» Sì, risposi. Allora perché non ti sei battezzato? Come avrei potuto essere battezzato? Da chi? Dov'è l'uomo che può dare il reale battesimo? Cos'è il battesimo? Si tratta di spruzzare un po' d'acqua su di voi o di immergervi nell'acqua mentre si mormorano delle formule? Il battesimo è la diretta introduzione nella vita dello spirito. Se ricevete il reale battesimo, sapete che non siete il corpo ma lo spirito. Datemi quel battesimo se potete, altrimenti non siete cristiani. Anche dopo il cosiddetto battesimo che ricevete siete rimasti gli stessi. Che senso ha dire semplicemente che siete state battezzati nel nome di Cristo? Semplici parole, parole, sempre a disturbare il mondo con le vostre sciocchezze. Sempre nell'oscurità dell'ignoranza, pure considerandosi saggi e istruiti, gli sciocchi vanno attorno e attorno, barcollando avanti e indietro come ciechi condotti da ciechi, dicono le Upanishad. Perciò non dite che siete cristiani, non straparlate del battesimo e di cose del genere. Ovviamente c'è il vero battesimo. C'era il battesimo all'inizio, quando Cristo venne sulla terra a insegnare. Le anime illuminate, i grandi che vennero in terra di tempo in tempo, hanno il potere di rivelarci la visione suprema. Questo è il vero battesimo. Vedete, prima delle formule e cerimonie di ogni religione, esiste il germe della verità universale. Nel corso del tempo questa verità viene dimenticata, è come se venisse strangolata dalle formule e cerimonie. Le forme restano, ma lo spirito se n'è andato. Avete la forma del battesimo, ma pochi possono evocare lo spirito vivente del battesimo. La forma non basterà. Se vogliamo acquisire la conoscenza vivente della verità vivente, dobbiamo essere realmente iniziati ad essa. Quello è l'ideale. Il guru deve insegnarmi e condurmi alla luce, rendermi un anello nella catena in cui egli stesso è un anello. L'uomo della strada non può pretendere di essere un guru. Il guru deve essere un uomo che ha conosciuto, che ha realmente realizzato la divina verità, che ha percepito se stesso come spirito. Un semplice oratore non può essere il guru. Un vero guru dirà al discepolo, vai e non peccare più. E lui non può più peccare. La persona non ha più il potere di peccare. Ho visto tali uomini in questa vita. Ho letto la Bibbia e i libri simili sono meravigliosi. Ma il potere vivente non potete trovarlo nei libri. Il potere che può trasformare la vita in un momento può essere trovato solo nelle anime viventi illuminate, quelle luci splendenti che appaiono fra noi, di tempo in tempo. Solo loro sono adatti ad essere guru. Voi e Dio siamo solo parole vuote, parole, non maestri. Stiamo disturbando il mondo parlando e facendo cattive vibrazioni. Speriamo e preghiamo e lottiamo e verrà il giorno in cui arriveremo alla verità e non dovremo parlare. Il maestro era un ragazzo di 16 anni, insegnava a un uomo di 80. Il silenzio era il metodo dell'insegnante e i dubbi del discepolo svanirono per sempre. Quello è il guru. Pensate solo se trovate un uomo simile che fede e amore dovreste avere per quella persona. Diamine, è Dio stesso, niente di meno. Ecco perché i discepoli di Cristo lo veneravano come un Dio. Il discepolo deve venerare il guru come Dio stesso. Tutto quello che un uomo può conoscere è il Dio vivente, Dio incarnato come uomo finché egli stesso non ha realizzato Dio. Come altrimenti potrebbe conoscere Dio? C'è un uomo in America nato 1900 anni dopo Cristo che non appartiene neanche alla stessa razza di Cristo, la razza ebraica. Non ha visto Gesù o la sua famiglia. Dice Gesù era Dio, se non ci credete andrete all'inferno. Possiamo capire come lo credessero i discepoli, che Cristo era Dio. Era il loro guru e dovevano credere che fosse Dio. Ma cosa ha a che fare questo americano con l'uomo nato 1900 anni fa? Questo giovane mi dice che io non credo in Gesù e che quindi dovrò andare all'inferno. Cosa conosce di Gesù? È pronto per il manicomio. Questo genere di credo non funziona, dovrà trovare il suo guru. Gesù può rinascere, può venire da voi. Allora se lo venerate come Dio avete ragione. Dobbiamo tutti aspettare fino all'arrivo del guru e il guru deve essere venerato come Dio. Egli è Dio, non è meno di questo. Quando lo guardate il guru gradualmente svanisce e cosa resta? L'immagine del guru lascia il posto a Dio stesso. Il guru è la maschera splendente che Dio indossa per venire da noi. Mentre lo guardiamo fermamente, gradualmente la maschera cade e Dio si rivela. Mi inchino al guru che è l'incarnazione della beatitudine divina, la personificazione della massima conoscenza e il datore della massima beatitudine, che è puro, perfetto, senza un secondo, eterno, oltre il piacere e il dolore, oltre ogni pensiero e qualifica, trascendentale. Tale è in realtà il guru. Non c'è da stupirsi che il discepolo lo guardi come Dio stesso e creda in lui, lo riverisca, gli obbedisca, lo segua senza far domande. Questa è la relazione tra il guru e il discepolo. Il successivo requisito del discepolo è un estremo desiderio di essere libero. Siamo come falene che si gettano nella fiamma sapendo che ci brucerà, sapendo che i sensi soltanto ci bruciano, che aumentano solo il desiderio. Il desiderio non è mai saziato dal godimento, il godimento aumenta solo il desiderio, come il burro gettato nel fuoco aumenta la fiamma. Magavata, 9,19,14. Il desiderio è aumentato dal desiderio, sapendo tutto questo le persone continuano a gettarsi nel fuoco. Vita dopo vita hanno seguito gli oggetti del desiderio, soffrendo molto di conseguenza, pure non riescono a rinunciare al desiderio. Di ogni religione che dovrebbe salvarli da questo terribile legame del desiderio, hanno fatto un mezzo di soddisfare il desiderio. Raramente chiedono a Dio di liberarli dal legame del corpo e dei sensi, dalla schiavitù del desiderio, invece lo pregano per la salute e la prosperità, per una vita lunga. Oh Dio, cura il mio mal di testa, dammi dei soldi o qualcosa del genere. La cerchia della visione è divenuta così ristretta, così degradata, così bestiale, così animale. Nessuno sta desiderando niente oltre questo corpo. Oh la terribile degradazione, la terribile miseria di esso. Che poca carne, i cinque sensi, lo stomaco. Cos'è il mondo se non una combinazione di stomaco e sesso? Guardate milioni di uomini e donne, ecco per cosa vivono. Portateli via da loro e troveranno vuota la loro vita, senza significato e intollerabile. Così siamo noi e così è la nostra mente. Cerca continuamente vie e mezzi per soddisfare la fame dello stomaco e del sesso. E continua così per tutto il tempo. C'è anche un'infinita sofferenza. Questi desideri del corpo portano solo una soddisfazione momentanea e un'infinita sofferenza. È come bere una coppa che ha in superficie il nettare e sotto è avvelenata. Ma noi cerchiamo ancora queste cose. Che si può fare? Rinuncia ai sensi e ai desideri è l'unica via d'uscita dall'infelicità. Se volete essere spirituale dovete rinunciare. Questa è la prova reale. Rinunciate al mondo, a questa sciocchezza dei sensi. C'è solo un unico reale desiderio, sapere quello che è vero, essere spirituali. Niente più materialismo, niente più egoismo. Io devo divenire spirituale. Forte, intenso deve essere il desiderio. Se le mani e piedi di un uomo fossero legati al punto che non potesse muoversi e poi venisse posto sul suo corpo un carbone ardente, lotterebbe con tutta la sua forza per levarlo. Quando avrò quel tipo di estremo desiderio, quella lotta senza tregua, di staccare da me questo mondo ardente, allora sarà giunto per me il momento di vedere la divina verità. Guardate me. Se perdo il mio portafoglio con due o tre dollari, vado venti volte a casa per trovarlo. La ansia, la preoccupazione e la lotta. Se uno di voi mi fa arrabbiare, lo ricordo per vent'anni, non posso dimenticare e perdonare. Per le piccole cose dei sensi posso lottare in questo modo. Chi è che lotta in tal modo per Dio? I bambini dimenticano tutto quando giocano. I giovani impazziscono per il godimento sensoriale e non si curano di altro. I vecchi rimuginano sul loro passato. Shankara. Pensano alle loro gioie. Vecchi che non possono avere alcun godimento. Masticano tabacco, il massimo che possono fare. Nessuno brama Dio con lo stesso intenso spirito con cui bramano le cose dei sensi. Tutti dicono che Dio è la verità, l'unica cosa che realmente esiste. Che lo spirito solo esiste, non la materia. Pure le cose che chiedono a Dio sono raramente spirito. Chiedono sempre cose materiali. Nelle loro preghiere lo spirito non è separato dalla materia. La degradazione, ecco come si è rivelata la religione, sta diventando una vergogna. Ma l'uomo non dovrebbe bramare che solo una cosa, lo spirito, perché lo spirito solo esiste. Quello è l'ideale. Se non potete raggiungerlo ora, dite non posso farlo, quello è l'ideale, lo so, ma non posso ancora seguirlo. Ma non è quello che fate. Degradate la religione al vostro stesso livello e cercate la materia in nome dello spirito. Siete tutti atei, non credete niente se non nei sensi. Proviamo, forse ne verrà qualche beneficio, forse la mia gamba rotta si addrizzerà. Sono infelici le persone malate. Sono grandi adoratori del Signore perché sperano che se lo pregano, Egli li guarirà. Non che questo sia male, se tali preghiere sono oneste e se ricordano che non è religione. Shri Krishna dice, nella Gita, quattro classi di persone mi adorano, gli infelici, i cercatori di cose materiali, gli indagatori e i conoscitori del vero. Le persone che sono infelici si avvicinano a Dio in cerca di sollievo. Se sono malati, lo adorano per essere guariti. Se perdono la loro ricchezza, lo pregano per riaverla. Ci sono altre persone che gli chiedono ogni tipo di cose perché sono piene di desideri. Nome, fama, ricchezza, posizione e così via. Dicono, oh Vergine Maria, ti farò un'offerta se ottengo quello che voglio. Se esaudisci la mia preghiera, venererò Dio e ti darò una parte di ogni cosa. Gli uomini, che non sono così materiali, ma che non hanno fede in Dio, si sentono inclini a conoscerlo. Studiano filosofie, leggono scritture, ascoltano conferenze. Sono gli indagatori. L'ultima classe sono quelli che venerano Dio e lo conoscono. Tutte queste quattro classi di persone sono buone, non cattive, tutte lo venerano. Ma stiamo cercando di essere discepoli. Il nostro solo interesse è conoscere la massima verità. La nostra meta è più elevata. Ci siamo detti grandi parole, realizzazione assoluta e quant'altro. Misuriamo le parole. Veneriamo lo spirito nello spirito, stando sullo spirito e solo spirito. Non ci sarà nessun mondo da nessuna parte. Che rotoli nello spazio a chi importa. Tu stai nello spirito. Quella è la meta. Sappiamo che non possiamo ancora raggiungerla. Non importa, non disperate, non abbassate l'ideale. La cosa importante è, quantomeno pensate al corpo, a voi stessi come materia, come materia non senziente, inerte. Quanto più pensate a voi stessi come essere immortale e splendente, più pensate a voi stessi come spirito immortale e splendente, più bramosi sarete di essere assolutamente liberi dalla materia, dal corpo e dai sensi. Questo è l'intenso desiderio di essere liberi. La quarta e ultima condizione di discepolato è la discriminazione del reale dall'irreale. C'è solo una cosa che è reale, Dio. Per tutto il tempo la mente deve essere rivolta a Lui, dedicata a Lui. Dio esiste, niente altro esiste, tutto il resto va e viene. Qualsiasi desiderio per il mondo è illusione, perché il mondo è irreale. Sempre più la mente deve divenire conscia di Dio solo, finché ogni altra cosa appare come è realmente, irreale. Queste sono le quattro condizioni che chi vuole essere un discepolo deve soddisfare. Senza soddisfarle non potrà entrare in contatto col vero Guru. E anche se è abbastanza fortunato da trovarlo, non riceverà l'impulso che il Guru può trasmettergli. Non possono esserci compromessi riguardo a queste condizioni. Con la soddisfazione di queste condizioni, con tutte queste preparazioni, il loto del cuore del discepolo si aprirà e arriverà l'ape sul fiore che è Lui. Allora il discepolo saprà che il Guru è nel corpo, entro di sé, apre, realizza, attraversa l'oceano della vita, va oltre, attraverso questo terribile oceano e, per misericordia, senza un pensiero di lode o ricompensa, a sua volta aiuta altri ad attraversare. Le affermazioni della religione. Molti di voi ricordano il brivido di gioia con cui nella vostra infanzia vedevate il glorioso sorgere del sole. Tutti voi a volte nella vostra vita vi fermate a guardare il glorioso tramonto del sole e, almeno con l'immaginazione, cercate di penetrare nell'aldilà. Questo di fatto è alla base dell'intero universo. Questo sorgere, questo tramontare nell'aldilà, questo intero universo che nasce dall'ignoto e ritorna di nuovo nell'ignoto, strisciando come un bambino fuori dall'oscurità e strisciandovi di nuovo come un vecchio. Questo nostro universo, l'universo dei sensi, il razionale e l'intellettuale, è limitato da entrambi i lati dall'illimitabile e dall'inconoscibile, dal sempre ignoto. Qui c'è la ricerca, qui l'indagine e qui i fatti. Da questo viene la luce che nota il mondo come religione. Essenzialmente, tuttavia, la religione appartiene al soprassensoriale e non al piano sensoriale. E, oltre ogni ragionamento e non sul piano dell'intelletto, è una visione, un'ispirazione, un'immersione nell'ignoto e nell'inconoscibile che rende l'inconoscibile più che conosciuto, perché non può mai essere conosciuto. Questa ricerca è stata nella mente umana, come credo, fin dall'inizio dell'umanità. Non può esserci stato ragionamento umano e intelletto in nessun periodo della storia del mondo, senza questa lotta, questa ricerca. Nel nostro piccolo universo, questa mente umana, vediamo nascere un pensiero. Da dove nasce non lo sappiamo e quando scompare non sappiamo dove va. Il macrocosmo e il microcosmo sono, come dire, nella stessa modalità e passano attraverso gli stessi stadi, vibrando nella stessa chiave. Cercherò di esporvi la teoria hindù che le religioni non vengono da fuori ma da dentro. È mia convinzione che il pensiero religioso sia nella stessa costituzione dell'uomo, cosicché è impossibile per lui rinunciare alla religione, a meno che non rinunci alla sua mente e al suo corpo, a meno che non fermi il suo pensiero e la vita. Finché un uomo pensa, questa lotta deve andare avanti e fino ad allora l'uomo avrà qualche forma di religione. Vediamo perciò varie forme di religione nel mondo. È uno studio complesso ma non è, come molti di noi pensano, una vana speculazione. In questo caos c'è armonia, in mezzo a questi suoni discordanti c'è una nota di concordia e chi è pronto ad ascoltarla ne coglierà il tono. La grande domanda di tutte le domande attualmente è questa. Dando per scontato che il conoscibile e il conosciuto confinano da entrambe le parti con l'inconoscibile e l'infinitamente sconosciuto, perché lottare per quello sconosciuto? Perché non accontentarsi del conosciuto? Perché non accontentarsi di mangiare, bere e fare un po' di bene alla società? Questa idea è nell'aria. Dal professore più colto al bambino che balbetta ci viene detto fate del bene al mondo, la religione è tutta qui e non arrovellatevi con domande sull'aldilà. Avviene così spesso che la cosa è divenuta un truismo. Ma, fortunatamente, noi dobbiamo indagare nell'aldilà. Questo presente, questo espresso, è solo una parte di quell'inespresso. L'universo sensoriale è, diciamo, solo una parte, un pezzo di quell'infinito universo spirituale proiettato sul piano dei sensi. Come può questa piccola proiezione venire spiegata, capita, senza conoscere quello che c'è al di là. Si dice di Socrate che un giorno, mentre insegnava ad Atene, incontrò un bramana che aveva viaggiato in Grecia e Socrate disse al bramana che lo studio maggiore per l'umanità è l'uomo. E il bramana rispose acutamente, come potete conoscere l'uomo finché non conoscete Dio? Questo Dio, eternamente inconoscibile o assoluto o infinito o senza nome, potete chiamarlo come volete, è l'unica spiegazione, la raison d'etre di quello che è noto e conoscibile, questa vita presente. Prendete davanti a voi qualsiasi cosa, la più materiale, prendete una di queste scienze materialistiche, come la chimica o la fisica, l'astronomia o la biologia, studiatela, spingete lo studio sempre più avanti e le forme grossolane inizieranno a sciogliersi e a divenire sempre più sottili, finché arriveranno ad un punto in cui sarete costretti a fare un tremendo salto da queste cose materiali nelle immateriali. Il grossolano si scioglie nel sottile, la fisica nella metafisica in ogni dipartimento della conoscenza. È così con ogni cosa che abbiamo, la nostra società, le nostre relazioni, la nostra religione e quello che chiamate etica. Ci sono tentativi di produrre un sistema di etica sulla base del concetto di utilità. Sfido chiunque a produrre un tale sistema razionale di etica. Fate del bene agli altri, perché? Perché è della massima utilità. Supponete che un uomo dica, non mi interessa l'utilità, voglio tagliare la gola agli altri e diventare ricco. Cosa rispondereste? Supera addirittura Erode. Ma dov'è la mia utilità nel far del bene al mondo? Sono uno stupido a lavorare tutta la vita per rendere felici gli altri? Perché non dovrei essere felice se non c'è nessun altro essere senziente oltre la società, nessun altro potere nell'universo oltre i cinque sensi. Che cosa mi impedisce dal tagliare la gola ai miei fratelli, finché riesco a non farmi prendere dalla polizia ed essere felice? Cosa rispondereste? Siete costretti a mostrare qualche utilità? Rispondete, amico mio è un bene essere buoni. Che forza ha un essere umano che dice è bene essere buoni, che spiega davanti a noi in una visione gloriosa la grandezza dell'anima, la bellezza della bontà, il potere attrattivo della bontà, l'infinito potere della bontà. Quello è ciò che chiamiamo Dio, no? In secondo luogo voglio addentrarmi in un terreno un po' più delicato. Voglio la vostra attenzione e vi chiedo di non trarre conclusioni affrettate da quello che dico. Non possiamo fare molto bene in questo mondo. Far del bene al mondo è ottimo, ma come possiamo fare molto bene al mondo? Abbiamo fatto molto bene in queste centinaia di anni in cui abbiamo lottato. Abbiamo forse aumentato la somma totale della felicità nel mondo? Migliaia di mezzi vengono creati ogni giorno per condurre alla felicità del mondo e questo è andato avanti per centinaia e migliaia di anni. Io vi chiedo, la somma totale della felicità nel mondo, oggi, è maggiore di quella che era cento anni fa? Non può essere. Ogni onda che si alza nell'oceano deve farlo a spese di un avvallamento da qualche parte. Se una nazione diventa ricca e potente deve essere alle spese di un'altra nazione da qualche parte. Ogni nuova macchina che viene inventata renderà ricche 20 persone e 20 persone più povere. È la legge della competizione che opera. La somma totale dell'energia mostrata resta la stessa. È irragionevole affermare che abbiamo della felicità senza infelicità. Con l'aumento di tutti questi mezzi voi state aumentando i bisogni del mondo e gli aumentati bisogni significano sete insaziabile che non viene mai placata. Cosa può soddisfare questo bisogno o questa sete? Finché c'è questa sete la miseria è inevitabile. È la stessa natura della vita essere felice e infelice volta a volta. E ancora, questo mondo è stato affidato a voi perché gli facciate del bene? Non c'è nessun altro potere all'opera in questo universo? Dio è morto e sepolto e ha lasciato questo universo a voi e a me? L'Eterno, l'Onnipotente, il Misericordioso, il Sempre Sveglio, colui che non dorme mai quando l'universo sta dormendo, i cui occhi non si chiudono mai? Il cielo infinito è, diciamo, il suo occhio sempre aperto. Egli è forse morto e sepolto? Non sta forse agendo in questo universo? Sta procedendo. Non dovete aver fretta, non dovete rendervi infelici. Lo suami a questo punto ha raccontato la storia dell'uomo che voleva un fantasma che lavorasse per lui, ma che quando ebbe il fantasma non poteva mantenerlo impegnato finché non gli diede da raddrizzare la coda di un cane. Tale è il caso nostro con questo far del bene all'universo. Perciò, fratelli miei, stiamo cercando di raddrizzare la coda del cane, da centinaia e migliaia di anni. È come il reumatismo, ve lo fate andar via dai piedi e va alla testa, lo scacciate dalla testa e va da qualche altra parte. Questa sembrerà a molti di voi una visione terribilmente pessimistica del mondo, ma non è così. Sia il pessimismo che l'ottimismo sono sbagliati. Entrambi vanno agli estremi. Finché un uomo ha molto da mangiare, da bere, bei vestiti, è un grande ottimista. Ma quello stesso uomo, quando perde tutto, diventa un grande pessimista. Quando un uomo perde i suoi soldi e diventa molto povero, allora e solo allora, con la massima forza, gli arrivano le idee di fratellanza dell'umanità. Questo è il mondo, e più vado in paesi diversi e conosco questo mondo, e più invecchio, più cerco di evitare questi estremi di ottimismo e pessimismo. Questo mondo non è né buono né cattivo, è il mondo del Signore. È oltre il bene e il male, perfetto in sé. La sua volontà sta andando avanti, mostrando tutti questi quadri differenti, e continuerà senza inizio e senza fine. È una grande palestra in cui voi e Dio e milioni di anime dobbiamo andare ad esercitarci e renderci forti e perfetti. Ecco a cosa serve. Non che Dio non possa fare un universo perfetto, non che non possa aiutare l'infelicità del mondo. Ricordate la storia della giovane Signore e del prete che guardavano entrambi la Luna col telescopio e scoprirono le macchie lunari. Il prete disse, sono certo che sono i campanili di alcune chiese. Sciocchezze, disse la Signora, sono certa che sono degli innamorati che si baciano. E così facciamo con questo mondo. Quando siamo dentro pensiamo di vedere l'interno. A seconda del piano di esistenza in cui siamo, vediamo l'universo. Il fuoco della cucina non è mai buono o cattivo. Quando cuoce un pasto per voi, benedite il fuoco e dite, com'è buono il fuoco. E quando ti brucia il dito, dite, che fastidio che è. Sarebbe ugualmente corretto e logico dire, questo universo non è né buono né cattivo. Il mondo è il mondo e sarà sempre così. Ci apriamo adesso in tal modo che l'azione del mondo ci abbenefica e lo chiamiamo buono. Se ci mettiamo nella posizione in cui è doloroso, lo definiamo cattivo. Così troverete sempre bambini che sono innocenti e gioiosi e non vogliono far male a nessuno e sono molto ottimisti. Fanno sogni dorati. I vecchi, che hanno tutti i desideri nel cuore e non i mezzi per realizzarli, e specialmente quelli che sono stati massacrati parecchio dal mondo, sono molto pessimisti. La religione vuole conoscere la verità. E la prima cosa che ha scoperto è che senza una conoscenza di questa verità non c'è una vita degna di essere vissuta. La vita sarà un deserto, la vita umana sarà vana se non riusciamo a conoscere l'aldilà. Va benissimo dire accontentatevi delle cose del momento presente. Le mucche e i cani si accontentano e così tutti gli animali, ed è questo che li rende animali. Perciò se un uomo si accontenta del presente e rinuncia ad ogni ricerca nell'aldilà, il genere umano dovrà tornare indietro sul piano animale. È la religione, la sua indagine nell'aldilà che fa la differenza tra uomo e animale. È stato ben detto che l'uomo è l'unico animale che naturalmente guarda in alto, ogni altro animale naturalmente guarda in basso. Quel guardare in alto e andare in alto e cercare la perfezione sono quello che è chiamato salvezza. E prima un uomo inizia ad andare più in alto, prima si eleva verso questa idea di verità come salvezza. Non consiste nella quantità di soldi in tasca o del vestito che indossate o della casa in cui vivete, ma nella ricchezza del pensiero spirituale nel vostro cervello. Ecco cosa fa per il progresso umano. Questa è la fonte di ogni progresso materiale e intellettuale, la forza motrice che sta dietro, l'entusiasmo che spinge avanti l'umanità. Qual è ancora la meta dell'umanità? È la felicità? Il piacere sensuale? In tempi antichi dicevano che in cielo suoneranno le trombe e vivranno attorno a un trono. Nei tempi moderni scopro che pensano che questo ideale sia molto debole e dicono di averlo migliorato dicendo che avranno mogli e quant'altro. Se lo chiamano miglioramento è un miglioramento in peggio. Tutte queste varie teorie del paradiso che vengono proposte mostrano debolezza mentale. Ed ecco la debolezza. Primo, pensano che la felicità dei sensi sia la meta della vita. Secondo, non possono concepire niente che sia oltre i cinque sensi. Sono irrazionali come gli utilitaristi. Pure sono molto meglio dei moderni atei utilitaristi. Infine, questa posizione utilitarista è semplicemente infantile. Che diritto avete di dire questo è il mio standard e l'intero universo deve essere governato secondo il mio standard? Che diritto avete di dire che ogni verità dovrebbe essere giudicata secondo il vostro standard, lo standard che predica Dio come più pane e denaro e vestiti? Triste da dire alla fine di questo XIX secolo che questi passano per i più colti, razionali, logici e intelligenti mai visti sulla Terra. Non dobbiamo giudicare cose elevate dal nostro punto di vista. Tutto deve essere giudicato col suo standard e l'infinito deve essere giudicato con lo standard dell'infinito. La religione permea tutta la vita dell'uomo, non solo la presente ma la passata e la futura. È perciò l'eterna relazione tra l'anima eterna e l'eterno Dio. È logico misurare il suo valore con la sua azione sui cinque minuti che dura la vita umana? Certamente no, ma queste sono tutte argomentazioni negative. Ora arriva la domanda. La religione può realmente fare qualcosa? Sì. La religione può portare pane e vestiti? Sì, lo fa sempre e fa molto più di questo. Porta all'uomo la vita eterna. Ha reso l'uomo quello che è e farà di questo animale umano un Dio. Questo è quello che la religione può fare. Togliete la religione dalla società umana. Cosa resterà? Niente altro che una foresta di bestie. Poiché ho appena cercato di mostrarvi che è assurdo supporre che questa felicità sensoriale sia la meta dell'umanità, troviamo che la conoscenza è la meta della vita. Ho cercato di mostrarvi che in queste migliaia di anni di lotta in cerca della verità a beneficio dell'umanità non è stato fatto un progresso che sia appena appena apprezzabile. Ma l'umanità ha fatto grandi progressi nella conoscenza. La maggiore utilità di questo progresso sta non negli agi che apporta ma nel costruire un uomo da questo animale. Poi con la conoscenza naturalmente viene la beatitudine. I bambini pensano che la felicità sensoriale sia la cosa più grande che possono avere. La maggior parte di voi sanno che c'è un godimento più intenso nell'uomo, nell'intelletto piuttosto che nei sensi. Nessuno di voi può sentire lo stesso piacere nel mangiare di quello che prova un cane. Potete notarlo da dove viene il piacere dell'uomo? Non dal cibo, come nel maiale o nel cane. Guardate come mangia il maiale. È inconsapevole dell'universo mentre mangia. La sua intera anima è inchiodata al cibo. Può venire ucciso ma non gli importa quando ha il cibo. Pensate all'intenso godimento che prova il maiale. Nessun uomo ce l'ha. Dove è andato? L'uomo l'ha cambiato in godimento intellettuale. Il maiale non può godere di letture religiose. Questo è un passo avanti ancora rispetto ai vostri piaceri intellettuali ed è il piano spirituale, il godimento spirituale delle cose divine che si trovano sopra la ragione e l'intelletto. Per produrlo dobbiamo aver perso ogni godimento sensoriale. Questa è la massima utilità. L'utilità è quella di cui io godo e di cui ogni altro godo e perseguiamo questo. Scopriamo che l'uomo gode del suo intelletto molto più di quanto un animale goda dei suoi sensi e vediamo che l'uomo gode della sua natura spirituale anche più di quanto gode della sua natura razionale. Perciò la massima saggezza deve essere questa conoscenza spirituale. Con questa conoscenza giungerà la felicità. Tutte queste cose di questo mondo non sono che le ombre, le manifestazioni di terzo o quarto grado della reale conoscenza o beatitudine. È questa la beatitudine che vi giunge attraverso l'amore dell'umanità. L'ombra della beatitudine spirituale è questo amore umano, ma non confondetela con la felicità umana. C'è un grande errore. Confondiamo sempre l'amore che abbiamo, questo amore umano, carnale, questo attaccamento per le particelle, questa attrazione elettrica per gli esseri umani nella società con questa beatitudine spirituale. Siamo inclini a confonderlo con quello stato eterno che invece non è. Per mancanza di altre parole in inglese la chiamo beatitudine, bliss, che significa la stessa cosa di eterna conoscenza e quella è la nostra meta. In tutto il mondo, ovunque ci sia stata una religione e ovunque ci sarà una religione, sono sgorgate e sgorgeranno tutte da una sola fonte, chiamata con vari nomi in vari paesi ed è quella che nei paesi occidentali chiamate ispirazione. Cos'è questa ispirazione? Ispirazione è l'unica fonte di conoscenza religiosa. Abbiamo visto che la religione essenzialmente appartiene al piano oltre i sensi. È dove gli occhi non possono andare o le orecchie e la mente non possono arrivare o quello che le parole non possono esprimere. Quello è il campo e la meta della religione e da questo deriva quello che chiamiamo ispirazione. Ne segue naturalmente perciò che deve esserci un qualche modo di andare oltre i sensi. È perfettamente vero che la nostra ragione non può andare oltre i sensi. Ogni ragionamento avviene entro i sensi e la ragione è basata su fatti che i sensi possono raggiungere. Ma può un uomo andare oltre i sensi? Può un uomo conoscere l'inconoscibile? Si deve decidere su questa intera questione della religione ed è stato deciso. Da tempo in memoria c'è stato quel muro impenetrabile e la barriera dei sensi. Da tempo in memoria centinaia e migliaia di uomini e donne si sono gettati contro questo muro per penetrare al di là. Milioni hanno fallito e milioni sono riusciti. Questa è la storia del mondo. Altri milioni non credono che qualcuno vi sia mai riuscito e questi sono gli scettici di oggi. L'uomo ha non solo ragione, ha non solo i sensi, ma c'è molto in lui che è oltre i sensi. Cercheremo di spiegarlo un po', spero che sentiate che è anche dentro di voi. Io muovo la mano e sento che sto muovendo la mano. La chiamo coscienza, sono conscio, sono consapevole, sono conscio che sto muovendo la mia mano. Ma il mio cuore si muove, non sono conscio di questo, eppure chi sta muovendo il mio cuore? Deve essere lo stesso essere. Perciò vediamo che questo essere che muove le mani e parla, vale a dire agisce consapevolmente, agisce anche inconsapevolmente. Vediamo perciò che questo essere può agire su due piani, uno è il piano della coscienza e l'altro è il piano al di sotto. Gli impulsi dal piano dell'inconscio sono quelli che chiamiamo istinto e quando gli impulsi vengono dal piano della coscienza li chiamiamo ragione. Ma c'è un piano ancora superiore, il superconscio nell'uomo. Questa esperienza è apparentemente la stessa dell'inconscio perché è al di là del piano della coscienza ma è al di sopra della coscienza e non al di sotto. Non è istinto, è ispirazione, ne abbiamo la prova. Pensate a tutti i grandi profeti e saggi prodotti dal mondo, è ben noto come c'erano momenti nelle loro vite, momenti nella loro esistenza in cui erano apparentemente inconsci del mondo esterno. E tutta la conoscenza che successivamente proveniva da loro essi asserivano che veniva acquisita durante questo stato di esistenza. Si dice di Socrate che mentre marciava con l'esercito ci fu una bella alba e questo mise in moto nella sua mente una sequenza di pensieri. Restò fermo per due giorni al sole del tutto inconscio. Furono tali momenti che diedero a Socrate la conoscenza del mondo. E così con tutti i grandi predicatori e profeti ci sono momenti nelle loro vite in cui, come dire, si elevano al di sopra del conscio e quando ritornano a quel piano irradiano luce, portano notizie dall'aldilà e sono gli ispirati veggenti del mondo. Ma c'è un gran rischio. Qualsiasi uomo può dire di essere ispirato, molte volte lo dicono. Dov'è la prova? Durante il sonno siamo inconsci, uno sciocco va a dormire, dorme sodo per tre ore e quando torna da quello stato è lo stesso sciocco se non peggiore. Gesù di Nazareth si trasfigura e quando torna è divenuto Gesù Cristo. La differenza è tutta qui, uno stato è ispirazione e l'altro è istinto. Uno è un bambino e un altro è l'uomo con esperienza. L'ispirazione è possibile per ognuno di noi, è la fonte di tutte le religioni e sarà sempre la fonte di tutta la conoscenza superiore. Pure ci sono grandi rischi lungo questa via. A volte delle persone fraudolente cercano di imporsi sull'umanità. Di questi tempi sta diventando una cosa diffusa. Un mio amico aveva un bellissimo quadro. Un altro signore, che era piuttosto incline alla religione e ricco, aveva messo gli occhi su questo quadro, ma il mio amico non voleva darglielo. Quest'altro signore viene un giorno e dice al mio amico, ho un'ispirazione e ho un messaggio da Dio. Qual è il tuo messaggio? Chiese il mio amico, il messaggio è che devi cedermi quel quadro. Il mio amico era piuttosto sveglio e aggiunse immediatamente, esattamente, che bello, ho avuto la tua stessa ispirazione di doverti cedere il quadro. Hai portato il libretto degli assegni? Assegni? Che assegno? Allora, disse il mio amico, non penso che la tua ispirazione fosse giusta. La mia ispirazione era che dovevo dare il quadro all'uomo che avrebbe portato un assegno di centomila dollari. Prima devi portare l'assegno. L'altro uomo fu colto in fallo e rinunciò alla teoria dell'ispirazione. Questi sono i rischi. Venne da me un uomo a Boston e disse che aveva delle visioni in cui gli veniva ha dettato qualcosa in lingua hindu. Io mi dissi, gli crederò se lo vedo. Ma scrisse una serie di sciocchezze. Feci del mio meglio per capirle, ma una lingua del genere non era mai stata parlata in India, nemmai lo sarà. Non sono diventati abbastanza civili per una lingua del genere. Ovviamente lui pensò che io fossi uno scettico e andò via, e non sarei sorpreso di sapere che ora è il manicomio. Questi sono sempre i due rischi in questo mondo, il rischio di frodi e il rischio di sciocchi. Ma questo non ci deve scoraggiare perché tutte le grandi cose in questo mondo sono piene di rischi. Allo stesso tempo dobbiamo essere un po' cauti. A volte trovo persone che mancano completamente di logica. Viene un uomo e dice, ho un messaggio per te dal tale e tale Dio. Come fate a negarlo? Non è forse possibile che esista il tale e tale Dio e che gli dia un tale messaggio? E il 90% degli sciocchi se la beve. Pensano che questa sia una ragione sufficiente. Ma una cosa dovreste sapere, che è possibile che accada qualsiasi cosa. Possibile che la terra entri in contatto con la stella del cane l'anno prossimo e che vada in pezzi. Ma se io avanzo quest'idea, avete il diritto di alzarvi e di chiedermi di provarvelo. Quello che gli avvocati chiamano onus probandi, onere della prova, spetta all'uomo che ha fatto l'affermazione. Non è vostro dovere provare che io ho ricevuto l'ispirazione da un certo Dio, ma mio, perché vi ho fatto la mia dichiarazione. Se non potete provarlo, fareste meglio a tener la lingua in bocca. Evitate entrambi questi pericoli e potrete andare dove volete. Molti di voi ricevono molti messaggi nelle nostre vite o pensiamo di riceverli. E finché il messaggio riguarda noi stessi, continuate a fare quello che volete, ma quando riguarda il nostro contatto e comportamento con altri, pensate cento volte prima di agire e allora sarete al sicuro. Troviamo che questa ispirazione è l'unica fonte della religione, pure è sempre stata carica di molti rischi. E il più importante sono le eccessive dichiarazioni. Certi uomini si alzano e dicono che hanno una comunicazione da Dio, che sono i messaggeri del Dio Onnipotente e nessun altro ha il diritto di avere quella comunicazione. Questo è irragionevole. Se c'è qualcosa nell'universo deve essere universale. Non c'è un movimento qui che non sia universale, perché l'intero universo è governato da leggi, è sistematico e armonioso dappertutto. Perciò quello che è da qualche parte deve essere da tutte le parti. Ogni atomo nell'universo è costruito sullo stesso piano del Sole e delle stelle più grandi. Se un uomo fu mai ispirato, è possibile per ognuno di noi essere ispirati. E questa è religione. Evitate tutti questi rischi e illusioni e frodi e il fare eccessive dichiarazioni, ma venite faccia a faccia con i fatti religiosi e in diretto contatto con la scienza della religione. La religione non consiste nel credere in certe dottrine e dogmi, nell'andare nelle chiese o nei templi, nel leggere certi libri. Avete visto Dio? Avete visto l'anima? Se no, state lottando per vederla? È qui ed ora e non dovete aspettare il futuro. Cos'è il futuro se non il presente illimitabile? Cos'è tutto il tempo se non un secondo ripetuto continuamente? La religione è qui ed ora, in questa vita presente. Ancora una domanda. Qual è la meta? Oggi si asserisce che l'uomo sta progredendo all'infinito, sempre avanti, e non c'è una meta di perfezione da raggiungere. Mai arrivare, mai raggiungere qualsiasi cosa possa voler dire, e per quanto possa essere meraviglioso, è assurdo. Esiste un moto in linea retta? Una linea retta proiettata all'infinito diventa un cerchio, ritorna al punto di partenza. Dovete finire dove avete iniziato, e poiché avete iniziato in Dio, dovete tornare a Dio. Cosa resta? Dettagli. Per l'eternità dovete fare un lavoro di dettagli. E ancora un'altra domanda. Dobbiamo scoprire nuove verità religiose via via che procediamo? Sì e no. In primo luogo non possiamo sapere niente più di religione, è stato conosciuto tutto. In tutte le religioni del mondo troverete affermato che c'è un'unità dentro di noi. Essendo uno con la divinità, non ci possono essere ulteriori progressi in quel senso. Conoscenza significa vedere questa unità nella varietà. Io vi vedo come uomini e donne e questa è varietà. Diventa conoscenza scientifica quando vi raggruppo insieme e vi chiamo esseri umani. Prendete la scienza della chimica, per esempio. I chimici cercano di risolvere tutte le sostanze note nei loro elementi originari, e se possibile trovare l'unico elemento da cui tutte queste sono derivate. Verrà un tempo in cui troveranno quell'unico elemento. Quella è la fonte di tutti gli elementi. Arrivati a questa non possono procedere oltre. La scienza della chimica sarà divenuta perfetta. E così con la scienza della religione. Se possiamo scoprire questa perfetta unità non può esserci più nessun progresso. Quando fu scoperto che io e mio padre siamo uno, fu detta l'ultima parola nel campo della religione, rimaneva solo il lavoro di dettaglio. Nella vera religione non c'è fede o credo, nel senso di fede cieca. Nessun grande predicatore l'ha mai predicato. Questa viene solo con la degenerazione. Gli sciocchi pretendono di seguire questo o quel gigante spirituale e, anche se possono essere privi di potere, si sforzano di insegnare all'umanità a credere ciecamente. Credere cosa? Credere ciecamente degradare l'anima umana. Siate un ateo, se volete, ma non credete in niente senza farvi domande. Perché degradare l'anima a livello degli animali? Non solo fate del male a voi stessi, ma fate del male alla società e mettete a rischio quelli che vengono dopo di voi. Mettetevi a ragionare. Non abbiate fede cieca. La religione è una questione di essere e divenire, non di credere. Questa è religione e quando avete raggiunto questo avete la religione. Prima di questo non siete migliori degli animali. Non credete in quello che avete udito, dice il grande Buddha. Non credete nelle dottrine perché vi sono state trasmesse attraverso le generazioni. Non credete niente perché è seguito ciecamente da molti. Non credete perché qualche vecchio saggio fa un'affermazione. Non credete nelle verità a cui vi siete attaccati per abitudine. Non credete semplicemente all'autorità dei vostri insegnanti e anziani. Abbiate analisi e discriminazione e quando il risultato si accorta con la ragione e conduce al bene di tutti, accettatelo e vivete secondo esso. Concentrazione. Washington Hall, San Francisco, 16 marzo 1900. Tutta la conoscenza che abbiamo, che sia del mondo esterno o interno, è ottenuta con un solo metodo, con la concentrazione della mente. Nessuna conoscenza può essere ottenuta di nessuna scienza se non concentriamo le menti sul soggetto. L'astronomo si concentra attraverso il telescopio e così via. Se volete studiare la vostra mente occorrerà lo stesso processo. Dovrete concentrare la vostra mente e rivolgerla su se stessa. La differenza in questo mondo tra mente e mente è semplicemente un fatto di concentrazione. Quella che è più concentrata di un'altra ottiene più conoscenza. Nelle vite di tutti i grandi uomini, passati e presenti, troviamo questo tremendo potere di concentrazione. Quelli sono uomini di genio, direte. La scienza dello yoga ci dice che siamo tutti geni se cerchiamo intensamente di esserlo. Alcuni giungeranno in questa vita meglio equipaggiati e cammineranno più velocemente, forse. Possiamo tutti fare lo stesso. Lo stesso potere è in ognuno. Il soggetto di questa conferenza è come concentrare la mente per studiare la mente stessa. Gli yogi hanno stilato certe regole e stasera vi tratteggerò queste regole. La concentrazione ovviamente viene da varie fonti. Attraverso i sensi potete ottenere la concentrazione. Alcuni la ottengono quando odono una bella musica, altri quando vedono un bel panorama, alcuni si concentrano quando si sdraiano su letti di chiodi, altri sedendosi su sassi appuntiti. Questi sono casi straordinari che usano procedure non scientifiche. La procedura scientifica è allenare gradualmente la mente. Qualcuno si concentra tenendo alzato un braccio, la tortura gli dà la concentrazione che vuole, ma sono casi straordinari. Dei metodi universali sono stati organizzati a seconda dei diversi filosofi. Alcuni dicono che lo stato che vogliamo raggiungere è la supercoscienza, andare oltre i limiti che ci ha imposto il corpo. Il valore dell'etica per lo yogi sta nel fatto che rende la mente pura. Più pura è la mente, più facile è controllarla. La mente prende ogni pensiero che nasce e lo agisce. Più crossolana la mente, più difficile è controllarla. L'uomo immorale non potrà mai concentrare la sua mente per studiare psicologia. Può avere un lieve controllo all'inizio e acquisire una certa capacità di ascolto. La difficoltà è che, se studiate attentamente, vedrete come il potere straordinario non è stato raggiunto con un regolare allenamento scientifico. Gli uomini che col potere della magia controllano serpenti saranno uccisi dai serpenti. L'uomo che raggiunge un potere straordinario alla lunga soccomberà a quegli stessi poteri. In India ci sono milioni di persone che acquisiscono poteri con ogni tipo di mezzo. La vasta maggioranza di essi muore pazzo. Un discreto numero si suicida, con la mente fuori equilibrio. Lo studio deve essere fatto in modo scientifico, lento, pacifico. Il primo requisito è essere morali. Un tale uomo vuole che gli dei scendano ed essi lo faranno e si manifesteranno. Questa è in essenza la nostra psicologia e filosofia, essere perfettamente morali. Pensate solo a cosa significa. Nessuna offesa, perfetta purezza, perfetta austerità, queste sono assolutamente necessarie. Pensate solo se un uomo potesse raggiungere queste qualità nella loro perfezione. Cos'altro volete se è il libro da ogni nemicizia verso altri esseri? Tutti gli animali rinunceranno in sua presenza ad ogni nemicizia. Gli yogi danno leggi molto rigide, così che un uomo non può passare per caritatevole senza esserlo. Il mio vecchio maestro, era solito dire, quando il loto del cuore è fiorito, le api vengono da sole. Uomini così non hanno bisogno di parlare. Quando l'uomo è perfetto nel suo cuore senza un pensiero di odio, tutti gli animali rinunciano al loro odio davanti a lui. E così con la purezza. Queste cose sono necessarie per la nostra interazione con i nostri simili. Dobbiamo amare tutti. Non è affar nostro guardare le colpe degli altri non fa bene. Non dobbiamo nemmeno pensarci. È affar nostro pensare al bene. Non siamo qui per interessarci delle colpe. È affar nostro essere buoni. Ecco che viene Mistal dei tali, dice, diventerò una yogi. Dice le notizie venti volte, medita per cinquanta giorni, poi dice, non c'è niente in questa religione, ho provato o non c'è niente. La vera base della vita spirituale non è là. La base deve essere questa perfetta moralità. Questa è la grande difficoltà. Nel nostro paese ci sono sette vegetariane. La mattina spargono per terra lo zucchero per le formiche. Dice una storiella che quando uno di loro metteva lo zucchero per le formiche, un altro pestò per sbaglio le formiche. Il primo disse, accidenti, hai ucciso le formiche, e gli diede un tal colpo che uccise l'uomo. La purezza esterna è molto facile, tutto il mondo la pratica. Se un certo modo di vestire esprime la moralità, qualsiasi scioccolo può fare. Quando si ha a che fare con la mente, il lavoro è più duro. Perdiamo continuamente di vista il reale significato delle cose. Vediamo in India masse di persone che fanno il bagno venti volte al giorno a volte, rendendosi molto pure, e non toccano nessuno, né le cose esterne. Se si darete al bagno, i pesci sono gli esseri più puri. Fare il bagno, i vestiti e la temperanza nel cibo, tutte queste cose hanno il loro valore quando sono complementari alle spirituali. Aiutano se capite giustamente, ma se non vengono capite giustamente sono degradanti. Questo il motivo per cui sto spiegando queste cose. Primo, perché in tutte le religioni ogni cosa degenera se praticata dagli ignoranti. Un'altra cosa, la spiritualità evapora quando dicono questo è giusto e questo è sbagliato. Tutte le discussioni sono nelle formule, nei dogmi, mai nello spirito. I buddhisti hanno offerto per anni delle gloriose predicazioni. Gradualmente questa spiritualità evaporò. E poi iniziò la discussione se sono tre dei in uno o uno in tre, quando nessuno vuole andare da Dio e conoscerlo. Dobbiamo andare da Dio per sapere se è tre in uno o uno in tre. Ora parliamo di postura. Cercando di controllare la mente, una certa postura è necessaria. Qualsiasi postura in cui possiate sedere comodamente, quella è la postura per ognuno. Di regola vedrete che la colonna spinale deve essere lasciata libera. Non è intesa per sostenere il peso del corpo. L'unica cosa da ricordare è la postura seduta. Usatene una qualsiasi in cui la spina sia perfettamente libera dal peso del corpo. Poi pranayama, gli esercizi di respirazione. Si dà molta importanza alla respirazione. Quello che vi sto dicendo non è qualcosa uscito da qualche setta indiana. È vero universalmente. Proprio come in questo paese insegnate ai vostri figli certe prighiere, in India insegnano ai bambini certi fatti. Ai bambini non si insegna in India nessuna religione a parte una o due prighiere. Poi iniziano a cercare qualcuno con cui possano entrare a un rapport. Vanno da diverse persone e scoprono che questo è l'uomo che fa per me e ricevono un'iniziazione. Se sono sposato, mia moglie può anche avere un altro insegnante, mio figlio o qualcun altro e questo sarà sempre il mio segreto tra me e il mio maestro. La religione della moglie non viene conosciuta dal marito e lui non osa chiederglielo. È ben noto che non lo direbbe mai. È noto solo a quella persona e al maestro. Ognuno porta il suo fardello ed è aiutato a seconda della sua mente particolare. È una questione individuale. Lui, il maestro e Dio. Ma ci sono certi metodi che sono insegnati da tutti i maestri. Respirare e meditare sono universali. Questa è la devozione in India. Sulle rive del Gange vedremo uomini, donne e bambini che praticano la respirazione e la meditazione. Ovviamente hanno altre cose da fare. Non possono dedicare molto tempo a questo. Ma quelli che hanno intrapreso questo come lo studio della loro vita praticano vari metodi. Ci sono 84 diverse asana, posture. Poi viene dharana, concentrazione. Dharana tiene la mente in certi punti. Il ragazzo e la ragazza hindu riceve l'iniziazione. Riceve dal guru una parola. Questa è chiamata la parola radice. Questa parola è data al guru dal suo guru e lui la dà al suo discepolo. Una tale parola è om. Tutti questi simboli hanno un grande significato e lo tengono segreto e non lo scrivono mai. Devono riceverlo all'orecchio, non per scritto, dall'insegnante e poi considerarlo come Dio stesso. Poi meditano sulla parola. Una volta pregai in questo modo per tutta una stagione delle piogge per quattro mesi. Ero solito alzarmi a fare un bagno nel fiume e con tutti i vestiti bagnati ripetevo il mantra fino al tramonto. Poi mangiavo qualcosa, un po' di riso o qualcosa. Quattro mesi nella stagione delle piogge. La mente indiana crede che non ci sia niente al mondo che non possa essere ottenuto. Se un uomo vuole denaro in questo paese dovrà lavorare per guadagnarlo. Lai invece ottiene una formula e siede sotto un albero e crede che arriverà il denaro. Tutto deve arrivare per il potere del suo pensiero. Qui è la stessa cosa perché investite tutta la vostra energia nel far soldi. Ci sono alcune sette chiamate Ata Yogi. Dicono che il massimo bene è impedire al corpo di morire. Il loro intero processo è attaccarsi al corpo. 12 anni di addestramento. E iniziano da bambini piccoli, altrimenti è impossibile. Una cosa molto curiosa sullo Ata Yogi. Quando diventa un discepolo va nel deserto e vive da solo per esattamente 40 giorni. E impara tutto in quei 40 giorni. Un uomo a Calcutta dice di essere vissuto 500 anni. La gente mi ha detto che lo avevano visto i loro nonni. Entra in acqua, si copre di fango dalla testa ai piedi. Poi si tuffa ancora in acqua e si ricopre di fango. Non ci vedo niente di buono. I serpenti dicono vivono 200 anni. Deve essere molto vecchio perché ho viaggiato 14 anni in India e dovunque andavo tutti lo conoscevano. Ha viaggiato per tutta la vita. Lo Ata Yogi inghiotta un pezzo di gomma lungo 80 pollici e poi lo ritira fuori. Per quattro volte al giorno lava ogni parte del suo corpo, parti interne ed esterne. Le mura possono restare pulite per migliaia di anni. E allora? Non vorrei vivere così a lungo. Un piccolo corpo con tutte le sue illusioni e limitazioni è sufficiente. Ci sono altre sette. Vi danno una goccia dell'elisir di vita e restate giovani. Mi ci vorrebbero mesi per enumerare tutte le sette. Tutta la loro attività è sul mondo materiale. Ogni giorno una nuova setta. Il potere di tutte queste sette è nella mente. La loro idea è tenere la mente. Prima concentrarla e poi tenerla in un certo punto. In genere dicono in certe parti del corpo lungo la colonna spinale o sui centri nervosi. Tenendo la mente sui centri nervosi, lo Yogi ottiene il potere sul corpo. Il corpo è la grande causa di disturbo della sua pace. È opposto al suo più alto ideale. Perciò egli vuole il controllo. Mantenere il corpo come servo. Poi viene la meditazione. Questo è lo stato superiore. Quando la mente è piena di dubbi questo non è il suo grande stato. Il suo grande stato è la meditazione. Vede le cose senza identificarsi con niente. Finché io sento dolore mi sono identificato col corpo. Quando sento gioia o piacere mi sono identificato col corpo. Ma nello stato elevato guarderò con lo stesso piacere o felicità il piacere o il dolore. Ogni meditazione è una diretta supercoscienza. Nella perfetta concentrazione l'anima diventa realmente libera dai legami del corpo fisico e conosce se stessa come è. Qualsiasi cosa uno vuole la ottiene. Il potere e la conoscenza sono già là. L'anima si identifica con quella che è materia impotente e per questo soffre. Si identifica con le forme mortali ma se quell'anima libera vuole esercitare qualche potere lo avrà. Se non lo vuole non verrà. Chi ha conosciuto Dio è divenuto Dio. Non c'è niente di impossibile a una tale anima. Nessuna morte o nascita per lei. È libera per sempre. Maometto San Francisco Bay Area 25 marzo 1900. L'antico messaggio di Krishna ne armonizza tre. Quello di Buddha, di Cristo e di Maometto. Ognuno dei tre propose un'idea e la portò all'estremo. Krishna precede tutti gli altri profeti. Pure potremmo dire che Krishna prende le antiche idee e le sintetizza anche se il suo messaggio è il più antico. Il suo messaggio fu sommerso dall'onda del buddismo. Oggi è il messaggio tipico dell'India. Oggi pomeriggio prenderò in esame Maometto e vi esporrò l'opera di un grande profeta arabo. Maometto, da giovane, non si curava molto della religione. Era incline a far soldi. Era considerato un giovane molto bello. C'era una ricca vedova che si innamorò di questo giovane e si sposarono. Quando Maometto era divenuto imperatore di gran parte del mondo, con gli imperi romano e persiano sotto i suoi piedi, aveva molte mogli. Quando un giorno gli fu chiesto quale moglie preferisse, indicò la sua prima moglie, perché lei fu la prima a credere in me. Voi donne avete fede, acquisite indipendenza, acquisite tutto, ma non perdete quella caratteristica delle donne. Il cuore di Maometto era disgustato dal peccato, dall'idolatria e dalla finta adorazione, dalle superstizioni e dai sacrifici umani e così via. Abbiamo sempre fretta, ma se si deve fare un grande lavoro deve esserci una grande preparazione. Dopo aver molto pregato notte e giorno, Maometto iniziò ad avere sogni e visioni. Gli apparve Gabriele in sogno e gli disse che era il messaggero della verità. Gli disse che il messaggio di Gesù, Mosè e di tutti i profeti sarebbe andato perduto e gli chiese di andare a predicarlo. Vedendo che i cristiani predicavano la politica nel nome di Gesù, vedendo che i persiani predicavano il dualismo, Maometto disse il nostro Dio è un solo Dio, è il Signore di tutto ciò che esiste, non c'è confronto tra lui e qualsiasi altro Dio. Dio è Dio, non c'è filosofia, nessun complicato codice etico. Il nostro Dio è uno senza un secondo e Maometto è il suo profeta. Maometto iniziò a predicare nelle strade della Mecca, iniziarono a perseguitarlo e scappò nella città di Medina. Iniziò a combattere e l'intero popolo si unì a lui. L'islamismo inondò il mondo nel nome del Signore, un tremendo potere conquistatore. Voi, popolo, avete idee dure e così piene di superstizioni e pregiudizi. Questi messaggeri dovevano essere venuti da Dio, altrimenti come avrebbero potuto essere così grandi. Voi guardate ogni difetto, ognuno di noi ha i suoi difetti, chi non ne ha. Posso indicarvi molti difetti degli ebrei. Le persone cattive cercano sempre i difetti. Le mosche vanno a cercare le piaghe, mentre le api cercano solo il miele dei fiori. Non seguite la via delle mosche, ma quella delle api. Maometto sposò molte mogli in seguito. I grandi uomini potevano sposare 200 mogli. Le personalità delle grandi anime sono misteriose. I loro metodi sono insondabili. Non dobbiamo giudicarli. Cristo può giudicare Maometto. Chi siamo voi e Dio? Bambini. Cosa ne sappiamo di queste grandi anime? L'islamismo iniziò come un messaggio per le masse. Il primo messaggio fu uguaglianza. C'è una religione? Amore. Non più questioni di razza, colore o altro. Unitevi. Il grande messaggio era perfettamente semplice. Credete in un Dio, il creatore di cielo e terra. Tutto fu creato da lui dal niente, non fate domande. I loro templi sono come chiese protestanti. Niente musica, né quadri, né immagini. Un pulpito in un angolo e su quello sta il Corano. Le persone stanno in fila. Nessun prete, nessuna persona, nessun vescovo. L'uomo che prega sta al lato dei fedeli. Alcune parti sono belle. Questi antichi erano tutti messaggeri di Dio. Io mi inchino e li venero, prendo la polvere dei loro piedi. Ma sono morti e noi siamo vivi. Dobbiamo andare avanti. La religione non è un'imitazione di Gesù o di Moometto. Anche se un'imitazione è buona, non è mai genuina. Non siate un'imitazione di Gesù, ma siate Gesù. Siete grandi come Gesù, Buddha o chiunque altro. Se non lo siamo, dobbiamo lottare per esserlo. La maggiore religione deve essere fedele alla nostra natura. Abbiate fede in voi stessi. Se non esistete, come può esistere Dio o chiunque altro? Ovunque siate, è questa mente che percepisce anche l'infinito. Io vedo Dio, perciò esiste. Se non posso pensare a Dio, Egli non esiste per me. Questa è la grande marcia del nostro progresso umano. Queste grandi anime sono dei segnali che ci indicano la via. Ecco quello che sono. Dicono avanti, fratelli. Noi ci attacchiamo a loro, non vogliamo mai muoverci. Non vogliamo pensare, vogliamo che altri pensino per noi. I messaggeri compiono la loro missione, chiedono di alzarci e di fare. Cento anni dopo ci attacchiamo al loro messaggio e poi andiamo a dormire. Parlare di fede, credo, è facile, ma è così difficile costruire la personalità e fermare l'onda dei sensi. Soccombiamo, diveniamo ipocriti. La religione non è una dottrina, non è una regola, è un processo. Tutto qui. Le regole servono per l'esercizio. Con l'esercizio diventiamo forti e alla fine rompiamo i legami e diveniamo liberi. La dottrina non serve se non per la ginnastica. Attraverso l'esercizio l'anima diventa perfetta. Quell'esercizio si ferma quando dite io credo. Ogni volta che la virtù diminuisce e l'immoralità abbonda assumo forma umana. In ogni epoca vengo per salvare i buoni, per distruggere i malvagi, per stabilire la spiritualità, dice la Ghita. Ecco i grandi messaggeri di luce. Sono i nostri grandi insegnanti, i nostri fratelli maggiori, ma noi dobbiamo fare la nostra strada. Il messaggio di Buddha al mondo. San Francisco, 18 marzo 1900. Il buddismo è storicamente la religione più importante, storicamente non filosoficamente, perché fu il più tremendo movimento religioso che il mondo abbia mai visto, la più gigantesca onda spirituale che si sia mai infranta sulla società umana. Non c'è civiltà su cui il suo effetto non sia stato sentito in un modo o nell'altro. I seguaci di Buddha erano molto entusiasti e missionari in spirito. Furono i primi tra gli aderenti alle varie religioni a non accontentarsi della sfera limitata della loro madre chiesa. Si dispersero in tutto il mondo, viaggiarono ad est e a ovest, a nord e a sud, arrivarono nel più oscuro Tibet, andarono in Persia, in Asia Minore, andarono in Russia, in Polonia e in molti altri paesi del mondo occidentale. Andarono in Cina, Corea, Giappone, andarono in Siam, Burma, le Indie orientali e oltre. Quando Alessandro il Grande, con le sue conquiste militari, portò il mondo mediterraneo a contatto con l'India, la saggezza dell'India trovò un canale attraverso cui diffondersi su vaste parti dell'Asia e dell'Europa. I preti buddhisti andarono ad insegnare tra le differenti nazioni e mentre insegnavano, la superstizione e l'autorità del clero iniziarono a svanire come nebbia davanti al sole. Per capire bene questo movimento dovreste conoscere le condizioni che esistevano in India al tempo in cui venne Buddha, proprio come per capire la cristianità dovreste conoscere lo stato della società ebraica al tempo di Cristo. È necessario che abbiate un'idea della società indiana 600 anni prima della nascita di Cristo. A quel tempo la civiltà indiana aveva quasi completato la sua crescita. Quando studiate la civiltà dell'India scoprite che è morta e rinata varie volte. Questa è la sua particolarità. Gran parte delle razze nascono una volta e declinano per sempre. Ci sono due tipi di popoli, quelli che crescono continuamente e quelli la cui crescita finisce. Le nazioni pacifiche, l'India e la Cina cadono, crescono di nuovo, ma le altre, una volta cadute non ricrescono più, muoiono. Benedetti costruttori di pace, perché godranno della terra. Al tempo in cui nacque Buddha, l'India aveva bisogno di una grande guida spirituale, un profeta. C'era già una corposa massa di preti. Capirete meglio la situazione se ricordate la storia degli ebrei, come avessero due tipi di guide religiose, preti e profeti. I preti tenevano le persone nell'ignoranza e instillavano la superstizione nelle loro menti. I metodi di devozione prescritti dei preti erano solo un mezzo con cui poter dominare il popolo. In tutto il Vecchio Testamento trovate i profeti che sfidano le superstizioni dei preti. Il risultato di questa lotta fu il trionfo dei profeti e la sconfitta dei preti. I preti credono che ci sia un Dio, ma che questo Dio possa essere avvicinato e conosciuto solo attraverso di loro. Le persone potevano entrare nel Santo dei Santi solo col permesso dei preti. Voi dovete pagarli, venerarli, porre tutto nelle loro mani. In tutta la storia del mondo questa tendenza dei preti è rispuntata più volte, questa tremenda sete di potere, questa sete simile a una tigre che sembra parte della natura umana. I preti vi dominano, vi impongono mille regole, descrivono semplici verità in modi roboanti, vi raccontano storie per sostenere la loro posizione superiore. Se volete far qualcosa in questa vita o andare in paradiso dopo la morte dovete passare nelle loro mani, dovete effettuare ogni tipo di cerimonie e rituali. Tutto questo ha reso la vita così complicata e ha così confuso il cervello che se vi dico parole semplici andate a casa insoddisfatti. Vi siete fatti ubriacare, meno capite meglio vi sentite. I profeti vi hanno avvertito contro i preti e le loro superstizioni e macchinazioni, ma la vasta massa di persone non ha imparato ancora da retta a questi suggerimenti. Devono ancora essere educati. Gli uomini devono ancora essere educati. Parlano di democrazia, di uguaglianza di tutti gli uomini in questi giorni, ma come farà un uomo a sapere che è uguale a tutti? Deve avere un forte cervello, una mente chiara, libera da idee insensate, deve penetrare attraverso la massa di superstizioni che incrostano la sua mente e arrivare alla pura verità che è nel suo sé più intimo. Allora saprà che tutte le perfezioni, tutti i poteri sono già dentro di lui, che non gli sono stati dati da altri. Quando realizza questo, diventa libero in quello stesso istante, raggiunge l'uguaglianza. Realizza anche che ogni altro è ugualmente perfetto come lui e non deve esercitare nessun potere fisico, mentale o morale sul suo fratello. Abbandona l'idea che ci sia mai stato un altro uomo inferiore a lui. Allora può parlare di uguaglianza non prima di allora. Ora, come vi stavo dicendo, tra gli ebrei c'era una continua lotta tra i preti e i profeti e i preti cercavano di monopolizzare il potere e la conoscenza finché essi stessi iniziarono a perdere il popolo e le catene che gli avevano messo furono sui loro stessi piedi. I padroni divengono sempre schiavi dopo non molto tempo. Il culmine della lotta fu la vittoria di Gesù di Nazareth. Questo trionfo alla storia della cristianità. Cristo alla fine riuscì a ribaltare la massa di stregonerie. Questo grande profeta uccise il drago dell'egoismo clericale, sottrasse alle sue grinfie il gioiello della verità e lo diede a tutto il mondo, cosicché chiunque desiderasse possederlo avrebbe avuto l'assoluta libertà di farlo e non avrebbe dovuto aspettare il permesso dei preti. Gli ebrei non furono mai una razza molto filosofica, non avevano la sottigliezza del cervello indiano, ne avevano il potere psichico degli indiani. I preti in India, i bramini, possedevano grandi poteri intellettuali e psichici. Furono loro ad iniziare lo sviluppo spirituale in India e realizzarono cose meravigliose. Ma venne il tempo in cui scomparve il libero spirito dello sviluppo che avevano attuato i bramini all'inizio. Iniziarono ad arrogarsi poteri e privilegi. Se un bramino uccideva un uomo non veniva punito. Il bramino, per la sua stessa nascita, è il signore dell'universo. Anche il bramino più malvagio deve essere venerato. Ma mentre i preti fiorivano esistevano anche i poeti profeti chiamati sanyasin. Tutti l'indù, di qualsiasi casta possano essere, che per raggiungere la spiritualità rinunciano al loro lavoro e si preparano alla morte. Il mondo non è più di interesse per loro, devono uscirne e diventare sanyasin. I sanyasin non hanno niente a che fare con le duemila cerimonie che i preti hanno inventato, pronunciare certe parole, dieci sillabe, venti sillabe e così via. Tutte queste cose sono insensate. Perciò questi poeti profeti dell'antica India ripudiavano i modi dei preti e dichiaravano la semplice verità. Cercavano di infrangere il potere dei preti e un po' ci riuscirono. Ma dopo due generazioni i loro discepoli tornarono alle superstizioni e ai modi contorti dei preti. divennero preti essi stessi. Potete tenere la verità solo attraverso di noi. La verità divenne di nuovo cristallizzata e di nuovo i profeti arrivarono a rompere le incrostazioni, a liberare la verità e così via. Sì, ci deve essere tutto il tempo l'uomo, il profeta, oppure l'umanità morrà. Vi chiedete perché ci devono essere tutti questi metodi contorti dei preti? Perché non potete arrivare direttamente alla verità? Vi vergognate della verità di Dio al punto da dovervi nascondere dietro ogni genere di intricate formule e cerimonie? Vi vergognate della verità di Dio al punto da non poter confessare la sua verità davanti al mondo? Definite questo essere religiosi e spirituali? I preti sono le sole persone adatte alla verità. Le masse non sono adatte ad essa. La verità deve essere diluita. Annacquatela un po'. Prendete il discorso della montagna e la ghita. Sono la semplicità in sé. Anche l'uomo della strada li capisce. Che grandezza! In essi trovate la verità è rivelata chiaramente e semplicemente. Ma no, i preti non accettano che la verità venga scoperta così direttamente. Parlano di duemila paradisi e di duemila inferni. Se la gente segue le loro prescrizioni andrà in paradiso. Se non obbediscono alle regole andranno all'inferno. Ma le persone apprenderanno la verità? Alcuni temono che se viene loro data la verità farà loro male. Non dovrebbe essere data loro la verità non qualificata, così dicono. Ma il mondo non è migliorato molto col compromettere la verità. Come potrebbe essere peggiore di com'è già? Tirate fuori la verità. Se è reale farà del bene. Quando le persone protestano e propongono altri metodi, stanno solo sdoganando la stregoneria. L'India ne era piena ai tempi di Buddha. C'erano masse di persone a cui era sbarrata la conoscenza. Se solo una parola dei Veda entrava nelle orecchie di un uomo, questo riceveva una terribile punizione. I preti avevano reso segreti Veda, i Veda che contenevano le verità spirituali scoperte dagli antichi Hindu. Alla fine un uomo non poteva tollerarlo più. Aveva il cervello, il potere e il cuore, un cuore infinito come il vasto cielo. Sentiva come le masse venivano guidate dai preti e come i preti si stavano glorificando del loro potere e voleva fare qualcosa al riguardo. Non voleva nessun potere su nessuno e voleva spezzare i legami mentali e spirituali degli uomini. Il suo cuore era grande. Molti attorno a noi possono avere cuore e vogliamo aiutare gli altri, ma non abbiamo il cervello. Non conosciamo i modi e i mezzi con cui poter aiutare. Ma quest'uomo aveva il cervello per scoprire mezzi di rompere i legami delle anime. Capì perché gli uomini soffrono e trovò il modo per uscire dalla sofferenza. Era un uomo di realizzazione, sperimentava tutto, insegnava a tutti senza distinzione e faceva loro realizzare la pace dell'illuminazione. Questo era l'uomo Buddha. Sapete, dal poema di Arnold, La luce dell'Asia, come Buddha fosse nato principe e come l'infelicità del mondo lo colpisse profondamente. Come anche se allevato e vissuto nel lusso non potesse trovare conforto nella sua personale felicità e sicurezza. Come rinunciasse al mondo lasciando la sua principessa e il figlio appena nato dietro di lui. Come vagasse cercando la verità da un insegnante all'altro e come alla fine raggiungesse l'illuminazione. Sapete della sua lunga missione, dei suoi discepoli, delle sue organizzazioni. Tutti voi conoscete queste cose. Buddha fu il trionfo nella lotta che si era svolta tra preti e profeti in India. Una cosa si può dire di questi preti indiani. Non erano e non sono mai intolleranti da un punto di vista religioso. Non hanno mai perseguitato la religione. A qualsiasi uomo era permesso predicare contro di loro. Così è la loro religione. Non hanno mai molestato nessuno per le sue vedute religiose, ma soffrivano della particolare debolezza di tutti i preti. Cercavano il potere. Promulgavano regole e regolamenti che rendevano complicata la religione senza nessuna necessità e perciò minavano la forza di quelli che seguivano la loro religione. Buddha tagliò tutte queste escrescenze. Predicava le verità più tremende. Insegnò il succo della filosofia dei veda a tutti, senza distinzioni. Lo insegnò a tutto il mondo, perché uno dei grandi messaggi era l'uguaglianza degli uomini. Gli uomini sono tutti uguali, nessuna concessione a nessuno. Buddha fu il grande predicatore dell'uguaglianza. Ogni uomo e donna ha lo stesso diritto di raggiungere la spiritualità. Questo era il suo insegnamento. La differenza tra i preti e le altre caste veniva abolita. Anche i più bassi avevano il diritto alle realizzazioni superiori. Aprì le porte del nirvana a tutti. I suoi insegnamenti erano audaci anche per l'India. Nessuna predica può mai scioccare l'anima indiana, ma fu duro per l'India buttar giù la dottrina di Buddha. Quanto più duro deve essere per voi? La sua dottrina era questa. Perché c'è l'infelicità nella nostra vita? Perché siamo egoisti. Desideriamo cose per noi. Ecco perché c'è infelicità. Qual è la via d'uscita? Rinunciare al sé. Il sé non esiste. Il mondo fenomenico, tutto questo che percepiamo, è tutto quello che esiste. Non c'è una cosa chiamata anima che sia dietro il ciclo di vita e morte. C'è una corrente di pensiero, un pensiero che ne segue un altro in successione. Ogni pensiero entra nell'esistenza e diventa non esistente nello stesso momento. Questo è tutto. Non c'è nessun pensatore del pensiero, nessuna anima. Il corpo cambia tutto il tempo, così la mente, la coscienza, il sé perciò è un'illusione. Tutto l'egoismo viene dall'aggrapparsi al sé, al sé illusorio. Se sappiamo la verità, che non c'è nessun sé, allora saremo felici e faremo felici gli altri. Questo era quello che insegnava Buddha e non si limitava a parlare, era pronto a rinunciare alla sua vita per il mondo. Diceva, se sacrificare un animale è bene, sacrificare un uomo è meglio, e offriva se stesso in sacrificio. Dio è solo una superstizione inventata dai preti. Se c'è un Dio, come predicano questi bramini, perché c'è tanta infelicità nel mondo? Egli è come me, schiavo della legge di causalità. Se non è legato dalla legge di causalità, allora perché crea? Un tale Dio non è affatto soddisfacente. C'è il governatore in cielo, che governa l'universo secondo la sua dolce volontà, e ci lascia qui a morire nell'infelicità. Non ha mai la bontà di guardarci per un momento. La nostra intera vita è continua sofferenza, ma questa non è una punizione sufficiente. Dopo la morte dobbiamo andare nei posti in cui abbiamo altre punizioni. Pure effettuiamo continuamente ogni tipo di riti e cerimonie per compiacere questo creatore del mondo. Buddha diceva, questi cerimoniali sono tutti sbagliati, c'è solo un ideale nel mondo. Distruggete tutte le illusioni. Quello che è vero rimarrà. Non appena le nubi se ne saranno andate, il sole brillerà. Come uccidere il sé? Divenendo perfettamente privi di egoismo, pronti a rinunciare alla propria vita anche per una formica. Non lavorate per nessuna superstizione, per piacere o qualche Dio, per avere qualche ricompensa, ma perché cercate la vostra liberazione uccidendo il vostro sé. La devozione, la preghiera e tutto il resto sono cose insensate. Dite tutti ringrazio Dio, ma dove vive Dio. Non lo sapete, eppure impazzite tutti per Dio. Gli hindù possono rinunciare a tutto, eccetto che al loro Dio. Negare Dio per loro è togliere lo stesso terreno su cui posano i piedi della devozione. Gli hindù devono aggrapparsi alla devozione e a Dio. Non possono lasciarli. E qui, negli insegnamenti di Buddha, non c'è Dio e non c'è anima, semplicemente lavoro. Per cosa? Non per il sé, perché il sé è un'illusione. Saremo noi stessi quando questa illusione sarà svanita. Pochissimi ci sono nel mondo che possono sollevarsi a quell'altezza e lavorare per amore del lavoro. Pur la religione del Buddha si diffuse velocemente. Fu per l'amore meraviglioso che, per la prima volta nella storia dell'umanità, scorreva da un grande cuore e si dedicava al servizio non solo di tutti gli uomini, ma di tutte le cose viventi. Un amore cui non importava di niente se non di trovare una via di liberazione dalla sofferenza per tutti gli esseri. L'uomo stava amando Dio e si era dimenticato di tutti i suoi fratelli. L'uomo che nel nome di Dio può rinunciare alla sua stessa vita, può anche voltarsi e uccidere un suo fratello nel nome di Dio. Quello era lo stato del mondo. Avrebbero sacrificato il figlio per la gloria di Dio. Avrebbero insanguinato la terra per la gloria di Dio. Quella fu la prima volta che si rivolsero all'altro Dio, l'uomo. È l'uomo che deve essere amato. Fu la prima ondata di intenso amore per tutti gli uomini. La prima ondata di vera saggezza non adulterata, che partendo dall'India gradualmente inondò paese dopo paese, nord, sud, ovest, est. Questo insegnante voleva far brillare la verità come verità. Nessun compromesso, nessun ammorbidimento, nessuna lusinga ai preti, ai potenti, ai re. Nessun inchino davanti alle tradizioni superstiziose per quanto grandi. Nessun rispetto per le forme e i libri solo perché venivano dal lontano passato. Rifiutò tutte le scritture, tutte le forme di pratiche religiose. Lo stesso linguaggio, il sanscrito, in cui era stata tradizionalmente insegnata la religione in India, fu da lui rigettato così che i suoi seguaci non avrebbero avuto nessuna possibilità di instillare nei suoi insegnamenti le superstizioni che erano associate a quella lingua. C'è un altro modo di guardare la verità che abbiamo discusso, il modo Hindu. Noi diciamo che la grande dottrina del Buddha, dell'assenza di sé, può essere compresa meglio se la guardiamo a modo nostro. Nelle Upanishad c'è già la grande dottrina dell'Atman e del Brahman. L'Atman, il sé, è lo stesso di Brahman, il Signore. Il sé è tutto quello che è, è l'unica realtà. Maya, l'illusione, me lo fa vedere come è differente. C'è un solo sé, non molti. Quell'unico sé splende in varie forme. L'uomo è fratello dell'uomo perché tutti gli uomini sono uno. Un uomo è non solo mio fratello, dicono i Veda, è me stesso. Ferendo una qualsiasi parte dell'universo, io ferisco me stesso. Io sono l'universo. È un'illusione che io pensi di essere il Signor tal dei tali. Quella è illusione. Più vi avvicinate al vostro vero sé, più questa illusione svanisce. Più scompaiono tutte le differenze e divisioni, più realizzate tutto come una divinità. Dio esiste, ma non è l'uomo seduto sul trono delle nuvole. È puro spirito. Dove risiede? Più vicino a voi del vostro stesso sé. È l'anima. Come potete percepire, Dio separato è differente da voi stessi. Quando pensate a lui come a qualcuno di separato da voi, non lo conoscete. Egli è voi stesso. Questa era la dottrina dei profeti dell'India. È egoismo che pensiate di essere il Signor tal dei tali e che tutto il mondo sia diverso da voi. Tu credi di essere diverso da me. Non pensi a me. Vai a casa, pranzi e dormi. Se io muoio o tu continui a mangiare e bere ed essere contento, ma non puoi realmente essere felice quando il resto del mondo soffre. Noi siamo tutti uno. È illusione della separazione che è la radice dell'infelicità. Niente esiste se non il sé. Non c'è niente altro. L'idea di Buddha era che non c'è Dio, solo l'uomo. Ripudiò la mentalità che sottostà all'idea prevalente di Dio. Trovava che rendeva gli uomini deboli e superstiziosi. Se pregate Dio di darvi tutto, chi è allora che va a lavorare? Dio va da quelli che lavorano sodo. Dio aiuta quelli che si aiutano da soli. Un'idea opposta di Dio indebolisce i nostri nervi, rammollisce i nostri muscoli e ci rende dipendenti. Tutto ciò che è indipendente è felice. Tutto ciò che è dipendente è infelice. L'uomo ha un infinito potere dentro se stesso e può realizzarlo. Può realizzare se stesso come un infinito sé. Può essere fatto, ma voi non ci credete. Voi pregate Dio e state tranquilli. Buddha insegnava l'opposto. Non piangete, non pregate, è roba simile. Dio non ha un negozio. Pregate Dio con ogni respiro. Io sto parlando? Questa è una preghiera. Voi state ascoltando? Questa è preghiera. C'è mai un qualsiasi vostro movimento mentale o fisico in cui non partecipiate all'infinita energia divina? È tutta una costante preghiera. Se voi chiamate preghiera solo un set definito di parole, rendete la preghiera superficiale. Tali preghiere non sono molto buone, difficile che portino veri frutti. La preghiera è forse una formula magica ripetendo la quale, anche se non lavorate sodo, ottenete risultati miracolosi? No. Tutti devono lavorare sodo. Tutti devono arrivare alle profondità di quella infinita energia. Dietro il povero, dietro il ricco, c'è la stessa infinita energia. Non è che un uomo lavori sodo e un altro, ripetendo qualche parola ottenga risultati. L'universo è una costante preghiera. Se prendete la preghiera in questo senso, sono con voi. Le parole non sono necessarie, meglio la preghiera silenziosa. La grande maggioranza delle persone non capiscono il significato di questa dottrina. In India, qualsiasi compromesso riguardante il sé significa che abbiamo dato il potere nelle mani dei preti e abbiamo dimenticato i grandi insegnamenti dei profeti. Buddha sapeva questo. Per questo spazzò via tutte le dottrine e pratiche dei preti e fece stare l'uomo sulle proprie gambe. Era necessario per lui andare contro le solite vie delle persone. Doveva portare dei cambiamenti rivoluzionari. Come risultato, questa religione sacrificale svanì per sempre dall'India e non vi rivisse più. Il buddismo apparentemente scomparso dall'India, ma in realtà no. C'era un elemento di rischio nell'insegnamento del Buddha. Era una religione riformata. Per poter apportare il tremendo cambiamento spirituale che fece, dovette dare molti insegnamenti negativi. Ma se una religione enfatizza troppo il lato negativo, rischia di arrivare alla distruzione. Una setta riformatrice non può mai sopravvivere se riforma e basta. Sopravvivono solo gli elementi formativi, il reale impulso, cioè i principi. Dopo che è stata effettuata una riforma, è il lato positivo che dovrebbe essere enfatizzato. Dopo che l'edificio è completato, si deve portare via l'impalcatura. Accade così in India, che col passare del tempo, i seguaci di Buddha enfatizzarono troppo l'aspetto negativo dei suoi insegnamenti e perciò causarono la caduta finale della loro religione. Gli aspetti positivi della verità furono soffocati dalle forze della negazione. E così l'India ripudiò le tendenze distruttive che fiorivano sotto il nome del buddismo. Questo fu il decreto del pensiero nazionale indiano. Gli elementi negativi del buddismo, non c'è Dio e non c'è anima, morirono. Posso dire che Dio è il solo essere che esiste, è un'affermazione molto positiva. Egli è l'unica realtà. Quando Buddha dice che non c'è anima, io dico, uomo, tu sei uno con l'universo, tu sei tutte le cose. Quanto è positivo? L'elemento di riforma morì, ma l'elemento formativo è vissuto per tutto il tempo. Buddha insegnò la gentilezza verso gli esseri inferiori e da allora non c'è stata una sette in India che non abbia insegnato la carità verso tutti gli esseri, anche verso gli animali. Questa gentilezza, questa misericordia, questa carità maggiore di ogni dottrina, sono quello che il buddismo ci ha lasciato. La vita di Buddha ha un fascino speciale. Per tutta la vita sono stato molto appassionato di Buddha, ma non della sua dottrina. Ho più venerazione per quel personaggio che per ogni altro, quella audacia, quella temerità e quel tremendo amore. Nacque per il bene degli uomini. Altri possono cercare Dio, altri possono cercare la verità da soli. A lui non importava neanche cercare la verità per se stesso. Cercava la verità perché le persone erano infelici. Come aiutarli? Questo era il suo solo interesse. Per tutta la vita non aveva mai pensato a sé. Come possiamo essere ignoranti, egoisti, dalle vedute ristrette, comprendendo la grandezza di quest'uomo? E considerate il suo meraviglioso cervello? Nessuna emotività. Quel cervello gigante non era mai superstizioso. Credi non perché ti sia stato mostrato un antico manoscritto che ti è stato tramandato dagli antenati o perché i tuoi amici vogliono che tu creda, ma pensa con la tua testa, cerca la verità da solo, realizza da solo. Poi, se lo scopri benefico a te e a molti, dallo alle persone. Gli uomini ramolliti nel cervello, dalla mente debole e dal cuore di coniglio, non possono trovare la verità. Dobbiamo essere liberi, vasti come il cielo. Dobbiamo avere una mente limpida come il cristallo, solo allora la verità può brillare. Siamo così pieni di superstizioni. Anche nel vostro paese, in cui pensate di essere molto istruiti, quante visioni ristrette e superstizioni ci sono. Pensate solo, con tutte le vostre pretese di civiltà. In un'occasione mi fu rifiutata una sedia su cui sedermi perché ero un hindu. Seicento anni prima della nascita di Cristo, quando visse il Buddha, le persone dell'India avevano una straordinaria educazione. Dovevano essere state di mente estremamente aperta. Grandi masse lo seguivano. I re rinunciavano ai loro troni, le regine rinunciavano al trono. Le persone erano in grado di apprezzare e abbracciare il suo insegnamento così rivoluzionario, così differente da quello che era stato loro insegnato dai preti nei secoli. Le loro menti erano insolitamente libere e aperte. E considerate la sua morte. Se fu grande in vita, fu grande anche nella morte. Mangiò del cibo offertogli dal membro di una razza simile ai vostri indiani americani. Gli hindu non li toccano perché mangiano qualsiasi cosa indiscriminatamente. Lui disse ai suoi discepoli, non mangiate questo cibo, ma io non posso rifiutarlo. Andate dall'uomo e diteli che mi ha reso uno dei più grandi servizi della mia vita. Aveva camminato miglia per vedere il maestro e Buddha gli insegnò. Quando scoprì che un discepolo piangeva, lo rimproverò dicendogli, che cos'è questo? È questo il risultato di tutti i miei insegnamenti? Che non ci siano falsi legami, nessuna dipendenza da me, nessuna falsa gratificazione di questa personalità di passaggio. Il Buddha non è una persona, è una realizzazione. Lavorate alla vostra salvezza. Anche quando moriva non chiese nessuna distinzione per sé. Lo venero per questo. Quelli che chiamate Buddha e Cristo sono solo i nomi di certi stati di realizzazione. Di tutti i maestri del mondo egli era l'unico che ci insegnava di più a fidarci di noi stessi, che ci liberavano solo dai legami dei falsi sé, ma dalla dipendenza dagli esseri invisibili o da quelli chiamati dèi o Dio, invitava ognuno ad entrare in quello stato di libertà che chiamava nirvana. Tutti devono raggiungerlo un giorno. E quel raggiungimento è la completa realizzazione dell'uomo. Introduzione all'Ugnana Yoga. Questa è la branca razionale e filosofica dello yoga ed è molto difficile, ma cercherò di introdurvi lentamente. Yoga significa il metodo di unire uomo e Dio. Quando capite questo potete andare avanti con le vostre definizioni di uomo e Dio e troverete che il termine yoga si adatta ad ogni definizione. Ricordate sempre che ci sono diversi yoga per menti diverse e che se un tipo non vi si confa un altro può invece essere adatto. Tutte le religioni si dividono in teoria e pratica. La mente occidentale ha approfondito la teoria e vede la parte pratica solo nelle opere buone. All'inizio del XIX secolo l'uomo cercò di trovare Dio con la ragione e il risultato fu il deismo. Quel poco che rimase di Dio da questo processo fu distrutto dal darwinismo e dal millismo. Gli uomini furono costretti allora a tornare alla religione storica e comparativa. Pensavano che la religione fosse derivata dalla venerazione di olenamento della natura. Vedi Max Müller sui miti del sole eccetera. Altri pensavano che la religione fosse derivata dal culto degli antenati. Vedi Herbert Spencer. Ma presi nel complesso questi metodi si rivelarono un fallimento. L'uomo non può arrivare alla verità con metodi esterni. Se conosco una zolla di terra conosco tutta la terra. L'universo è tutto costruito sullo stesso piano. L'individuo è solo una parte come la zolla di terra. Se conosciamo l'anima umana che è un atomo, il suo inizio e la sua storia generale conosciamo tutta la natura. Nascita, crescita, sviluppo, decadenza, morte. Questa è la sequenza in tutta la natura ed è la stessa nella pianta e nell'uomo. La differenza è solo nel tempo. L'intero ciclo può essere completato in un caso in un giorno o nell'altro in 70 anni. I metodi sono gli stessi. L'unico modo di raggiungere una sicura analisi dell'universo è con l'analisi delle nostre menti. Una psicologia appropriata è essenziale alla comprensione della religione. Arrivare alla verità solo con la ragione è impossibile perché la ragione imperfetta non può studiare la sua base fondamentale. Perciò l'unico modo di studiare la mente è avere fatti e poi l'intelletto li organizzerà e ne dedurrà i principi. L'intelletto deve costruire la casa ma non può farlo senza mattoni e non può fare i mattoni. L'ognana yoga è il modo più sicuro di arrivare ai fatti. Per prima cosa abbiamo la psicologia della mente. Abbiamo organi dei sensi che sono divisi in organi di azione e organi di percezione. Per organi non intendo gli strumenti sensoriali esterni. Il centro oftalmico nel cervello è l'organo della vista, non solo l'occhio. Così con ogni organo la funzione è interna. Solo quando la mente reagisce l'oggetto viene realmente percepito. I nervi sensori e motori sono necessari alla percezione. Poi c'è la mente stessa. È come un lago liscio che quando gli uomini colpiscono, diciamo, con una pietra, vibra. Le vibrazioni si riuniscono e reagiscono sulla pietra e si trasmettono a tutto il lago. La mente è come il lago, viene costantemente messa in vibrazione e queste vibrazioni lasciano un'impressione sulla mente. E l'idea dell'ego, se personale, l'io, è il risultato di queste impressioni. Questo io perciò è solo la rapidissima trasmissione della forza e in sé non ha realtà. La materia mentale è uno strumento di materiale molto fine, usata per assumere il prana. Quando un uomo muore, il corpo muore, ma quando tutto viene disperso, un po' della mente, il seme, resta. E questo è il seme del nuovo corpo, chiamato da San Paolo il corpo spirituale. Questa teoria della materialità della mente si accorda a tutte le teorie moderne. L'idiota manca di intelligenza perché la sua materia mentale è danneggiata. L'intelligenza non può essere nella materia né può essere prodotta da nessuna combinazione di materia. Dov'è allora l'intelligenza? È dietro la materia, è il giva, il serreale, che opera dietro lo strumento della materia. La trasmissione di forza non è possibile senza materia. E poiché il giva non può viaggiare da solo, alcune parti della mente restano come medium di trasmissione quando tutto il resto del corpo è disperso dalla morte. Come avvengono le percezioni? Il muro opposto invia a me un'impressione, ma io non vedo il muro finché la mia mente non reagisce, vale a dire che la mente non può conoscere il muro con la semplice vista. La reazione che mette in grado la mente di avere una percezione del muro è un processo intellettuale. In questo modo l'intero universo è visto attraverso i nostri occhi più la mente o facoltà percettiva. È necessariamente colorato dalle nostre tendenze individuali. Il muro reale o il reale universo è al di fuori della mente ed è ignoto e inconoscibile. Chiamate X questo universo e la nostra affermazione è che l'universo visto è X più la mente. Quello che è vero dell'esterno deve anche applicarsi al mondo interno. La mente vuole anche conoscere se stessa, ma questo se può essere conosciuto solo attraverso il medium della mente ed è come il muro ignoto. Questo se possiamo chiamarlo Y e l'affermazione sarebbe che il se interno è Y più la mente. Kant fu il primo ad arrivare a quest'analisi della mente, ma era da tempo stata affermata nei Veda. Abbiamo quindi, diciamo, la mente che sta tra X e Y e che reagisce con entrambi. Se X è ignoto, allora qualsiasi qualità gli attribuiamo è derivata solo dalla nostra mente. Il tempo, lo spazio e la causalità sono le tre condizioni attraverso cui la mente percepisce. Il tempo è la condizione per la trasmissione del pensiero e lo spazio per la vibrazione della materia più grossolana. La causalità è la sequenza in cui vengono le vibrazioni. La mente può conoscere solo attraverso queste. Qualsiasi cosa, perciò, sia oltre la mente, deve essere oltre il tempo, spazio e causalità. Dall'uomo cieco il mondo è percepito col contatto e il suono. Per noi che abbiamo cinque sensi, il mondo è diverso. Se qualcuno di noi sviluppasse un senso elettrico e la facoltà di vedere le onde elettriche, il mondo apparirebbe differente. Pure il mondo, come la X di tutti questi, è sempre lo stesso. Ognuno vede il suo mondo a seconda di com'è la sua mente. C'è la X più un senso, la X più due sensi, fino a cinque, così conosciamo l'umanità. Il risultato è sempre variato, pure la X rimane immutata. Anche la Y è oltre le nostre menti e oltre il tempo, spazio e causalità. Ma potete chiedere, come fai a sapere che ci sono due cose, X e Y oltre il tempo, spazio e causalità? Verissimo. Il tempo fa la differenza, perciò, poiché sono entrambe oltre il tempo, devono in realtà essere una. Quando la mente vede questo uno, lo chiama variamente X quando è il mondo esterno e Y quando è il mondo interno. Questa unità esiste e viene vista attraverso la lente delle menti. L'essere di natura perfetta che ci appare universalmente è Dio, l'assoluto. L'indifferenziato è la condizione perfetta. Tutto il resto devono essere cose inferiori e non permanenti. Cosa fa apparire l'indifferenziato differenziato alla mente? Questo è il genere di domanda simile a qual è l'origine del male e del libero arbitrio. La domanda è una contraddizione in termini ed è impossibile perché dà per scontato causa ed effetto. Non ci sono causa ed effetto nell'indifferenziato. La domanda presume che l'indifferenziato sia nella stessa condizione del differenziato. I perché e i come mai sono solo nella mente. Il sé è oltre la causalità ed esso solo è libero. La sua luce è quella che permea ogni forma della mente. Con ogni azione asserisco di essere libero eppure ogni azione mi prova di essere legato. Il sé reale è libero oppure quando è misto a mente e corpo non è libero. La volontà è la prima manifestazione del reale sé. La prima limitazione perciò di questo sé reale è la volontà. La volontà è un composto di sé e mente. Ora nessun composto può essere permanente così che quando vogliamo vivere dobbiamo morire. La vita immortale è una contraddizione in termini perché la vita essendo un composto non può essere immortale. Il vero essere è indifferenziato ed eterno. Come fa questo essere perfetto a mescolarsi con la volontà, la mente, il pensiero, tutte cose manchevoli? Non si è mai mescolato. Voi siete il reale voi, la y della nostra precedente affermazione. Non siete mai stati la volontà. Non siete mai cambiati. Voi come persone non siete mai esistiti. È illusione. Allora su che cosa si basano chiederete i fenomeni dell'illusione? Questa è una cattiva domanda. L'illusione non può mai basarsi sulla verità ma solo sull'illusione. Tutto lotta per tornare a quello che era prima di queste illusioni per essere libero di fatto. Qual è allora il valore della vita? È quello di darci esperienza. Questa visione si accorda all'evoluzione? In effetti la spiega. È realmente il processo di raffinamento della materia che permette al sé reale di manifestarsi. È come se uno schermo o un velo fosse tra noi e qualche altro oggetto. L'oggetto diventa chiaro via via che lo schermo viene gradualmente ritirato. La questione è semplicemente della manifestazione del sé superiore. L'anima è Dio. San Francisco, 23 marzo 1900. Se fosse paura o semplice curiosità che portò l'uomo per la prima volta a pensare a poteri superiori a lui è una cosa che non dobbiamo discutere. Queste suscitarono nella mente specifiche tendenze di devozione e così via. Non ci sono mai state nella storia dell'umanità delle epoche prive di ideali di devozione. Perché? Che cosa ci fa lottare per qualcosa oltre quello che vediamo, che sia una bella mattina o una paura di spiriti morti. Non c'è bisogno che torniamo alla preistoria perché è un fatto di oggi come di duemila anni fa. Non troviamo soddisfazione qui. Qualsiasi sia il nostro stato nella vita, anche se siamo potenti e ricchi, non possiamo trovare soddisfazione. Il desiderio è infinito, la sua realizzazione limitata. Non c'è fine ai nostri desideri, ma quando andiamo a realizzarli arriva la difficoltà. È stato così con le menti più primitive, quando avevano pochi desideri. Perfino questi non potevano essere realizzati. Neanche ora con le nostre arti e scienze migliorate e moltiplicate possiamo realizzare i nostri desideri. D'altro canto stiamo combattendo per perfezionare i mezzi per la realizzazione dei desideri e i desideri aumentano. L'uomo più primitivo naturalmente voleva aiuto dall'esterno per cose che non poteva compiere. Desiderava qualcosa e non poteva ottenerla. Voleva aiuto da altri poteri. L'uomo primitivo più ignorante e l'uomo più colto oggi, che entrambi si rivolgono a Dio e chiedono la realizzazione di qualche desiderio, sono esattamente gli stessi. Qual è la differenza? Alcuni trovano molta differenza. Stiamo sempre trovando molta differenza nelle cose quando non c'è nessuna differenza. Entrambi pregano lo stesso potere. Puoi chiamarlo Dio o Allah o Geova. Gli esseri umani vogliono qualcosa e non possono averlo coi loro poteri e cercano qualcuno che li aiuti. Questo è primitivo ed è sempre presente in noi. Siamo tutti nati selvaggi e gradualmente ci civilizziamo. Tutti noi qui, se cerchiamo, scopriremo lo stesso fatto. Anche ora questa paura non ci lascia. Possiamo fare grandi discorsi, divenire filosofi e tutto il resto, ma quando arriva il colpo troviamo che dobbiamo chiedere aiuto. Crediamo in tutte le superstizioni che siano mai esistite. Ma non c'è superstizione nel mondo che non abbia una qualche base di verità? Se mi copro la faccia e si vede solo la punta del naso c'è sempre un po' della mia faccia. Così con le superstizioni un po' di esse sono vere. Vedete, il più basso tipo di manifestazione religiosa giunse col funerale del trapassato. Prima lo avvolgevano e lo seppellivano in un tumulo e gli spiriti dei trapassati venivano nei tumuli di notte. Poi iniziarono a seppellirli. Alla porta sta una terribile dea con mille denti. Poi venne la cremazione del corpo e le fiamme facevano salire lo spirito. Gli egiziani portavano cibo e acqua per il trapassato. La grande idea successiva fu quella degli dei tribali. Questa tribù aveva un dio e quella tribù un altro. Gli ebrei avevano il loro dio Geova che era il loro dio tribale e combatteva contro gli altri dei e tribù. Quel dio avrebbe fatto qualsiasi cosa per favorire il suo popolo. Se uccideva un'intera tribù non protetta da lui andava tutto bene, benissimo. Veniva concesso un po' d'amore ma quell'amore era limitato ad una piccola parte. Gradualmente giunsero ideali superiori. Il capo della tribù vincitrice era il capo dei capi, il dio degli dèi. Così quei persiani quando conquistarono l'Egitto. L'imperatore persiano era il signore e davanti all'imperatore nessuno poteva stare in piedi. La pena era la morte per chiunque guardasse l'imperatore persiano. Poi venne l'ideale del dio altissimo e onnipotente, il governatore onnisciente dell'universo. Vive in cielo e l'uomo paga il suo tributo speciale al suo amato che crea tutto per l'uomo. Tutto il mondo è per l'uomo. Il sole, la luna e le stelle sono per lui. Tutti quelli che hanno queste idee sono uomini primitivi, non civilizzati e non colti. Tutte le religioni superiori crescevano tra il Gange e le Ofrate. Fuori dell'India non troviamo altri sviluppi religiosi oltre questa idea di Dio in cielo. Quella era la conoscenza massima mai ottenuta fuori dell'India. C'è il paradiso locale in cui lui sta e in cui i fedeli andranno quando muoiono. Per quanto visto dovremmo definirla un'idea molto primitiva, mambo-jambo in Africa e Dio in cielo o la stessa. Egli muove il mondo e ovviamente la sua volontà viene fatta ovunque. L'antico popolo ebraico non si curava di nessun paradiso. Questa è una delle ragioni per cui si opponevano a Gesù di Nazareth, perché parlava di una vita dopo la morte. Paradiso in sanscrito significa terra oltre questa vita. Perciò il paradiso doveva ricompensare di tutto questo male. L'uomo primitivo non si cura del male, non domanda perché ci sia il male al mondo. La parola diavolo è una parola persiana. I persiani e gli hindù condividono gli antenati ariani in quanto a base religiosa e parlano lo stesso linguaggio, solo che le parole che usa una setta per il bene, l'altra le usa per il male. La parola deva è un'antica parola sascrita per dire Dio, ma la stessa parola nei linguaggi ariani significa il diavolo. In seguito, quando un uomo sviluppò la sua vita interiore, iniziò a porre domande e a dire che Dio è buono. I persiani dissero che c'erano due dei, uno cattivo ed uno buono. La loro idea era che tutto in questa vita era buono. Un bel paese in cui c'era primavera tutto l'anno e nessuno moriva, nessuna malattia, tutto era bello. Poi venne questo malvagio e toccò la terra e arrivò la morte, le zanzare, le tigri e i leoni. Poi gli ariani lasciarono la madre patria e migrarono a sud. Gli antichi ariani dovevano essere vissuti più a nord. Gli ebrei presero dai persiani l'idea del diavolo. I persiani insegnavano anche che sarebbe venuto un giorno in cui questo Dio malvagio sarebbe stato ucciso ed è nostro dovere stare col Dio buono e aggiungere alla sua la nostra forza in questa notte eterna tra lui e il cattivo. L'intero mondo sarà bruciato e tutti avranno un nuovo corpo. L'idea persiana era che anche i malvagi sarebbero stati purificati e non sarebbero più stati cattivi. La natura degli ariani era amore e poesia. Non potevano pensare ad essere bruciati per l'eternità. Avrebbero tutti ricevuto nuovi corpi e non ci sarebbe più stata morte. Queste sono le migliori idee religiose al di fuori dell'India. Insieme a questo c'è il filone etico. Tutto quello che l'uomo deve fare è aver cura di tre cose. Buoni pensieri, buone parole, buone azioni. Tutto qui. È una religione saggia e pratica. C'è anche un po' di poesia. In India vediamo questo Satana nelle parti più antiche dei Veda. Appare e subito scompare. Nei Veda il Dio cattivo dà un colpo e scompare. Va via e lo prendono i persiani. Stiamo cercando di fargli lasciare il mondo una volta per tutte. Assumendo l'idea persiana ne faremo un gentiluomo educato e gli daremo un nuovo corpo. Così finì in India l'idea di Satana. Ma l'idea di Dio proseguì. E Badate giunse a un altro fatto. L'idea di Dio crebbe fianco a fianco con l'idea del materialismo fino a farla risalire all'imperatore di Persia. Ma d'altro canto entra nella metafisica, nella filosofia. C'è un'altra linea di pensiero, l'idea dell'atman non duale, la stessa anima dell'uomo. Anche questa cresce. Così al di fuori dell'India le idee su Dio dovettero restare in quella forma concreta finché non arrivò l'India ad aiutarle un po'. Le altre nazioni si fermarono a quelle vecchie idee concreta. In questo paese, America, ci sono milioni che credono che Dio abbia un corpo. Lo dicono intere sette. Credono che Egli governi il mondo, ma c'è un posto in cui ha un corpo. Siede su un trono. Accendono candele e cantano canti come fanno nei nostri templi. Ma in India sono abbastanza ragionevoli da non rendere mai il loro Dio un essere fisico. Non vedete mai in India un tempio di Brahma. Perché? Perché l'idea dell'anima è sempre esistita. La razza ebraica non si è mai interrogata sull'anima. Non c'è nessuna idea di anima nel Vecchio Testamento. La prima volta compare nel Nuovo Testamento. I persiani divennero così pratici, popolo meravigliosamente pratico, una razza combattente, dominatrice. Erano il popolo inglese dei tempi antichi, sempre a combattere e a distruggere i loro vicini, troppo impegnati in quel tipo di cose per pensare all'anima. L'idea più antica dell'anima era di un corpo sottile dentro il grossolano. Il grossolano scompare e appare il sottile. In Egitto muore anche quello sottile e non appena il corpo grossolano si disintegra, si disintegra anche il sottile. Ecco perché costruirono quelle piramidi e imbalsamavano i cadaveri dei loro antenati, sperando così di assicurarsi l'immortalità del trapassato. Il popolo indiano non ha alcun rispetto per il corpo morto. Il loro atteggiamento è e bruciamolo. Il figlio deve appiccare il fuoco al corpo del padre. Ci sono due tipi di razze, la divina e la demoniaca. La divina pensa che esistano anima e spirito, la diabolica pensa che sono corpi. Gli antichi filosofi indiani cercavano di insistere che il corpo non è niente. Come un uomo smette la sua vecchia veste e ne prende una nuova, così il vecchio corpo viene smesso e ne viene preso uno nuovo. Ghita 2, 22. Nel mio caso, tutto il mio ambiente cercava di farmi credere nel primo modo. Frequentavo sempre maomettani e cristiani che si prendono più cura del corpo. C'è solo un passo dal corpo allo spirito. In India insistono tanto su questo ideale dell'anima. Divenne un sinonimo dell'idea di Dio. Se l'idea dell'anima inizia ad espandersi, l'uomo deve arrivare alla conclusione che è oltre il nome e la forma. L'idea indiana è che l'anima è senza forma. Qualsiasi cosa sia la forma deve rompersi prima o poi. Non può esserci nessuna forma, a meno che non sia il risultato di forza e materia, e tutte le combinazioni devono dissolversi. Se tale è il caso, se la tua anima è fatta di nome e forma, si disintegra e tu muori, tu non sei più immortale. Se è doppia, ha forma e appartiene alla natura e obbedisce alle leggi naturali di nascita e morte, scoprono che quest'anima non è la mente, né un doppio. I pensieri possono essere guidati e controllati. Gli yogi dell'India praticavano per vedere fino a che punto i pensieri possono essere guidati e controllati. A forza di duro lavoro, i pensieri possono essere zittiti del tutto. Se i pensieri fossero l'uomo reale, non appena il pensiero cessa, lui dovrebbe morire. Il pensiero cessa nella meditazione. Anche gli elementi della mente sono silenti. Si ferma la circolazione del sangue. Si ferma il respiro, ma lui non è morto. Se il pensiero fosse lui, tutto il complesso dovrebbe morire. Quella è la prova pratica. Arrivarono alla conclusione che la mente e il pensiero non erano l'uomo reale. La speculazione mostrò che non poteva esserlo. Io vengo, penso e parlo. In mezzo a tutta questa attività c'è questa unità del sé. Il mio pensiero e azione sono variati, molteplici, ma dentro e attraverso essi c'è quell'uno immutabile. Non può essere il corpo. Quello cambia ogni minuto. Non può essere la mente. Vengono tutto il tempo nuovi pensieri. Non è né il corpo né la mente. Sia corpo che mente appartengono alla natura e devono obbedire alle leggi della natura. Una mente libera non lo farà mai. Ora quindi quest'uomo reale non appartiene alla natura. È la persona comune quella la cui mente e corpo appartengono alla natura. Usiamo tanta natura, proprio come se è arrivato ad usare la penna, l'inchiostro e la sedia. In tal modo egli usa la natura in forma sottile e grossolana. La forma grossolana? Il corpo. La forma sottile? La mente. Se è semplice deve essere senza forma. Solo nella natura ci sono forme. Quello che non è della natura non può avere forme né fini né grossolane. Deve essere senza forma. Deve essere onnipresente. Comprendete questo. Prendete il bicchiere sulla tavola. Il bicchiere è una forma e la tavola è una forma. Quando si rompono tanto della bicchieraggine va via e tanto della tavolaggine va via. L'anima è senza nome perché senza forma. Non andrà in paradiso né all'inferno più di quanto entrerà nel bicchiere. Prende la forma del vaso che riempie. Se non è nello spazio ognuna delle due cose è possibile. O l'anima permea lo spazio o lo spazio è in essa. Tu non sei nello spazio, lo spazio è in te. Tutti i paradisi del mondo sono in una persona. Perciò deve essere con Dio. Dio è onnipresente. Senza mani egli afferra tutto. Senza piedi può muoversi. Shevatshvara Upanishad. 3.19. Egli è il senza forma, il senza morte, l'eterno. Venne l'idea di Dio. Egli è il Signore delle anime, proprio come la mia anima è il Signore del mio corpo. Se la mia anima lasciasse il corpo, il corpo non esisterebbe neanche per un momento. Se egli lasciasse la mia anima, l'anima non esisterebbe. Egli è il creatore dell'universo. Di tutto quello che muore, egli è il distruttore. La sua ombra è morte. La sua ombra è vita. Gli antichi filosofi indiani pensavano, questo mondo sporco non è adatto all'attenzione dell'uomo. Non c'è niente nell'universo che sia permanente, né buono né cattivo. Vi ho detto che Satana non ebbe molte opportunità in India. Perché? Perché i religioni erano molto arditi, non erano bambini. Avete visto quella caratteristica dei bambini che cercano sempre di dar la colpa a qualche d'un altro. Le menti dei bambini cercano, quando fanno un errore, di dar la colpa a qualcun altro. Da una parte diciamo, dammi questo, dammi quello. Dall'altra parte diciamo, non l'ho fatto io, è stato il diavolo a tentarmi. Questa è la storia dell'umanità, dell'umanità debole. Perché c'è il male? Perché questo mondo è uno sporco buco? L'abbiamo reso noi così. Nessuno è da condannare. Ci mettiamo la mano sul fuoco. Che il Signore ci benedica. l'uomo ha proprio quello che merita. Solo lui è misericordioso. Se noi lo preghiamo, egli ci aiuta. Si concede a noi. Questa è la loro idea. Sono di natura poetica. Vanno pazzi per la poesia. La loro filosofia è poesia. Questa filosofia è un poema. Tutti i pensieri elevati in sanscrito sono scritti in poesia. La metafisica, l'astronomia, tutto è in poesia. Siamo responsabili, e come arriviamo a compiere misfatti. Io sono povero e miserabile. Ricordo tutte le dure lotte della mia vita. I filosofi dicono che siete voi da biasimare. Non penserete mica che tutto questo sia avvenuto così senza una causa? Siete esseri razionali. La vostra vita non è senza una causa e voi siete la causa. Siete voi tutto il tempo a costruire la vostra vita. Siete voi a modellare la vostra vita. Siete responsabili di voi stessi. Non biasimate nessuno, nessun Satana. Se lo fate sarete solo puniti un po' di più. Un uomo viene portato davanti a Dio e lui dice 31 frustate per te. Poi viene un altro uomo. 30 frustate, 15 per lui e 15 per il suo insegnante, quell'uomo terribile che gli ha insegnato. Questa è la cosa terribile nell'insegnamento. Non so quante ne prenderò io. Io vado in tutto il mondo. Se devo prendermi 15 frustate per ogni persona a cui ho insegnato. Dobbiamo arrivare a questa idea. Questa mia maia è divina. È la mia attività, la mia divinità. La mia maia è dura da attraversare ma quelli che prendono rifugio in me vanno oltre maia. Gita 7,14. Scoprite che è molto difficile attraversare questo oceano di maia da soli. Non potete. È la vecchia questione, uovo e gallina. Se fate un lavoro, quel lavoro diviene causa e produce effetto. Quell'effetto diviene a sua volta causa e produce l'effetto e così via. Sembra che non si fermi mai. Una volta messo in moto non c'è modo di fermarlo. Faccio qualcosa e innesco una reazione a catena. Non posso fermarlo. È impossibile per noi uscire da questo legame da soli. È possibile solo se c'è qualcuno di più potente di questa legge di causalità e si ha misericordia di noi e ci tira fuori. E noi affermiamo che c'è uno così, Dio. C'è un tale essere misericordioso. Se c'è un Dio, allora è possibile per me essere salvato. Come potete essere salvati con la vostra volontà? Capite la filosofia della dottrina della salvezza da parte della grazia? Voi occidentali siete straordinariamente intelligenti, ma quando provate a spiegare una filosofia siete straordinariamente complicati. Come potete salvare voi stessi col lavoro se per salvezza intendete essere portati fuori da tutta questa natura? La salvezza significa appoggiarsi a Dio, ma se tu capisci cosa si intende per salvezza, allora sei il sé, tu non sei la natura. Tu sei l'unica cosa al di fuori delle anime, degli dèi e della natura. Queste sono esistenze terrene e Dio sta compenetrando sia la natura che l'anima. Perciò, come il mio corpo sta alla mia anima, così noi siamo i corpi di Dio. Dio, anime e natura è uno. L'uno perché, come dico, intendo corpo, anima e mente. Ma abbiamo visto che la legge di causalità pervade ogni parte della natura e una volta che ne sei stato preso non puoi uscirne. Una volta che sei finito nella legge è una possibile via di fuga, non è col lavoro fatto da te. Puoi costruire ospedali per ogni mosca e pulce che sia mai vissuta. Puoi fare tutto questo, ma non ti porterà mai alla salvezza. Gli ospedali vanno e vengono. La salvezza è possibile solo se c'è qualche essere che la natura non ha intrappolato, che è il governatore della natura. Egli governa la natura invece che esserne governato. Egli esiste ed è misericordioso. Nel momento in cui lo cerchi, egli ti salverà. Perché non ci ha tirato fuori? Perché tu non lo vuoi. Vuoi tutto, ma non lui. Nel momento in cui lo vuoi, allora lo raggiungi. Noi non lo vogliamo mai. Possiamo dire, Signore, dammi una bella casa. Vogliamo la casa, non lui. Dammi la salute, salvami da questa difficoltà. Quando un uomo non vuole altro che lui, lo ottiene. Lo stesso amore che gli uomini ricchi hanno per l'oro, l'argento e le loro proprietà, Signore, che io possa averlo per te. Non voglio né la terra né il cielo, né la bellezza né la cultura. Non voglio la salvezza. Fammi andare all'inferno, ma c'è una cosa che voglio. Amare te per amore dell'amore, neanche per amore del paradiso. Qualsiasi cosa l'uomo desideri, la ottiene. Se sogni sempre di avere un corpo, avrai un altro corpo. Quando questo corpo va via, ne vogliamo un altro e andiamo avanti ad ottenere un corpo dopo l'altro. Amate la materia e divenite materia. Per prima cosa divenite animali. Quando vedo un cane che azzanna un osso, dico, Signore, aiutaci. Amate il corpo fino a divenire cani e gatti. Degenerate sempre fino a divenire minerali, tutto corpo e niente altro. Ci sono altre persone che non vogliono compromessi. La strada per la salvezza è attraverso la verità. Quella era un'altra parola chiave. L'uomo iniziò a progredire spiritualmente quando buttò fuori il diavolo a calci. Si alzò e si prese sulle sue spalle la responsabilità dell'infelicità del mondo. Ma ogni volta che guardava il passato e il futuro e la legge di causalità si inginocchiava e diceva, Signore salvami, Tu sei il nostro creatore, il nostro padre e il più caro amico. Quella è poesia, ma non ottima poesia, credo. Perché no? È il dipingere l'infinito. Lo trovi in ogni lingua, ma è l'infinito dei sensi, dei muscoli. Lui il sole non lo illumina, né la luna, né le stelle, né il lampo. Kata Upanishad. Quello è un altro quadro dell'infinito. Con un linguaggio negativo, però, e quest'ultimo infinito è dipinto nella spiritualità delle Upanishad. Non solo il Vedanta è la massima filosofia nel mondo, ma è anche la massima poesia. Badate bene, oggi questa è la differenza tra la prima parte dei Veda e la seconda. Nella prima è tutto nel campo dei sensi. Al contrario del Vedanta, tutte le religioni pensano all'infinito del mondo esterno, la natura è il Dio della natura. Il Vedanta è la prima luce che la mente umana getta su tutto. Nessuna soddisfazione viene dall'infinito nello spazio. L'uno esistente ha creato i sensi rivolti al mondo esterno. Quelli perciò che cercano al di fuori non troveranno mai ciò che è dentro. Ci sono pochi che, volendo conoscere la verità, volgono i loro occhi all'interno e nelle loro anime contemplano la gloria del sé. Kata Upanishad. Non è l'infinito dello spazio, ma il reale infinito, oltre lo spazio, oltre il tempo. Tale è il mondo mancato dall'Occidente. Le loro menti sono state volte alla natura esterna e al Dio della natura. Guardate dentro di voi e troverete la verità che avete dimenticato. È possibile che la mente esca da questo sogno senza l'aiuto degli dèi? Una volta che iniziate l'azione, non c'è aiuto, a meno che non sia il Padre misericordioso ad aiutarci. Quella non sarebbe liberata neanche fra le mani del Dio misericordioso. La schiavitù è schiavitù. La catena dorata è altrettanto cattiva della catena di ferro. C'è una via d'uscita? Voi non siete legati. Nessuno è mai stato legato. Il sé è oltre, è tutto. Voi siete l'uno, non ce ne sono due. Dio era il vostro riflesso gettato sullo schermo di Maya. Il Dio reale è il sé. Quello che nell'ignoranza viene adorato è quel riflesso. Dicono che il Padre in cielo è Dio. Perché Dio? È il vostro riflesso che è Dio. Capite come state vedendo Dio tutto il tempo? Via via che evolvete, il riflesso diventa più chiaro. Due belli uccelli sono seduti sullo stesso albero. Uno è calmo, silenzioso, maestoso. Quello sotto, il sé individuale, sta mangiando frutti dolci e amari e diventa felice e triste volta a volta. Ma quando il sé individuale capisce che il Signore maestoso è il suo stesso sé, non si affligge più. Mundaka Upanishad. Non dite Dio, non dite tu, dite io. Il linguaggio del dualismo dice Dio, tu, padre mio. Il linguaggio del non dualismo dice, più caro a me di quanto non sia io stesso, non ho nomi per te. La parola più vicina che posso usare è io. Dio è vero, l'universo è un sogno. Benedetto sono io che in questo momento so che sono stato e sarò libero per tutta l'eternità. Che so che sto adorando solo me stesso, che nessuna natura, nessuna illusione ha mai avuto presa su me. Svanisce la natura da me, svaniscono questi dèi, svanisce l'adorazione, svaniscono le superstizioni, perché io conosco me stesso. Io sono l'infinito. Tutti questi, signora tal dei tali, signor tal dei tali, responsabilità, felicità, miseria, sono svaniti. Io sono l'infinito. Come può esserci per me morte o nascita? Chi dovrei temere? Io sono l'uno. Avrò forse paura di me stesso? Chi deve temere chi? Io sono l'unica esistenza. Niente altro esiste. Io sono tutto. È solo questione di memoria della vostra vera natura, non di salvezza attraverso le opere. Vuoi ottenere la salvezza? Sei già libero. Continua a dire io sono libero. Non importa se un attimo dopo arriva l'illusione e dice io sono legato, liberati dall'ipnosi. Questa verità deve prima essere udita. Ascoltala prima. Pensaci giorno e notte. Riempi la mente di essa giorno e notte. Io sono quello. Io sono il signore dell'universo. Non ci fu mai illusione. Medita su questo con tutta la forza della mente finché realmente capirai che queste mura, queste case, tutto si scioglie, finché il corpo, tutto svanisce. Starò solo. Io sono l'uno. Lotta. Che importa? Vogliamo essere liberi. Non vogliamo nessun potere. Al mondo rinunciamo. Al cielo rinunciamo. All'inferno rinunciamo. Che mi importa di tutti questi poteri, di questo e di quello? Che mi importa se la mente è controllata o non controllata? Che corra pure. E allora? Io non sono la mente. Lasciala correre. Il sole splende sul giusto e sull'ingiusto. È forse toccato dal carattere manchevole di qualcuno? Io sono lui. Qualsiasi cosa faccia la mia mente non mi tocca. Il sole non è toccato dal fatto che illumina posti sporchi. Io sono esistenza. Questa è la religione della filosofia non duale. È difficile. Lotta. Via tutte le superstizioni. Né insegnanti, né scritture, né dei. Via i templi, via i preti, via gli dei, via le incarnazioni, via Dio stesso. Io sono tutto il Dio che sia mai esistito. Su alzatevi filosofi, niente paura. Non parlate più di Dio e della superstizione del mondo. La verità sola trionfa e questo è vero. Io sono l'infinito. Tutte le superstizioni religiose sono vane immaginazioni. Questa società che vedo davanti a me e quello di cui vi sto parlando, tutto questo è superstizione. A tutto bisogna rinunciare. Vedete cosa ci vuole per diventare un filosofo. Questo è l'ognana yoga, la via attraverso la conoscenza. Gli altri sentieri sono facili, lenti, ma questo è pura forza mentale. Nessun debole può seguire questo sentiero. Dovete poter dire, io sono l'anima, la sempre libera. Io non fui mai legato. Il tempo è in me, non io nel tempo. Dio è nato nella mia mente. Dio padre, padre dell'universo, è creato da me nella mia mente. Vi definite filosofi? Mostratelo. Pensate a questo, parlate di questo e aiutatevi reciprocamente in questo sentiero. E rinunciate a tutte le superstizioni. Vilva Mangala. Questa è una storia di uno dei libri dell'India chiamato Vita di Santi. C'era un giovane, un bramino per nascita in un certo villaggio. L'uomo si innamorò di una donna cattiva, di un altro villaggio. C'era un grande fiume tra i due villaggi e quest'uomo ogni giorno era solito andare da quella ragazza attraversando il fiume con un traghetto. Ora un giorno dovette osservare le esequie di suo padre e perciò anche se desiderava da morire andare dalla ragazza non poté. Dovettero essere compiute le cerimonie e vi dovette assistere. È assolutamente necessario nella società hindù. Era tutto agitato e impaziente ma non poteva farne a meno. Alla fine la cerimonia si concluse, giunse la notte e con essa una spaventosa tempesta. Pioveva a torrenti e il fiume era mosso da onde gigantesche. Era molto rischioso attraversarlo. Pure andò alla riva del fiume. Non c'era nessun traghetto. Il traghettatore aveva paura di attraversare ma lui voleva andare. Il suo cuore stava impazzendo d'amore per la ragazza per cui voleva andare. C'era un tronco che galleggiava e lui la ferrò e col suo aiuto attraversò il fiume e arrivato all'altra riva trascinò con sé il tronco, lo gettò a riva e andò alla casa di lei. Le porte erano chiuse. Bussò alla porta ma il vento ululava e nessuno lo udì. Perciò andò sul retro e alla fine trovò quella che pensava fosse una corda che pendeva dal muro. La ferrò e dicendosi «Oh il mio amore ha lasciato una corda perché possa entrare» scalò il muro, arrivò dall'altra parte, mise un piede in fallo e cadde. Il rumore svegliò gli abitanti della casa che uscirono e trovarono l'uomo svenuto. Lei lo fece rinvenire e notando che aveva un cattivo odore disse «Che hai? Perché puzzi così? Come sei entrato in casa?». Lui disse «Ma come il mio amore non ha lasciato lì la corda?». Lei sorrise e disse «Quale amore? Parliamo di soldi piuttosto. Pensi che io abbia lasciato una corda per te, stupido che sei? Come hai attraversato il fiume?». «Ho afferrato un pezzo di legno». «Andiamo a vedere», disse la ragazza. La corda era un cobra, un serpente terribilmente velenoso che fa morire con un solo tocco. Aveva la testa in una buca e vi stava entrando quando l'uomo l'aveva preso pensando che fosse una corda. Era la follia dell'amore che gliel'aveva fatto fare. Quando il serpente ha la testa in un buco e il corpo fuori e voi lo prendete, non fa uscire la testa, per cui l'uomo aveva potuto arrampicarsi su di esso, ma la sua forza aveva ucciso il serpente. «Dove hai preso il tronco?». Stava galleggiando sul fiume. Era un corpo morto, la corrente l'aveva trasportato e lui l'aveva preso per un tronco, il che spiegava perché avesse quell'odore disgustoso. La donna lo guardò e disse «Non ho mai creduto nell'amore, ma questo non è amore. Il Signore avrà misericordia di me. Noi non sappiamo cos'è l'amore, ma amico mio, perché hai dato il tuo cuore a una donna come me? Perché non lo dai a Dio? Sarai perfetto». Fu un colpo nel cervello dell'uomo. Per un attimo vide un barlume dell'aldilà. «C'è un Dio?». «Sì, sì, amico mio, c'è», disse la donna. E l'uomo se ne andò, andò in una foresta e iniziò a piangere e pregare. «Io voglio Te, oh Signore. Questa onda del mio amore non può trovare ricetto nei piccoli esseri umani. Voglio amare dove questo possente fiume d'amore possa andare, cioè l'oceano di amore. Questo fiume torrenziale del mio amore non può entrare in piccole pozze, vuole l'oceano infinito. Tu sei là, vieni tu da me». Perciò rimase là per anni. Dopo anni pensò di essere riuscito, divenne ossagnasi ed entrò nella città. Un giorno era seduto sulla riva di un fiume in uno dei posti per il bagno e una bella giovane, la moglie di un mercante della città con la sua serva, passò di là. Il vecchio fu attratto da quel bel viso. Lo yogi guardò e guardò, si alzò e seguì la ragazza a casa di lei. Poi arrivò il marito e, vedendo il sanyasin nella veste ocra, gli disse «Entrate, Signore, cosa posso fare per voi?». Lo yogi disse «Vi chiederò una cosa terribile. Chiedete qualsiasi cosa, Signore, io sono un griasta, capofamiglia, e sono pronto a dare qualsiasi cosa mi si chieda. Voglio vedere vostra moglie». L'uomo disse «Signore, cosa mai? Ebbene, io sono puro e mia moglie è pura e il Signore protegge tutti. Entrate, Signore, benvenuto». Egli entrò e il marito lo presentò a sua moglie. «Cosa posso fare per voi?» chiese la Signora. Egli guardò e guardò e poi disse «Madre, mi dareste due spilli della vostra conciatura? Eccoli». Lui li infilò nei suoi due occhi dicendo «Andate via, malfattori, da ora in avanti non più visioni di carne per voi. Se dovete vedere, vedete il pastore dei boschi di Vrindavan con gli occhi dell'anima. Quelli saranno gli occhi che avrete». E così tornò nella foresta e continuò a piangere e piangere e piangere. Tutto quel gran flusso di amore nell'uomo stava lottando per arrivare alla verità e alla fine ci riuscì, diede alla sua anima, il fiume dell'amore, la giusta direzione e arrivò al pastore. La storia dice che vide Dio sotto forma di Krishna. Allora per una volta gli dispiacque di aver perso gli occhi e di poter avere solo la visione interna. Scrisse delle belle poesie d'amore. In tutti i libri sanscriti gli scrittori prima di tutto salutano i loro guru. E così lui salutò quella ragazza come suo primo guru. Krishna, California, primo aprile 1900. Quasi le stesse circostanze che fecero nascere il buddismo in India circondano la nascita di Krishna. E non solo, gli eventi di quel tempo li troviamo a cadere ai nostri giorni. C'è un certo ideale, allo stesso tempo ci deve essere una gran maggioranza di uomini che non può elevarsi a quell'ideale neanche intellettualmente. I forti lo mantengono e molte volte non hanno simpatia per i deboli. I deboli nei confronti dei forti sono solo mendicanti. I forti marciano in testa. Ovviamente vediamo subito che la posizione più elevata è essere comprensivi e di aiuto verso i più deboli, ma poi in molti casi il filosofo sbarra la via al nostro essere compassionevoli. Se seguiamo la teoria che tutta questa infinita vita deve essere determinata dai pochi anni di esistenza qui ed ora, allora non abbiamo speranza e non abbiamo tempo di guardare indietro ai più deboli. Ma se queste non sono le condizioni, se il mondo è solo una delle molte scuole attraverso cui dobbiamo passare, se la vita eterna deve essere modellata e guidata dalla legge eterna e la legge eterna, eterne possibilità, aspettano tutti, allora non dobbiamo avere fretta. Abbiamo tempo per simpatizzare, guardarci attorno, tendere una mano compassionevole per aiutare i deboli a sollevarsi. Col buddismo abbiamo due parole in sascrito, una è religione tradotta, l'altra una setta. È il fatto più curioso che i discepoli discendenti di Krishna non abbiano nome per la loro religione, anche se gli stranieri la chiamano hinduismo o bramanesimo. C'è una religione e ci sono molte sette. Nel momento in cui le dai un nome la individualizzi e la separi dal resto ed è una setta, non è più una religione. Una setta proclama la sua verità e dichiara che non c'è verità da nessun'altra parte. La religione crede che ci sia stata e ancora ci sia una sola religione nel mondo. Non ci furono mai due religioni, è la stessa religione che presenta aspetti differenti in posti differenti. Il compito è produrre la maggior comprensione della meta e scopo dell'umanità. Questo fu il grande lavoro di Krishna, pulire i nostri occhi e farci guardare con una visione più ampia l'umanità nella sua marcia avanti e in alto. Il suo fu il primo cuore abbastanza grande per vedere la verità in tutti. Le sue, le prime labbra che pronunciarono delle belle parole per ognuno e per tutti. Questo Krishna precedette Buddha di qualche migliaio di anni. Moltissime persone non credono che sia mai esistito. Alcuni credono che l'adorazione di Krishna nacque dall'antica adorazione del sole. Sembra che ci siano vari Krishna, uno fu menzionato nelle Upanishad, un altro fu re, un altro un generale. Tutti sono stati raggruppati in un unico Krishna. Non importa molto, il fatto è che appaiono individui che sono unici nella spiritualità e allora vengono inventate ogni tipo di leggende attorno a loro. Ma tutte le Bibbie e le storie che vengono tessute attorno a quest'unica persona devono essere adattate sul modello del suo carattere. Tutte le storie del Nuovo Testamento devono essere modellate sulla accertata vita e carattere di Cristo. In tutte le storie indiane su Buddha viene mantenuta l'unica nota centrale di quella intera vita, il sacrificio per gli altri. In Krishna troviamo due idee superiori nel suo messaggio. La prima sta nell'armonia di idee diverse, la seconda è il non-attaccamento. Un uomo può raggiungere la perfezione, la meta superiore, seduto su un trono al comando di eserciti, operando grandi progetti per le nazioni. Di fatto, il grande sermone di Krishna fu predicato sul campo di battaglia. Krishna vide chiaramente attraverso la vanità di tutti i bigottismi e ritualità dei vecchi preti, eppure vide del bene in essi. Se sei un uomo forte, benissimo, ma non disprezzare gli altri che non sono abbastanza forti per te. Tutti dicono, guai a te, popolo, chi è che dice, guai a me che non posso aiutarti. Il popolo fa tutto al meglio della sua abilità, mezzi e conoscenza, guai a me che non riesco a sollevarlo nel punto in cui sono. Perciò i cerimoniali, la venerazione degli dèi e dei miti vanno benissimo, dice Krishna. Perché? Perché portano tutti alla stessa meta. Cerimonie, libri e forme, tutti questi sono anelli di una catena. Mantieni la presa, questo c'è da fare. Se sei sincero e hai realmente tenuto la presa di un anello, non lasciarlo andare. Il resto è destino che arrivi. Ma le persone non tengono la presa. Passano il tempo a discutere e a decidere di cosa dovrebbero mantenere la presa. E non tengono la presa di niente. Siamo sempre in cerca di verità, ma non vogliamo mai afferrarla. Semplicemente vogliamo il piacere di andare in giro a chiedere. Abbiamo molta energia e la disperdiamo in questo modo. Ecco perché Krishna dice, tieni la presa di una qualsiasi di queste catene che si dipartono da un centro comune. Nessun passo è maggiore di un altro. Non criticare nessuna religione finché è sincera. Tieni la presa di uno di questi anelli e ti porterà al centro. Il tuo cuore stesso ti insegnerà tutto il resto. L'insegnante dentro di te ti insegnerà ogni credo, ogni filosofia. Krishna parla di sé come Dio, come fa Cristo. Vede la divinità in sé e dice, nessuno può uscire un giorno dal mio sentiero. Tutti devono venire a me. A chiunque voglia adorare qualsiasi forma, io gli do fede in quella forma e attraverso di essa lo incontro. Il suo cuore è tutto per le masse. Indipendente, Krishna si staglia. La sua stessa arditezza ci spaventa. Noi dipendiamo da tutto, da qualche buona parola, dalle circostanze. Quando l'anima non vuole dipendere da niente, neanche dalla vita, allora è la massima filosofia, la vetta dell'umanità. L'adorazione porta alla stessa meta. Krishna dà molta importanza all'adorazione. Adorate Dio. In questo mondo vediamo vari tipi di adorazione. L'uomo malato è molto devoto a Dio. C'è l'uomo che perde la sua fortuna, anche lui prega molto per ottenere soldi. La massima adorazione è quella dell'uomo che ama Dio per l'amore di Dio in sé. Perché deve esserci tanto dolore se c'è un Dio? L'adoratore replica. C'è miseria nel mondo, ma non per questo cesso di amare Dio. Non adoro lui perché porti via la mia miseria. Io lo amo perché egli è l'amore stesso. Gli altri tipi di adorazione sono di grado inferiore, ma Krishna non ne condanna nessuno. È meglio far qualcosa che star fermi. L'uomo che inizia ad adorare Dio crescerà gradualmente e inizierà ad amare Dio solo per amore. Come raggiungere la purezza vivendo questa vita? Dovremo tutti andare nelle grotte della foresta? Che bene farebbe. Se la mente non è sotto controllo non serve vivere in una grotta perché la stessa mente porterebbe là tutti i suoi turbamenti. Troveremo venti diavoli nella grotta perché tutti i diavoli sono nella mente. Se la mente è sotto controllo possiamo avere la grotta ovunque siamo. È il nostro atteggiamento mentale che rende il mondo quello che è per noi. I nostri pensieri rendono le cose belle. I nostri pensieri rendono le cose brutte. L'intero mondo è nelle nostre menti. Impara a vedere le cose nella giusta luce. Prima credi in questo mondo che ci sia un senso dietro ogni cosa. Tutto nel mondo è buono, è santo e bello. Se vedi qualcosa di male pensa che non lo stai capendo nella luce giusta. Prenditi tu la responsabilità. Tutte le volte che siamo tentati di dire che il mondo sta andando ai rovi dovremmo analizzare noi stessi e scopriremo che abbiamo perso la facoltà di vedere le cose come sono. Lavora giorno e notte. Guarda io sono il signore dell'universo non ho doveri. Ogni dovere è legame ma io lavoro per amore del lavoro. Se cessassi di lavorare per un minuto ci sarebbe il caos, dice Krishna nella Gita. Quindi tu lavora senza nessuna idea di dovere. Il mondo è un gioco, voi siete i suoi giocatori. Continuate a lavorare senza alcun dolore, senza alcuna infelicità. Guardate il suo gioco nelle sale, nelle periferie. Lavorate per sollevare le persone, non che siano vili o degradati. Krishna non dice questo. Sapete perché viene fatto così poco lavoro? La mia signora va dai poveri, dà qualche moneta e dice povero uomo prendila e sii felice. Oh mia bella signora che cammini per le strade e vedi un poveretto e gli dai cinquecentesimi. Pensa alla blasfemia di questo. Benedetti siamo noi cui il signore ha dato il suo insegnamento nel vostro testamento. Gesù dice quanto avrete fatto al più piccolo dei vostri fratelli lo avrete fatto a me. È blasfemia pensare di poter aiutare qualcuno. Prima sradicatevi questa idea dell'aiuto e poi andate ad adorare. I figli di Dio sono i figli del vostro padrone e i figli sono solo forme diverse del padre. Voi siete il suo servitore. Servite il Dio vivente. Dio viene da voi nel cieco, nel povero, nel debole, nel diabolico. Che gloriosa opportunità per voi adorarlo. Nel momento in cui pensate che state aiutando, disfate tutto e degradate voi stessi. Sapendo questo, lavorate. E dopo? Dite. Non avrete quella terribile infelicità, quel cuore spezzato. Allora il lavoro non sarà più schiavitù, diverrà un gioco e gioirete. Lavorate, siate non attaccati. Quello è tutto il segreto. Se diventate attaccati diverrete infelici. Con tutto quello che facciamo nella vita ci identifichiamo. Ecco un uomo che mi dice parole aspre. Sento la rabbia che sale dentro di me. In pochi secondi la rabbia è Dio, siamo una cosa sola, e poi arriva l'infelicità. Attaccatevi al Signore e a niente altro, perché tutto il resto è irreale. L'attaccamento all'irreale porterà infelicità. C'è solo un'esistenza che è reale, solo una vita in cui non c'è né oggetto né soggetto. Ma l'amore non attaccato non vi ferirà. Fate qualsiasi cosa. Sposatevi, abbiate figli, fate qualunque cosa vi piaccia. Niente vi ferirà. Non fate niente con l'idea di mio. Dovere per amore del dovere. Lavorare per amore del lavoro. Che vi importa? Voi state da una parte. Quando giungiamo a quel non attaccamento, allora possiamo capire il meraviglioso mistero dell'universo, come la sua intensa attività e vibrazione e allo stesso tempo la pace più intensa e calma. Come è lavorare ogni momento e riposare ogni momento? Questo è il mistero dell'universo, l'impersonale e personale in uno, l'infinito e il finito in uno. Allora troveremo il segreto. Colui che trova nel mezzo dell'intensa attività il massimo riposo e nel mezzo del massimo riposo l'intensa attività è divenuto uno yogi. Così dice Krishna nella Gita. Egli solo è un reale lavoratore e nessun altro. Noi facciamo un po' di lavoro e ci sentiamo a pezzi. Perché? Diveniamo attaccati a quel lavoro. Se non diventiamo attaccati insieme ad esso avremo infinito riposo. Quanto è difficile arrivare a questo tipo di non attaccamento. Perciò Krishna ci mostra le vie e i metodi più bassi. Il metodo più facile per tutti è fare il proprio lavoro e non averne i risultati. È il nostro desiderio che ci lega. Se prendiamo i risultati delle azioni, che siano buoni o cattivi, dovremo sopportarli. Ma se lavoriamo non per noi, ma solo per la gloria del Signore, i risultati avranno cura di loro stessi. Di lavorare avete diritto, ma non dei frutti del lavoro, dice Krishna nella Gita. Il soldato non lavora per nessun risultato. Fa il suo dovere. Se viene la sconfitta, la sconfitta appartiene al generale, non al soldato. Facciamo il nostro dovere per amore del dovere. Amore per il generale. Amore per il Signore. Se siete forti, seguite la filosofia Vedanta e siate indipendenti. Se non potete farlo, adorate Dio, altrimenti adorate qualche immagine. Se mancate di forza anche per far questo, fate qualche opera buona senza l'idea di guadagnare. Offrite tutto quello che avete al servizio del Signore. Combattete. Foglie, acqua e un fiore. Chiunque depone qualcosa al mio altare, io lo ricevo con uguale gioia, dice Krishna nella Gita. Se non potete fare niente, neanche una sola buona azione, allora rifugiatevi nel Signore. Il Signore risiede nel cuore degli esseri facendoli girare sulla sua ruota. Fallo con tutta la tua anima e il tuo cuore e rifugiati in lui, dice Krishna nella Gita. Queste sono alcune delle idee generali che Krishna predicava su questa idea di amore. Ci sono in altri grandi libri, sermoni sull'amore, come in Buddha, in Gesù, alcune parole sulla vita di Krishna. Ci sono molte somiglianze tra le vite di Gesù e di Krishna. C'era un re tirannico in entrambi casi. Entrambi nacquero in una mangiatoia. I genitori erano perseguitati in entrambi i casi. Entrambi furono salvati dagli angeli. In entrambi i casi tutti i bambini nati in quell'anno furono uccisi. L'infanzia è la stessa. E ancora alla fine entrambi furono uccisi. Krishna fu ucciso e portò con sé in cielo l'uomo che lo uccise. Cristo fu ucciso e benedì il ladrone e lo portò in cielo. Ci sono moltissime somiglianze tra il Nuovo Testamento e la Gita. Il pensiero umano percorre la stessa strada. Vi troverò la risposta nelle parole di Krishna stesso. Tutte le volte che la virtù diminuisce e prevale l'irreligione io vengo in terra. Vengo più e più volte. Perciò ogni volta che vedi una grande anima che lotta per elevare l'umanità sappi che io sono venuto e adora. Allo stesso tempo ci chiediamo. Se viene come Gesù o come Buddha perché c'è tanto scisma? I predicatori devono essere seguiti. Un Hindu devoto direbbe è Dio stesso che è divenuto Cristo e Krishna e Buddha e tutti questi grandi. Un filosofo Hindu direbbe queste sono grandi anime. Sono già libere e anche se libere rifiutano di accettare la loro liberazione mentre il mondo intero soffre. Vengono più e più volte prendono un'incarnazione umana e aiutano l'umanità. Sanno dalla loro infanzia chi sono e cosa sono venuti a fare. Non vengono a causa di un legame come noi. Vengono di loro spontanea volontà e non possono non avere un tremendo potere spirituale. Non possiamo resistere loro. La vasta massa dell'umanità è trascinata nel vortice della spiritualità e la vibrazione continua perché spinta da una di queste grandi anime. Così continua finché tutta l'umanità è liberata e il gioco di questo pianeta è finito. Gloria alle grandi anime le cui vite abbiamo studiato. Sono il Dio vivente del mondo. Sono le persone che dovremmo adorare. Se Egli viene da me io posso riconoscerlo solo se assume una forma umana. Egli è ovunque ma lo vediamo? Lo vediamo solo se assume i limiti dell'uomo. Se gli uomini e gli animali sono manifestazioni di Dio questi insegnanti dell'umanità sono leader, sono guru. Perciò salute a voi il cui sgabello su cui appoggiate i piedi è adorato dagli angeli. Salute a voi guide della razza umana. Salute a voi grandi insegnanti. Voi guide abbiate il nostro saluto per sempre e sempre.